Buongiorno, buongiorno, ciao, ma quanti siamo qua, buongiorno, sentite vero? Sì, sì, io ti sento, tu mi senti? Sì, sì, sì. Ok, lei mi sa che non... Ci sono delle mie corde vocali in questi... Ah, arco boia. Senti? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì? Sì. Io ho appena aperto gli occhi e sono ancora ubriaco da ieri sera, mi giro tutto. Ma mai? Ancora ha fame. Mangia? Anzi, adesso mangio anch'io. No, 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 no. No, 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 no No, no, che cazzo di muovo? Mazzo, uno di noi Uno di noi Come cazzo è possibile che io ho sentito il tuo buongiorno? Come cazzo è possibile? Io mi sono cagato addosso Io mi sono svegliato Cioè, mi sono aperto gli occhi adesso Buongiorno alla parista Eh, io ho sentito Buongiorno Ma sto sussurando Eh, ma io ero processo Spiegami come l'ho sentito Sì Ho sentito Buongiorno Non è che è una pagina sotto aperta Perché io ho aperto l'occhio No È impossibile, mazzo Che dici? Ho più senso Ah, no, 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 no Non ce l'ho Dai, l'ho sentito Mi sono cagato addosso Ma come è possibile che l'hai sentito, scusa? Non lo so Ma qua è tutto strano Vabbè Ma io non vorrei che si sentisse parlare Prova a parlare in gioco un attimo Stacco la chiamata? Ah, è vero, perché ti sento Eh, sì No, no, non ti sento mica Niente? No, no Vabbè Dove sei? Sono ora a vendere Ok, aspetta che finisci il giro Ti aspetta il galaxy Vai, vai Non sto capendo Ciao 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 Perché vi vede in verse? Sento Moshalve, moshalve Stai parlando tu? No Oddio, ma che cazzo sto vedendo Salve Salve, salve, salve a lei Ora mi ha la visione Sto vedendo tipo che tu parli con il corpo di Elena E il contrario Non lo so So solo che qualcuno di molto lontano mi ha sentito dire buongiorno Io ho aperto gli occhi adesso E lui è molto lontano Non so cosa stia succedendo Alla vendita c'è una moto Che al processo e alla raccolta non c'era Quella moto è per licenza verde Arrivo Lì che ieri hanno rubato Mi ne chiuderemo gli occhi Arrivo, arrivo Sì, non ti sento per niente Mi... Qualcuno ha una macchina? No Il problema di tocco voi Un po' L'applicativo Non subito, non subito Il problema di poter evocare Lui subito Sì 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 bravo bravo fermati aspetta 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 brutta merda ciao mi presti l'auto fermo la dai? no si si ho capito vado a piedi questa? ma figuriamoci mi lascia l'auto l'auto tox questo questo bene signora figuriamoci questo scappa subito figurati se scendo a svergare che palle che palle cazzo guardi hello beach pur c'è un bel lotto in mano eee shipa shit don't parla parla par par a pa paraparaparapam papara para para papa papa la rapa No, no la vera. 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 No la vera. No, no la vera. No, no la vera. No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no la vera. 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 No, no... No, no la vera. 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 Un codice è prosciutto cotto se c'è qualcosa. Va bene. PRASIUTTO COTTO! VIO VIO abbiamo anche documenti del meccicano. Cazzo fa i documenti?". Perché è confortunato. Quello con la camotta bianca e confortunato? Stiamo scherzando. Tu mi vuoi dire che quelli che mi hanno rapito a me ieri sono gli stessi di Fortunato? Mazzu? Mazzu? Mi ha chiamato Gianluca Ok Pronto L'agenzia Pronto? Pronto? No mi scusi Sì Ok sono dell'agenzia Stavo cercando l'agenzia Hai due ragazze che lavora Sono Pedro Sempre io sono Ah ok Tu sei dell'agenzia lì? No Io non sono dell'agenzia eh Pedro Ah chi è lei? Io sono del Galaxy Ah Allora sbagliate Eh sa anche a me Ciao 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 Cosa dice Gianluca? Eh non lo so non mi ha più risposto Oh Nel cespuglio Nel cespuglio Quasi finito Ok Te dove sei imboscato? Dove ero primo un po' più giù che vedo tutta la strada Ok Sì comunque quello lì è confortunato abbiamo anche il suo documento E mi butto giù Ok Ho capito che ti sto sul cazzo Ma non puoi buttare giù ogni due secondi Eh lo so Perché mi ha buttato giù da solo Ho finito comunque Ok Ando giù Poi Magari evita di andare a pulire Andiamo subito alla raccolta Che facciamo un altro giro Così se c'è la merda lo porto via Ok Poggio però la roba Nel camion Sì ma tu non hai la pistola? No Quale pistola? Non lo so Dove vai Dimmi dove vai a poggiare Io vengo lì Ok Ok Cigliano Mi pare strano Non ho finito i carichi Pedro Ah bisogna vedere se è lo stesso O Messicano Oì Gianluca è al Galaxy Confortunato La sorella di Elena Amica insomma Elena E ha detto Fa un giro più tardi Che si fa a noi Però più tardi No no Io vado ora No Anche perché dovevo beccare quello di ieri Quindi Magari Ecco Ai 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 Magari Avvertiamo Gianluca Di quello che stiamo facendo Che lo aggiorno Che si lo aggiorno Da solo Gianluca Da solo Gianluca Ah ok ok Dice Tu puoi chiamarlo Gianluca Miro Ok 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 Sì Con cosa vai te? Ho macchina Ciao Gianluca Ciao buongiorno Dimmi tutto Eh ma è inutile andare in due con i furgoni No no con i furgoni no 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 In due io raga non ci sto venendo a sto giro No no lo so me l'ha detto Io sto andando a fare i giri in macchina Sì sì sali sali Sto andando a fare i giri in macchina perché devo ribeccare quello con la canotta di ieri Ok digli a cosa se è andato in polizia a depositare a deporre le uova Perché la mia pistola non so se sai mazzo ieri è stato beccato con la mia pistola Di conseguenza io ho un'arma completamente illegale che in realtà ho lasciato a Maurizio mi sa Penso al buco di giro Insomma ci abbiamo una pistola da riprendere in polizia Tecnicamente E a chi è intestata la pistola? A me E devi andarla a riprendere allora Eh però mi hanno detto che non me la rilasciano fino a che non c'è Niente che mazzo non mi Cioè fino a che non finiscono le indagini ecco E niente Che carina sta cosa E poi ci devi dire cosa gli hai detto rinarente al Galaxy Agli Sbirri Eh niente Non ho detto niente Sono anche che lavoro lì Punto Ah basta Perché io non ero in città Sì sì ho detto che non ero in città E mazzo invece ha detto che stavano a una festa Che sono arrivati dei ladri e hanno provato tutti quanti a ferire i ladri Niente di più niente di meno E io il problema è sorce quando Se tu non sei in città Come cazzo è possibile che c'è la tua pistola? Perché mazzo Te lo dico io cosa ha fatto Ha preso tutte le pistole da terra Ed è andato in città Sì sì ho capito Vabbè Va bene va bene va bene Vado a cercare sto cazzo di canotto Ciao 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 Ma raga il problema è il telefono Ah bravo mi avevi già messo il punto Me l'ho accorto Sì Intendo di fare Occhio alla masca Hai fama set? Che c'è Ah no adesso No 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 C'è anzi sì Se mi dai qualcosa Ho fatto troppa roba addosso Merda roba dappertutto Anzi sì Anzi sì Allora Continua da rifarmi i messaggi della MidsBank Chi? La MidsBank Che cazzo è? Eh, è la mia banca Che cazzo è? Che cazzo è messaggi Sì 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 è finito è finito mi sa che devo far cambiare le gomme è finito è finito è finito è finito è finito è finito non possibile un attimo tu vuoi vendere poi facciamo il cambio ti do la pistola è finito è finito è finito è finito come si chiamava la barista come è finito è finito ciao ciao tequila mancano i hit drink un po' chiedi come si chiamano chiedi come si chiama chiuppoblu e come ti chiami? no non c'è vabbè vabbè è finito non c'è finito no 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 c'è finito faccio il giro dentro e ritorno sopra eh aspetta che mi chiamo la barista si possono fare centrocolle centrimonatil ho già visto perfetto allora fammela per favore si dopo te le faccio vado al pedale e te faccio subito ok dimmi appena son pronte ciao ok ciao 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 pronto non pronto ciao mortadellone no prosciutto cotto falso allarme ah e allora che cazzo me lo dice a fare eh mi dici mortadella eh mi assomiglio mortadellone eh io mi affendo vabbè ma io non capisco dove ti metti dove eri hai presente dove eri prima tu dove ci siamo visti con la moto si un po' più in basso dietro alla roccia grande scendi vieni qui dietro il il come cazzo si chiama il deposito con la pistola ti metti lì dietro e mi copri poi arrivano quattro persone da dietro e io non posso fare niente perché sono a piedi sono con una pistola e gli dico no guardati ma cosa sei fuori di testa ora che tu realizzi che devi alzare le mani io sono già lì con la macchina che li punto se invece c'ha invece se sono duecento inizi a correre perché ti vengo a prendere da qualche parte eh va bene dai scopriremo se funziona sì signor c'è 100 coca cole e 100 lemon soda li stanno preparando appena torna la mia barista dalla visita medica gli avviso e li passa a ritirare ma è chiuso la porta è chiusa si si è andata una visita medica per il bambino va bene ok va bene a dopo mazzo cazzo conviene dimmi 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 tequila dimmi sia se facciamo così tequila oh ora ti sento eh porco demonio porco demonio porco demonio dai mi metti a bollire l'acqua non passaggio che con czego mi mette inizia mi manca wwwkeno Porco demonio Dai che voglio sti cazzo di Rolex di cacca 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 Più cacca per tutta Sì anche tu c'hai un exemplar, batti le mani Vabbè Sono le licali le tue scartine, oh yeah, sono le licali le tue scartine, oh yeah È l'ultimo step Eh, boh Io so solo che dopo questo c'è Rolex Poi le carte di credito Poi le carte di credito Sono dopo i Rolex le carte di credito Sì Vai Oh la macchina Io non ho parole veramente, i neuroni della gente Mi devi portare via la macchina Te la porto via Te la porto via Portamela lì di sopra dove cazzo vuoi ma portamela via di qua No, eh, vabbè, io non ho parole Eh, ma ci dovevi guardare prima, mazzo Cazzo con me Eh, non sentivo, mi si è chiuso Eh Vabbè, sto là dietro Guardate a nascondere Eh, sto là dietro C'ho una cazzo di macchina lunga 6 metri Percheggiata davanti dove cazzo vendo la benza Ma ci si fa ad avere un gruppo così incoglionito Dai Dio mio, vado a giocare i Lego io, veramente Coglioni io che non guardo sia aperta Eh, ho capito quel vizio di chiudere L'ultima volta che non abbiamo chiuso un furgone Se ne sono andati con un pieno di benzina Non so Adesso smetterò di chiuderla E che due cazzo di palle enormi Poi devo smettermi di mettermi qui davanti Ci si può mettere dall'altra parte, lì dietro Due persone ci stanno Dobbiamo andare là, si vedono solo i piedi Sì Porco diavolo morto Ma dietro funziona? Che cosa? Sì sì E si vede nei piedi lì E vedi Di dove c'è il fermo davanti del Del rimorchio Dove ci sono i due piedini Cioè ti metti da lì in avanti Prende Prende due persone Non più di due Più che altro speriamo che te la ridiano Che non è detto non avendo video Io lo spero Perchè mi diviene da pensare Se ogni volta che uno sposta un item In un inventario gli da quel messaggio E sai quanti stupidelli ci proveranno Hola Mi senti? Ok Ok Passato ticket allo scripter Aspettate Eh sì, poi ti citano loro Chi Chi si occupa Chi si occupa di quelle cose Eh? No, eh non parlo in gioco Ho capito Yeah, yeah Comunque già è stato tanto disponibile Sono più della metà Quasi finito Ah, molto buono Ma quattro hai? Eh, ne ho pochi Quattro e venti mi sembra Perchè ho la maschera Le manette La maschera adesso l'ho messa nella macchina Vabbè ne avevo quattro e tanto Ma io non capisco Ma Gianluca gioca con noi o gioca con gli altri? Ma in teoria È con noi In pratica è con gli altri Ma bisogna sentire anche sto discorso Perché se vuoi giocare con gli altri Giochi con gli altri In più con gli altri che con noi È da ieri che con loro Vorrei dire ma E mi fai muro cazzo 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 Puoi venire giù eh Appena Ehm vengo Mi fai muro cazzo Mi metti i soldi più vicini che ci fermiamo a pulire sono la verga come? ah ok vuoi ricaricarla chi si no ero già carico ma io fosso ce le hai le manette? eh? hermano grazie cazzo è un fan di Ruggeri cazzo stai in cedo Enrico non ti seguo non ho capito come cazzo è possibile che con la live spenta faccio quasi 90 fps e con la live accesa faccio 59 62 fps buh la tua mamma mi spieghi come ho fatto a sentire no non lo so non lo so hai sentito anche te? no no io non ho sentito niente palermo 18 eh? eh eh ma vabbè oggi sta succedendo cose strane hai sentito palermo 18? adesso? questo è il messaggio che mi arriva dalla banca anche a me che cazzo vuol dire? che cazzo vuol dire? che ne so io ma ti è arrivato anche un dollaro? no forse no forse quello arriva solo a me non lo so mi vuoi depositare? ah ma non c'è sì c'è da questo tipo a vicino e se l'ho visto anche picconi si passa dalla miniera ok qui sì che si fanno i soldi eh non si scherzi io la vedo fumare eh non salire allora quanto? 290? no se li tiene allora sì decisamente la vedo fumare comunque ok ok l'importante è che non ti metti la guida tu ok 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 freddo dove vai? pulire giusto fai certe strade e sono strane una cosa quando siamo in pericolo e ci dicono che non so, ci rapiscono e ci dicono chiama i tuoi amici e falli venire con una pistola puntata noi dobbiamo dire prosciutto cotto che è un segnale di aiuto ok ma lo sanno già tutti? più o meno è stato accennato vai vai è che è un bel gioco è rotta non dovevi salire è rotta eh sì c'hai hit? no porca eh mo? no buongiorno buongiorno buco grazie del ride buco caro parca 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 guarda che dove mi si deve rompere la macchia oh avevo pensato di prenderlo lì per kit ma dopo se facciamo un altro giro di benza ho poche tasche disponibili nell'auto quindi eh sì che sfiga che sfiga ma probabilmente perché è salita prima lui lì all'angolo mi chiamola sì sì l'ha arrivando mano ok che brutto posto te l'ho detto prendi un kit eh ma dopo avrei troppe tasche impegnate nella macchina lascia chiamaci da qualche parte chiudi là grazie a tutti grazie a tutti mortadellone vieni da me qua dietro è buono no no è meglio qua che se arriva qualcuno mi possa dare anche i soldi proprio dietro la cabinozza del tipo tu si pazza vabbè se arriva qualcuno gli dico surprise mtf vabbè io so qua dietro ti avviso ciao 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 c'è qui il ragazzo dello shop gli stiamo dando 100 coca cole 100 limonate e 4 dark angel quanto dobbiamo fargli di fattura? 100 coca cole allora 100 coca cole 100 limonate e 5 dark angel quindi 200 per 200 40.000 40 mila per la roba analcolica e il dark angel 750 l'uno fai 60 mila 750 per 50 750 per 5 3750 quindi sono 4 mila e 43 mila e 750 perfetto sì è riparata? sì sì vai spostati 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 prova devi stare fermino però se no mi baggo tutto ok è chiusa via 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 galaxy vado un attimo nei miei pensieri ok ok positivi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti ridò i soldi del kit. Vieni, vieni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono nel negozietto. Non mi ricordo più quanto è il prezzo basso. Aspetta un attimo che devo cercare nei fogli. Allora fai 125 per 200. 25.000. E Darkanger? I Darkanger costano 750 di vendita normale quelli, come i mix costano 300. Ok, 750 a me. 750 a lui. Sì, 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 come azienda. Sì, 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 come azienda. Ah, ok, ok. Va bene. Quindi sono 25.000, più 3.750. 28.750. 28.750. Ok, fai la fattura, poi io metto sotto ai prezzi di vendita nell'email vostro, esatto, metto anche quelli dell'azienda. Cazzo, cazzo, mi sono sbagliato. Allora, Dexter. Sei con la fattura? Oh, grazie mille. Ok, mi hai fatto prendere... No, no, vabbè, ma nel caso succedono queste cose, no, perché non siamo, no, no, di solito mi occupo io dei cose. Comunque ci fosse qualcosa, qualsiasi volta mi fai contattare, non è un problema. Sì, vabbè, vabbè, ovvio. Ma testi faremi foto qua. Va bene, carichiamo, sì. Sì, vi do una mano anch'io. No, no, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Giusto Manu sta prendendo le Coca-Cola e poi andiamo a caricare. Benissimo. Allora, non ho fatto poter aprire... Andiamo, andiamo. Sì, grazie mille. A lei. Sì, giusto accento, allora andiamo in giro. Ai, ai, ai. Pa, 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 qua, apri. Ah, eccolo. Ehm, Gianluca? Ero Gianluca. Dov'è cacchio andato? E' andato, andato fuori. Ah, ok. Ok. Hai fatto tanto di Coca-Cola e 600 limonate. Ok, quando, quando finisce la roba, prima che finisca, quando ci sono ancora 200 e 200, mi, mi dici, mi conti quanti, se ne servono 700, 800 kit, me lo dici e io ti faccio l'ordine. Eh, mamma, a me l'hai detto da Luca prima, mi dici, non sapevo che non c'erano. Ah, ok, ok. Magari la sera quando si chiude, l'ultimo che chiude, gli dà un'occhiata, mi dice cosa manca, me lo scrive anche nell'applicativo dopo. Con calma faccio l'ordine. Intanto faccio l'ordine. Cinco. Cento. Un attimo solo che guardo due cose, eh. Cento. Duecento, trecento, quattrocento, cinquecento. Seicento. Cosa? Cosa bisogna fare adesso? Prima di tutto, mi cambio, perché vestito così mi sento rincoglionito, prima di tutto. Ma l'arte è questo, non è vero. Fammi, è bene? No. E biscotti pure? Sì, perché biscotti e bocci. Ah, è quello che è il tuo canzo, mi raffincio. Gocciole? No, le gocciole, quanto continuano. Mi raffincio pure inascondimento, buonissimi. Mi fate così che non mi sarei il mio voglio. Gocciole. Gocciole dentro al latte. Gocciole che si tuffano e fondano dentro al latte. Manu, fatti dire da desi cosa è successo a un ragazzo che ha detto bel culo. Fatti per ti dire cosa è successo. Non lo so. Non lo so. Che è successo? Ha ricevuto tre punti, in meno di un secondo. Ah, tu? No, io uno solo gli ho andato. Ah, mi chiamavi? Facevo così. What? 10, 100, 200, 200, questo va benissimo, qui vedo sempre pistole. Non lo so. Grazie. Mancano. Vodka, whisky. E' un po' di mozzarella filante con del gustoso Bustel. Racconta, l'impasto com'è fatto, è alto o basso? L'impasto non è alto, allora è basso, tranne il cornicione, il cornicione è più alto. Quando non sai cosa fare, se ti va, mettiti a fare le Coca-Cola, le lemon soda. Le vada a fare le Coca-Cola. Facciamo almeno 100 di ognuna Coca-Cola. Lei non c'è a fare il latte. Ah, ok. Ok, ok. Stai già facendo il latte. Sto bimbo caga il latte dalla Lola. Eh, pensa a lei quando fa pipì. Vabbè. Gianluca, vuoi una bella pizza con mozzarella filante? Fa culo. Cornicione ripieno di bocconcini freschi, di ricotta. Basta, non ho mangiato, sono fame, fame. Io pure non ho mangiato, cazzo, mi sono svegliato a luna e ho preso il caffè a luna. C'ho soldi per comprarmi il cibo. I miei soldi stanno finendo pian piano perché non vado mai a lavorare. Eh, adesso vado in miniera se volete venire. Aspetto che mi rispondo in tenda. Magari mi faccio quei 20.000 di merda. Sì, sì. Eh, io pure, io pure devo andare là. Eh, andiamo. Così poi mi fate una bella fattura da 300.000 e stiamo apposta. Eh, va bene. Sì, magari. Per passare 300.000, se ne vedete, è un milione e due, quindi abbiamo 900. Perché 300 sono di cazzo. Ah, vado a fare un attimo le mie cova-cole, eh. Vada, vada. Vadisca, vadisca. Non mi prendete per il culo, però, eh. Ah, no, vai, vai, fai lavorare. No, tranquillo. Vai, tac, 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 tac. Ah, eh. Ti voglio bene. No, io. No, stai bene, no, sei brutteto. Eh. No, ancora. Ancora, quanto, quanti biscotti sta prendendo? No, la cosa che ha fatto è che appena parlo esci, muove la bocca a lei. Cos'è sta storia? Perché lei non deve mettere della smissione continua. Se ti interessa, io prima ho detto buongiorno a tutti, quando ho operato gli occhi qua dentro, e Mazzu, che era la miniera, mi ha sentito dire buongiorno. Ah, io so, io so perché, perché l'ho vista, stavi nell'applicativo? No, 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 niente. Avevo tutto, avevo appena aperto gli occhi. Ragazzi, ma come si sta sto prendendo la bocca? Perché, perché? Perché bisogna andare nelle impostazioni delle corde vocali. E mettere push to talk, che è la trasmissione continua, perché sicuramente lei ha la trasmissione continua, e automaticamente c'è una soglia da superare, di decibel, appena supera quella soglia, lei parla. In conseguenza, se tu parli, lei si alza i decibel e parla anche lei. Devi andare nelle impostazioni e fare attiva push to talk, o cose del genere. Cioè, è così. E poi, lei ce l'ho, e lei che... Lei non ce l'ha. Come sei sexy mentre spieghi, hermano. Eh? Non so, io... Che ne dici se viene a lavorare qua la ragazza con i capelli bianchi? Devi sentire con Enrico. Io pago io lo stipendio. Devi sentire con Enrico. Che cosa devi sentire con lui? Parlo prima con lei, però. Poi parlo con Enrico. Cazzo, non so cosa vuole fare. Eh, è la stessa, no? Perché senza la stessa? È sempre lei? È sempre lei la ragazza, la stessa dall'altra volta che doveva fare la scelta? No. Ah, andiamo un attimo, allora. Perché a me sembrano tutte uguali. Sempre le tette in culo hanno... Lei è la sorella di... Formato standard. La vera sorella di Elena. Ah, ma è spiegata l'altra. Eh, io non... No, non è Nicla, è un'altra. Vabbè. Ascolta, ma cos'è morta da... Sì, dai, non ti fa venire la verga gonfia. Ascoltami. Ma... E... La... La parola quindi è prosciutto cotto? La parola è Antonio. No, ragazzi, bisogna che mi mettete d'accordo. La parola è sempre stata Antonio. Che tu in un discorso serio non fai, non dici prosciutto cotto, che cazzo... Cioè, ti sgamano subito. Invece se dici Antonio, quando parli al telefono, ciao Antonio. Capito? Dillo a mazzo, dillo a tutti, fai una chiamata di tutti quelli che... Porco schifo, però, 30 volte l'abbiamo detto. Che cazzo, ma in un discorso... Ti stanno rapinando, cosa dici? Ciao, ciao, prosciutto cotto. No, no, mentre ti chiamo ti direi... Ma perché se io ti sto chiamando tu mi rispondi prosciutto cotto? Ma non ci casca nessuno, non ci casca nessuno. Fiditi che non ci casca nessuno. Mentre se tu dici Antonio, è più generico, è più... È un nome, capito? È un po' più... La sai la storia di Enrico? No. Stava mettendo la verga nella mia macchina, io la stavo mettendo via, non sapevo che lui la stava mettendo. Io avevo una maschera dentro, quindi lui non poteva mettere la sua arma. Avete fatto... Io ho fatto... Ho mandato via la macchina, la pistola è sperita. Ha fatto lo screen che diceva in basso-sinistro, hai messo il veicolo, hai messo l'arma nell'inventario, bla bla bla, adesso c'è un tic-toc a petto. Perché ci sono due armi qua dentro? Non lo so. Io la mia ce l'ho addosso. Io non la metto più. 89 colpi era quella che avevo io illegale, che però ho dato a Maurizio Costanza, non vorrei che lui l'abbia appoggiata lì dentro, perché è illegale. Capito? Mi rifiuto di pensarla così. Eh, vuoi che la tengo io, quella di 89 colpi? Toggi sono tutti i giorni. Mentre mettiamola in un veicolo. Ah no, la tengo io, la tengo io, così sto pure più tranquillo. Cosa vuol dire stare più tranquillo? Perché veramente se ne fa più stare anche lui. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire così sto più tranquillo? Perché sei senza pistola? Perché la mia... C'è la polizia. Perché il mazzo ieri si è fatto beccare con la mia pistola. Quindi, essendo io che non sono mai morto, la pistola che avevo non era mia. Non so come cazzo è possibile questo scambio. Te lo giuro, sono rimasto male. Di conseguenza questa non so di chi è. Sì, ma bisogna che troviamo un modo di avere delle armi a meno prezzo. Che costano veramente tanto. O andiamo a parlare con quelli dell'arma. Lo sai, è uscito il nuovo decreto. C'è il porto d'armi di livello 2 e ci sono le mitragliette, vero? Ho sentito qualcosa, ma non ero sicuro. Vengono 600.000 e il porto d'armi va fatto. Prima il poligono, poi di nuovo in polizia. E un'arma quanto costa? 600.000. Ok. Se è uscito il nuovo porto d'armi con le mitragliette. Ma è minchia, benissimo! Magari quando lo vogliamo tutti, ci muliamo i soldi. Eh, però io prima vorrei far rossare i Rolex, per forza. Sì, sì, no, ma la priorità è quella adesso. Ok. No, ma abbiamo già detto la data, bisogna farlo. Eh, l'avevano detto in questa settimana. Eh, bravissimo, perché io... Mancano 10.000 a me, perché ho dato 50.000 ieri a Mazzo, per rifarsi con i soldi della polizia. Sì, sì, va bene. Eh, ma l'abbiamo chiesto anch'io se serviva qualcosa per dare al ragazzo che era uscito. No, abbiamo dato 50.000, 50.000, abbiamo fatto 100.000 e dovrebbe essere a posto. Eh, vi ridiamo 25.000 a testa, allora. No, no, non c'è bisogno, tranquillo. Sì, però dividiamo quando succede qualcosa. Io adesso ho 293.000, appena faccio i 10.000 mi fa la fattura da 300.000 e stiamo a posto. Sì, quando hai almeno 100.000 o 50.000 o 100.000 in più, perché è inutile che rimani a zero. A me basta andare alla miniera e resta a posto, per me con 10.000 a campo, insomma. Io ho 30.000, a me mancano 270.000. Aspetta, fammi prendere la fattura, che sicuramente ho le fatture. No, bisogna che lavori, però bisogna che lavoriamo, raga. Capito, ma come cazzo lavoro? Oh mio Dio, quante ce n'ho? Perché? Una, due, tre, quattro, cinque. Sei fatture nel 2005, cioè. Tu vuoi sapere di quante fatture ho? Di fatture? Mi sentite? Sì, sì. Raga? Chiare che ho prosciugato il conto. Di fatture vuoi sapere quante ne ho? 1.000, 1.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.500, 3.000, 2.500, 3.000, 3.000, 3.000, 2.500, 2.000, 3.000, 3.000, 2.000, 2.500, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Ti possono strappare il passaporto Eh Come cazzo faccio a lavorare se non c'ho soldi Cioè se non Quindi ti girano sempre Cosa? Purtroppo girano sempre Ai punti Ma che cazzo te ne frega Se ti rubano tutto cosa ti rubano 20.000 quello che hai fatto Cazzo te ne frega Te te ne fai un altro appena hai finito Lavora, lavora Cioè fregatene Tanto se ti portano via che cazzo te ne frega Chiacchieri Ti fai un po' di chiacchere Cazzo te ne fregherò Sai quante volte Ti do tutti i soldi non c'è problema Mi lasci in vita Eh esatto Io a Ram sai quante volte Io sparevo più dei viaggi che facevo Eh io veramente ce l'ho messo malissimo Con le cose qua Come si chiama? Con le fatture Perché Mi sono arrivate delle fatture da Da gente a cazzo Le prime fatture erano dell'ambulanza Che mi arrivavano a cazzo di cane Poi i tassisti che mi chiedevano 1.500 di fattura Quando in realtà Non avevo manco preso il taxi E voglio aprire il ticket Non avevo il ticket Ma nessuno se ne fotte Mo' devo soltanto pagare Io sono Io ho aperto un tic-toc Perché Venivo 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 curato Da Dai medici E In realtà Non venivo curato Rimanevo lì E ho fatto Ho aperto Una segnalazione Me l'hanno risolta Dopo due settimane Mi hanno levato Tutte le fatture vecchie Quindi magari Non è una cosa Cioè Con tutto quello che ando a fare Non è che riescono a farlo subito Però Prima o poi lo fanno Se vuoi aprirlo Hai delle prove Eccetera 3000 Ragazzi Il ticket Non è salvo? Sì sì Io li penso Lei è Lei è Così Lei è Questo è Dove andare un pochino a lavorare ora andiamo ma dove? andiamo in miniera aspetta fammi finire di rollare che voglio posso anche rollarmi una sigaretta grazie 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 ma perché non mi fanno le cose io l'ho lasciata la pistola comunque capito? si è lasciata sinceramente se ci pigliano mi va manco va bene la vado a lasciare anch'io allora però io stavo cercando andiamo con la mia macchina e lasciala con no non la lascio che con una verga sopra tutti pipa al culo portiamo in un garage al massimo vabbè allora portamocela presto no una sola no una sola no o due o niente cazzo facciamo con una sola vado al garage se tu l'hai già lasciata la vado a facciare qua eh ma io sto qua vabbè la mia macchina sta qui però eh ma vogliamo fare due macchine? no dico valla a posare giù dentro la cassa del galaxy e poi portiamo no no non la lascio qui nel galaxy c'è troppa gente che ci va dentro aspetta però lasciate perché ci sono un bel po' di pistole dentro la cassa eh lo so però io non gliela lascio vabbè e tu c'è un altro auto? finché eravamo tutti noi si si ok hai un gps in più? eh te lo dico appena arriviamo eh mh ah già a questo punto posso lasciare anche questo ma c'è asso se ti preguesta a questo punto 22 puntino io non ho neanche un coltello ecco io ok facciamo come ieri mi sono fatto rubare un camion perché uno aveva un coltello io ero disarmato adesso lo vado a comprare compro anche per te grazie eh niente non voglio lasciarci la roba per un coltello si ma smetti di suicidarti no vabbè non è perché dimmi quanto costa ah beh guardo io ci sta manco eh c'è manco un coltello qua un'ascia solo oh oh scusate cazzo scusami ok scusami ok scusami ok grazie non lo torna com'è cattiva st'ascia gps non ne hai eh mmm no vabbè ma lo possiamo porti guida un po' così io leggo di qua non c'è gps però eh dove andare eh ah merda ti do il gps aspetta ok ah grazie niente ciao signor Pino ma sei andato a lavorare entro al volo che ho a definire un mule non andiamo a vendere però aspetta che andiamo a vendere poi siamo tutti disarmati ti conviene aspettare che andiamo tutti quei camion cioè per star più tranquilli ehm certo che voglio consentire ma perché mi dice non so perché ma mi blocca i messaggi alcuni tipi di messaggi arrivo eh vado un attimo nel pensiero vai vai ma dove cazzo vai a miniera ma vai la raccolta della benzina hai detto alla miniera ma secondo te davanti alla barista ti dico andiamo in miniera che cazzo andiamo in miniera a fare che abbiamo in punta andiamo andiamo i picconi picconati la fava patacca che non ho neanche preso i picconi io dietro sei proprio un fagiano sei eh 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 ma porca puttana vuoi andare a fare la raccolta di ma ormai butta lì dentro questo vuoi che ti dico ormai sei qui ma tu non ti fai non ti spieghi ma per forza ti potrò dire vado a far benzina ho capito ma porca troia ma che cazzo come fai a dire tu mi guardi ok ok rimango in macchina perché mi rifiuto di scendere ci vediamo alla raccolta no 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 sto qua ha spaccato tutto il mare che è meglio oddio sono i miei pensieri Harry si mi c'è 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 il 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 ed che il no c'è il Grazie. Grazie. Che cazzo stai facendo? Perché in ospedale? Perché in ospedale? C'ho un braccio rotto e sto sanguinando. Vabbè, arrivi fuori. Giallo? Tutte le fatture che avevo? 60.000 e passa, più o meno. Infatti il mozzo è rimasto con 7.000 dollari perché sono andato a prendere le pepite. Ci ho fatto 23.000, aggiunti a quei 30.000 ho fatto 60.000 più o meno. E l'ho pagato tutte quante. E ora ho 7.000. Siamo andando alla benzina. Sicuramente c'è qualche coglione che rompe le coglioni. Sì. Va buono. Cacciamo. 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 No, no, no. Fermi. Sì. Prova a scendere tu. Non lo so, prova a scendere tu, magari. Oh! Fammi guidare, va. Non capita mai a me, eh. Stavolta è capitato soltanto. Mi fai paura. Altrimenti non arrivi neanche in ospedale. Mi serve il navigatore, però. Eh sì, in ospedale dietro. In ospedale dietro. In ospedale dietro. Da questo. Da sola ha fatto, eh. Non l'ho sfiorato. Non fai. Comunque ho pagato tutte le fatture che avevo, eh. Erano 60.000 e passa. Chiudiamo la macchina. Scialva, bella patatona. Ok. Altri 2.500 di fattura. C'ho 5.000 dollari. Cosa ha fatto? Dov'è Camale? Mi dica. Stiamo guidando la macchina. Mi sono caduto dalla macchina. Mi sono lanciato via. Ah. Meglio adesso. Sto meglio? Un uguale un altro. No, no. Sto meglio. Sto meglio. Ah, perfetto. Posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai per uno scivolone. Facciamo scena. Su. Quasi finito, eh. Ti senti meglio? Un pochino si, manca pochissimo. Bene. Oh, comunque, madonna, mi credi da 60.000 sono rimasto a 5.000. Hai 5.000? Ho pagato tutte le fatture che avevo, erano 60.000 e passa. Dobbiamo solo di più. Signoramente. Mi dai il tuo ID, eh? 83. Eh? Ti posso... Cosa? Che devi fa? Andiamo? E' arrivato? Sì perché? Ah ma che mi stai mandando un dolore? Oh Perché 50.000 l'hai dato? Eh così non sei più a secco Metti caso ti serve qualcosa Eh madonna Eh non te ne do di più Perché non sono messo bene neanche io Mi ha fatto male questo Ma che cazzo mi hai dato a fa? Ho capito ma per 4 ore 50.000 che cacchio mi hai dato a fa? Mi hai detto che hai Quanto hai detto? 10.000 5.000 ma me la facevo con la benzina Ora almeno stai un po' più sereno Vabbò grazie Vabbè in effetti con le fatture Stavo messo un pochino male Eh ma basta solo per due volte slap il motore Sei Fuori Sei già nella cacca Sì come fai? Eh Fai questa qua l'ho pagata? Sì appoggio più fatture Grazie La fobia delle fatture E di cosa? Però smetti di spaccare tutto Eh Ah tu hai risolto? Ce l'hai il navigatore? No non ci sta un negozio Andiamo Andiamo Ah mi pare di sì Non ci sta un cacchio Davanti Destra Sì Può sempre avanti Dovebbe starci il negozio del transatlantico Ma sempre avanti Sì l'ho visto Sì l'ho visto Left Sì l'ho visto Right Right Minchia Ok Ok Vede Niente Fa che rinnovo tutto Eh io c'ho il vizio di chiudere sempre Devo smetterla perché poi succede Pure le porte chiudi sempre Tutto Anche le porte del locale Delle volte che mi sbaglio le chiudo Tocca tornare indietro Ma una cosa Ma noi per esempio dentro al galaxy Non possiamo fare pure altre bevande No E vedi la lista che hai quando crafti Quando lavori Soltanto quella Eh lo so sì Soltanto quella Sì sì Tipo sprite non le possiamo fare Porfetto non le possiamo Vabbè porfetto ci sta in delle burger Ci sta Però almeno qualcosa Io quello che vorrei arrivare a fare È avere i picconi a 200 da un negozietto Capito Se ci porta tipo un carico di picconi Ma ci stanno E io li voglio come li pagano loro Mh Asconde qua Adesso vediamo se si può fare No Alve Tu tranquillo Allora sembra la lab Viene Arrivo subito Voi avete fatto già un giro Sì prima era tranquillo Adesso non saprei Ok Non è male che prima era tranquillo Sì sì Prima non c'era nessuno Allora sembra Allora sembra Allora sembra Ma voi siete mai stati rapinati? Può essere, perché mi vuole rapinare No, no, sia tranquillo Ok, ok Non c'è quella problematica lì No, perché girano voci che qua rapinano molto spesso Eh, purtroppo la gente Invece di andare a guadagnarsi la pagnotta Se la ciulla dagli altri Contenti loro Ci vuole fare Eh, davvero È importante cercare di non far troppo i coglioncelli su queste tone qua di lavoro Perché fa un po' ridere sputare nel piatto dove si mangia Ah, quello è scuro Oltretutto dopo si attirano anche attenzioni che non vorremmo entrambi Ah, verissimo Finché gli sbirri non ci girano va sempre tutto bene Eh sì, mica come le magliette, porca Eh, lo so Troppo, è un bel casino Sì, quello è un bel bel casino Arrivederci, ci vedremo poi A dopo un buon lavoro Allora, questo qui Ha la barba Quello che Il gruppetto di merda di ieri Che c'era quel cazzo di Messicano del cazzo Con la canotta bianca Uno di loro aveva sempre quella barbetta Adesso non è che mi posso incazzare con qualsiasi persona che aveva la barba bianca Allora, il signore che appena andato via Aveva la barba uguale a uno di quelli del gruppetto di ieri Però io adesso non è che mi posso incazzare con ogni persona che ha la barbetta Esco matto No, poi non pensi sennò vestiti così Ma poi prima è venuto No, no, non erano È venuto coso, come si chiama? Fortunato al Galaxy Sì, ma non erano loro Dici che erano loro gli stessi che ha rapito me ieri C'era un cazzo di messicano con la canotta Non te lo so, dici, era bandana Lo chiamo una bandana, lo chiamo Fammi riguardare la foto di ieri nell'applicativo Sì, ma anche se ce l'ho aperto Sì, qua Io ho fatto, tu quale Quasi è finito Ma li vuoi mettere dentro la macchina? Dentro la macchina Non c'ho mica posto io dentro la macchina Faccio altre due tasche se riesco Ho mangiato tutta l'acqua e il cibo qua Via Sì, qua un'emota Sì, qua un'emota Non aveva finito Non aveva finito, scusa Non aveva finito, scusa Non aveva finito, scusa Qua ci dobbiamo stare attenti Qua romperò molto i coglioni Manca la vendita, la vendita è quella più rottura Molti fanno processi Il problema è che stanno girando pure i sicari nei punti Io sinceramente non dovrei farmi vedere dai sicari Capito qual'è fatto? Per quella storia del numero Ma è ancora la vecchia sim tu dietro? Quella con cui ho scritto sim Mi sa che la dovrei cancellare Dovresti Ma fallo perché se ti beccano e te la chiedono Non gliela devi dare Io ti dico per regola Sì, 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 lo so Ma lo so benissimo Dove ti metti la macchina? Dal container Qua dietro? Ok Qui c'è il problema Meglio lasciala là dove ce l'ho Ce l'ho anche io là Basta che ti sei Segnato tutto Capisci Allora sì, ciao ciao E eccoci qua a far dalla fatica Eh davvero Carine quelle scarpe Ma sono borchie vere? Sì, sì, vere, vere Porca Un calcio di quello E perfori tutti Faccio dei buchi Fortissimi eh Anche tu Molto con i led sotto Veramente so fighe le scarpe Eh sì, sì Si vedono Mentre corri Eh quello sì Quello si vede lontanissimo Quando corro Però diciamo che Mi piaceva l'abbinamento Ho detto vabbè Rettiamo via Però anche lo zainetto dietro Eh ma ce n'era un altro Non mi ricordo più dove trovarlo L'ho cercato in tutti gli scappali In tutti i negozi Ce n'era uno Con una bella scritta code Non l'ho trovato Ma ci sta eh Non c'è uno sbaglio Sì sì SC c'è ma non mi ricordavo dove Ho smesso di cercare Ci sono tre scaffali con i borsoni Ma molto probabilmente Era lo stesso scaffale di questo Solo che mi sono scocciato A guardarli tutti Che erano un po' tanti E ecco basta Prendo questo e boom Rieunione alle 15 Bene Tra mezz'ora ci sta una riunione Dove? Tra mezz'ora sull'applicativo C'è una riunione Ah ok proprio città Ce la faremo a finire Prima di mezz'ora? Ma sì Spero di sì Speriamo Cioè dipende Tu c'hai auto piene No io sono Solo con il mio borsone qua Eh allora ce la facciamo Un pochino dentro le tasche Un po' dentro la felpa Nel cappuccio Pantalone Eh fa bene Poi la tasca quella lì Quella centrale Quella ne tiene Sì 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 Chissà di cosa ci vorranno parlare Ma sinceramente Boh Cioè immagino Altre Non lo so Altre minchiate Eh vedremo Le solite cose Ah ma già forse Forse è già passato Forse questo è il secondo mese Da oggi Sì se non sbaglio Eh da oggi in teoria Oggi che giorno È il 18 oggi Sì Eh allora sì Il secondo mese è preciso Allora abbiamo scoperto che cos'è Allora Cos'è? Eh ci vediamo Eh non so se si ricorda Anche il 18 del mese scorso Eh non mi ricordo Perché non ho partecipato a tutto Eh c'era stata una cosa simile Per avere pareri Ah ok ok Generali Vabbè Ci vediamo Ci vediamo Alla vendita A dopo Sì ciao ciao Eh non è proprio antipatico È simpatico Sì Ti va a chiamarmi a favore Come? Guarda un attimo a chiamarmi Io c'ho tre profili tuoi Guarda che non mi stai chiamando Mi stai chiamando il numero vecchio Mi sa E io sono quello tuo Aspetta Messaggio? No no Dimmelo Ti arriva il messaggio? Ah aspetta Sì No Ok allora questo lo cancello Che non è tuo Ok allora tequila marrone non sei tu Ok ti diamo tequila blu Arrivato? Arrivato? No Manco tu Questo dovrebbe essere il tuo Allora Ecco vedi un po' Stai arrivato? Sì Questo è il nome Ah non ce l'ho Ah non ce l'ho Vabbè Andiamo un attimo Aspetta No niente Allora andiamo Allora andiamo Mette il punto Allora andiamo Allora andiamo Guillermo Allora andiamo Allora andiamo Grazie. Grazie. 212, eh? 212? Sì. Cosa? Questo è 204, 202. Ma cosa? La macchina. Cosa? Ah. Mi stai chiamando? No, non ti sto chiamando. Non ti sto chiamando. Pronto? Sono loro, sono loro, sono loro. E questa è la macchina. Questa è la macchina di quella che mi ha derubato. Chiamaci a Luca. 3. Oh, quelli lì che mi hanno derubato ieri, solo che non abbiamo la verga dietro. Ok, sto arrivando Alla vendita, è sempre qua Quanti sono? Mi sembra solo lui, è solo uno Ok, sta arrivando, ciao ciao Chiamaggio a Luca Già chiamato, sta arrivando Andiamo, andiamo Va buono Grazie Vieni, vieni Andiamo a vendere noi Andiamo a vendere Andiamo a vendere Io ho preso anche le manette Andiamo a vendere A vendere? A che dobbiamo fare con questo? Ah, intanto arrivo a Gianluca Ok Ma vedi che questo c'è la pistola di fatto tutto? No, lasci stare A posto, risulta Sì, sì Eh, vedi tu Non è un problema Bene, ok, ciao ciao Che spat Oddio Eh, allora lascia stare Eh, vabbè Eh, vabbè Stai tranquillo Non è un problema adesso Ok Sì, mi porti Mi prendi Mi porti Sì, c'è c'è Perché non riesco io? Eh, di qua è stretto Ah, porca vacca Dora, io pensavo fosse a posto No, non riesco Qua, vieni qua dove sto io No, ma io l'ho sempre fatto qua Vieni qua dove sto io Se riesci Sì, c'è 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 c' Vai dietro, vai dietro Caffa me ne frega di Fortunato Dobbiamo prendere un tipo, ti metti a chiamare Fortunato E lui ha chiamato me, fraccia, anche lui Sei tu in moto? No, non sono io in moto Ok, è assieme a altri due Mi butto giù, ragazzi È assieme a altri due È dalle nostre macchine, è là dietro dove parcheggiamo Ok, ok, ok È con una moto e una macchina verde, Audi È assieme a degli altri È assieme a degli altri È assieme a degli altri Chiude il telefono, Fran, mi chiude il telefono con mano È lui che mi sta chiamando Che devo fare? È lui che ci chiude la chiamata Stiamo arrivando, io frat sono da solo con la pistola Non c'è nessun altro Noi stiamo facendo finta di vendere Comunque sono due moto e lui da solo con la macchina Sono sempre quei tre di ieri Non è che ci hanno tutte e tre la pistola Capisci che stiamo con uno? Ieri avevano un coltello Adesso arriviamo tutti assieme, siamo in cinque Ok, 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 ok Voi avete armi? Noi siamo in due No, abbiamo solo le cette E le manette Ok, perfetto, perfetto Io manco le manette, c'ho Sto arrivando con Mazzo, eh Mazzo non c'è una pistola, però Ciao, ciao Ciao Sono arrivato qua Dietro i furgoni, eh Mi senti? Li sento girare qui sopra con la moto, eh Allora Ecco il demonio perché non abbiamo le armi Dimmi Siamo alla vendita e ci sono i tre di ieri Cioè, ma non sei con Gianluca? Non sei con Gianluca? Gianluca è andato in superstrada, io sono ora alla vendita Eh, ho capito, però se non ci sappiamo organizzare Cioè deve venire con noi, non con altri che neanche conosciamo Dai Dio buono Chiamalo e organizzatevi, dai Sì Adesso basta, adesso inizio a dire io le cose Perché hanno un'organizzazione pari allo zero, veramente Pari allo zero Andate la dietro, andate la dietro, siamo arrivati Siamo alla vendita, eh, arriviamo No, no, vai dietro Sento una moto arrivare Sono io, sono io, sono io, mazzo Andiamo, andiamo, fermati, andiamo, 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 andiamo Andiamo Ma la macchina sta ancora qua dietro? No No, ho visto andare via una macchina o una moto La macchina se non mi sbaglio era un po' verde Eh, quella di ieri, abbiamo la targa adesso Io devo vendere Non ho ancora venduto niente Tu sei riuscito a vendere E mi hai chiamato Vedete la maschera, raga No, non abbiamo maschere né pistole Andate a vendere Io, mannaggia, mi mancava uno sputo Mi ha chiamato e l'ho dovuto cancellare Eh, vedi, se avevano l'arma Io l'avevo già manettato, l'avevo già portato via Qui abbiamo sempre le armi nei furgoni Porco, demonio Comunque, lui è un'altra moto nera Non so se è una Kawasaki Sono sempre quei tre di ieri Sì, sì, sono loro Mi mancava uno sputo Mi mancava uno sputo Mannaggia il cazzo Eh, lo so, ma io pensavo che loro li avessero lì Hai capito? Eh, lo so, ma io l'avevo capito Si fossero, cioè, si fossero allontanati Però, porca troia Perché quello l'ha portato di là con la moto Sull'altra macchina, porca troia Che nervi, Gesù Cristo A meno che noi li troviamo a qualche punto di pulizia Sì, ma non è possibile che noi siamo sempre così lenti Eh no, siamo sempre così lenti Giustamente, senza pistole, senza armi Che cazzo Ho capito, ma gli altri partivano, venivano in qua Gli altri partivano venivano in qua Eh Eh, eh Di cosa parliamo? Ho capito, però A meno che noi andiamo nei punti di pulizia Qua dei soldi Non li possiamo mai trovare No, qui andava preso adesso Lì in due Uno lo puntava e l'altro lo manettava Ho pure a telefono con l'amico, quindi Non frega un cazzo Se gli metto le manette Gli tolgo tutto Gli chiudo tutto Eh sì, però l'amico se ne accorge Ah certo, ma ora che lui se ne accorge Noi l'abbiamo sopportato via Forse Forse Che cazzo di cetta che non si può bucare la ruota Col coltello, sì, ma cos'è? Allucinante Col coltello manco posso bucare la ruota Non so come si buca Provo da bucarla un sacco di volte Non me la faccio bucare Non so come si buca Non so come si buca Dimmi Giallo, ma oggi giriamo sti cazzo di punti Facciamo i giri con le macchine Due macchine Facciamo e vediamo Becchiamo Eh, per me tutto voglio Voglio vedere chi ha la pistola E chi non ha la pistola Perché Poi andiamo Cioè cerchiamo sti punti E andiamo a prendere sta merda Ma ti sembra che non possiamo andare nei nostri punti Che due rincoglioniti Ci mettere il bastone tra le ruote ogni giorno Ma andiamo a far pulizia Va bene Abbiamo quasi venduto tutto Mi dispiace che ho fatto fermare lui Adesso gli darò una parte di soldi No, no, no Perché pensavo fossero lì Capito? Porca troia Hai fatto benissimo Bravo Va bene, dai A dopo A dopo Tra l'altro è anche loro Chissà dove cazzo erano Non è che potrebbero essere lì Porca troia Oh, techina Techila Di me Scusami un attimo Comunque è hermano qua che è meglio Cosa? Hermano qua è meglio Dimmi Ok Ma Elena Sì Conosce quelle lì del Baby Vue Sì, lei lavorava per loro Ah, lavorava? Sì, sì Poi si è trovata male Non prendeva una ceppa La trattavano un po' così di cacca E voleva cambiare E noi gli abbiamo detto Guarda, se vuoi venire C'è nessun problema Oltretutto il Baby Vue chiudeva Mi sa Quei giorni lì Perché avevo trovato una foto con Talia Le tre ragazze Le due sorelle e lei Sì, sì, sì No, no, lo sappiamo Lo sappiamo Quindi è vecchia sta foto? È di prima che lavorasse con noi Sì, sì È quella nei cuoricini, no? Sì, sì, sì Cosa ho visto? Concessionari elicotteri? Hanno fatto Una foto con Elena e Fortunato Che vengono puntati in ginocchio Cazzo ho visto Finito? Poi al massimo ti ridò quello che hai perso Che hai perso cosa? Ah, che ti ho fatto staccare per andare su Ehi, non rompere Ma ho fatto pure io Ok Ho perso nulla Ho perso tanto il tempo, capito? Ah Pensavo ti avessi mangiato qualcosa No, no, no Sei irriconoscibile così, no? Ah, mi hai fatto cacare addosso Sono? Irriconoscibile, sì Eh, meglio Dove vuoi andare a organizzarci? Dove andiamo? Eh, Gianluca dove vuoi? Galaxy Vai, vai, va bene Ok I soldi non li poniamo? No, no Perché non li poniamo i soldi? No, Gianlu, Gianlu Ma passiamo da questo di sopra Puliamo tutto lì Ma almeno glieli faccio pulire E anche senza soldi lui Ok Ok, 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 allora sì Grazie No, niente Mi ero dimenticato che tu stavi proprio secco Eh, mi serve il navigatore però A te? Sì Ah, dov'è che l'ho messo? Non facciamo commenti Non facciamo commenti Vai sempre avanti Vai sempre avanti 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 Ok, va No, no, ce l'ho, ce l'ho Poi vai a sinistra e qua a destra Il navigatore potrebbe stare qua, no? E ho più avanti Al negoziato più avanti No, no, voglio Ce l'ho, l'ho preso Era nel baule Ah, dico pure per me che non ce l'ho Ah, ok Quindi puliamo i soldi E poi gli altri dove li mettiamo? Questa un attimo Si trova di subito Devo anche bere Sennò Svengo Vieni da me, vieni da me, vieni da me Ce l'ho io, però Ok Il barista la sport Porca troia, c'ho 14 guagole, c'ho Beh, eri al Galaxy qua l'ho chiamato? Sì Ah, so, so Grazie Hai anche il panino? No, quello no Ah, se vuoi pensavo avessi detto che... Ah, ok Vai, vai Vai sempre avanti, vai sempre avanti Sinistra Aspetta Aspetta, Gianluca Che cazzo si puliscono questi soldi di merda? Ah Si puliscono più avanti Prendiamo tutti Facciamo prima Prendete i picconi Sì, ma raga Sì, ma raga Devi togliere il GPS Ma andate a pulire lo sceriffato, no? Sì, sì Passa anche della mia Ah, lo sceriffato Sì, sono dove li fa Come? Dobbiamo andare a pulire i soldi Sì, sì Sopra lo sceriffato Allo sceriffato? Andiamo a questo qua sopra Siamo qua davanti, raga Eh, allora andiamo a questo Andiamo a questo Ascoltatemi Andiamo a questo qua sopra Poi andiamo a prendere la cosa Poi andiamo a lo sceriffato E poi torniamo Va bene? Andiamo, dai Lui da dietro Poi andiamo a prendere questi stronti, eh Facciamo i giri di tutt'oggi, eh Su e giù dei punti Facciamo due macchine Se tu hai la macchina Galaxy Prendiamo tu Sono loro, sono loro, sono loro Quella macchina lì Non me la posso dimenticare La coincidenza, la barbetta Dai Poi arriva la moto Io ho visto la moto con due di loro Torna tutto Ieri il tipo aveva la moto Gli altri erano con la macchina Quello con la moto è salito con me Mettendomi nel camion E poi sono arrivati quelli con la macchina Quindi torna tutto Sono in tre Ma si fa vedere sempre uno solo Siccome ieri l'ho riconosciuto Cioè L'ho riconosciuto del giro prima E glielo ho anche detto Guarda che Siete uguali agli stessi Che siete venuti prima A vendere assieme a me Perché è andato dritto? Prima di qua? Ok Che cazzo ho fatto? Gesù Cristo Puliamo tutti qua? Eh io ho pulito per fare sbaglio Tutti quanti qua Cioè non tutti 40.000 solo 24.000 Eh tutto pulito io qua 50 punti Madonna Prossima macchina Prossima macchina Contraporta Il trattore non lo stavo guidando nessuno Ma ho visto Ma quindi andiamo al galaxy? Andiamo un attimo a negozietto Qua Depositiamo e poi ce ne andiamo Qua tra un mila sporchi c'ho io no io non ho pulito due volte ma ho pulito tutto e io non me la posso tenere una delle tasche in più perché c'avevo nulla non c'era né gps né ah beh è normale ok questo giro ce lo siamo fatti mostro un po' più tranquillo di soldi sincero ho almeno 100.000 eh il 97.000 almeno ce li ho tu quanto c'hai? 5,47 5,47? si minchia meno male che non stavi messo bene tu eh no ma io ho sempre 800-900.000 marca troia ci doveva comprare l'elicottero l'elicottero si deve fare eh? eh ma non è utile quanto pensi a certe cose non le puoi fare giusto così ad andarci in giro perché non... andarci in giro aspezionare eh non puoi si che posso non puoi spottare? come spottare? non puoi non puoi se tu vai non puoi passare sopra le risorse e vederti c'è poi andandli a romper il culo non puoi non così dico non pure ai punti intendo con le persone che metti qua? che succede mazzo aia andiamo 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 no aia non è nessuno non è nessuno è mazzo con la terra no ma fosse mazzo aspetta vale torno in città aiuto ok c'è niente qui sull'anno aspettiamo mazzo possiamo andare mi hanno colpito alla curva la moto è volata non so do cazzo c'è pure la mia moto è volata No, sto nel fiume No, sto nel fiume Porca puttana Eppure io No, ma io sto proprio qua Spingila, spingila Devi scendere per spingere Ah, giusto, devo buttar giù Siamo nella merda Basta, basta Non mi lo fare le chiappe Non stai sciacquando Eh, per forte, sono cagato addosso Tu giustamente chiudi, sei in una macchina Ah, io come cazzo saliamo Sali avanti qua, magari Sali avanti Ah, non l'avevo visto Vedi, vedi lì, ci stavano a sinistra Ci stavano bisogno di spazio Qui, questo spazio è qui? Eh, destra Eh, quasi Aia Dietro, vai dietro, vai dietro Guardate, sto chiamando Gianluca Che anche lui ha avuto un problema Mannaggia, sto maledetto telefono Cazzo, va anche lui? Guarda la strada Ah, no, non sto tanto bene Non posso guardare la strada Ti ho appena fatto un volo di 3.000 metri Sto malissimo Non riesco a concentrarmi No, no Comunque pericolosissimo questo cazzo telefono, non curva l'auto è questo no, non sono in garage problemi, quanti problemi ti ricordo che ho fatto per mezz'ora due di foto postami quel trampolo aspetta che sto facendo due foto a secondo ah questo, questo muo' è comparso questo muo' mi è comparso che faccato bella macchina non c'è un gatto, non c'è un pepito ok aspetta oh 18.000 28 almeno è molto nel lavoro onesto oh ma che è ste 8 foto al secondo ecco la mia macchinina ok quindi 28 27 ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono a piedi io Come sei a piedi? Ah beh, intanto facciamo due macchine Vai a vedere Andiamo a vedere che ha le cose Le chiavi E quindi le tue chiavi non sono originali? 40 patatine E un po' di arachidi e pistacoli Cavolo devo mangiare Non c'è cibo Salute, madonna che porcile Ho mangiato al burger stamattina Oh raga non vi bevete tutte le coca cola? Ha fatto i bravi Cioè aspetta la devo mettere qua dentro Aspetta No mi serve un panino E tu ce l'hai la verga? Tu? Siamo in due tu? Hermano io ce l'ho Tu però non sei tranquillo Io non sono legal Tu invece? No Niente? Niente Manuel sì Mio fratello Chi tuo fratello? Il fratello Ah il fratello E io metto un ascio qua dentro Ok Ok io devo andare a prendere la verga E Manuel ce l'ha? Aspetta che Però serve Serve? Un'altra macchina Sì sì Manuel 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 Chi c'è là dietro? Chi è quello là dietro? Fammi due panini Io Fammi due panini Mano in mano Ma tuoi panini non ti riposto? E tuoi panini Ehi Elena Te li faccio i due panini Fammi due patatine Te li sto facendo Te li sto facendo adesso I panini non ti riposto Ti sto facendo le patatine Ah sì sì Ma l'ordine poi? L'altro ordine? Ordine quale? E non so ma Mi aveva detto Elena Noi abbiamo Abbiamo finito tutto Ah è tutto lì? Non ce n'era un altro? No no non ce n'era un altro Ah ok Va bene Aspetta Siete pregati di esserci C'è una riunione Secondo Aspetta che mi da un attimo Una roba Ok Vieni Che si fa? Si va alla riunione Sì andiamo in garage Cioè Dai Ok Non lo so Paura Cosa dobbiamo fare? Andiamo tutti alla riunione? Tu ci vai alla riunione? Sì 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 Ma andiamo tutti in riunione Io non ci sono per nessuno Ragazzi sto parlando di una cosa importante con lei Oddio dimmi scusa No sto parlando di una cosa importante con lei Avete bisogno di me? No no Ah io me ne vado Dico non ci sono per nessuno Se arriva Abbiamo bisogno di te anche di questo Perché? Dopo dopo ci parlo io Eh stasera Sulle sei ne parliamo tutti assieme Appena arriva anche Enrico Sì a me sembrano tutti uguali Mi sembra la signora dall'altra volta Va bene Non è Nikla Eh sì sì Anche se è Nikla bisogna di parlarmi È la mentalmente anche Sì sì Ah anche mentalmente Ah è proprio tua sorella? Sì proprio mia sorella Ah ok ok va bene Non ci vediamo Chissà se posso tenere la live accesa Sì O no Così O no Così 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 O no Così O no Oni ce l'abbiamo? Per chiunque sia arrivato adesso Le live possono rimanere attive Con l'au Ah perfetto Senza problemi Io penso che esco però adesso Chiudo un pochino gli occhi Come arrivate tutte le macchinine Che mi diverto di più Rumore di tastiere Mouse Sì Ok Allora ci siamo Insieme Rumore di discord Sì Ok È in riunione Però non Giustamente non diciamo Passa Ok Buonasera 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 Era un saluto Ritorico C'è auto Ragazzi non Non smutatevi per salutarvi Allora Madonna Non ricordo più che cazzo ti volevo dire Mi stiamo facendo da recedere il pilo Mi sono svegliato da poco Non ho dormito nulla Ho dormito male Sono stanco E non c'ho voglia Dai la rinviamo Alla Buona giornata ragazzi Dai Alla parte dei scherzi ragazzi Intanto questa riunione Ma chi è che gli sta schiocchiando le dita Prendo bottiglie di champagne Che stai facendo Marca troia Ma Luca non potevamo fare la Non potevamo fare la riunione Con la lezione di RP Che era bella come idea No Perché non trovo la gente Non capisci un cazzo lo stesso Allora Intanto questa riunione Ma perché io ne vado e gli dico riunione Apri l'acqua Spacchi i sacchetti Questa riunione Dove essere indotta Già tempo fa E io dissi al mio staff Molto bravo Bello e genuino Fate una cazzo di riunione Poi alla fine Se non le organizzo io Nessuno le fa Quindi scusate il ritardo Dall'ultima riunione a questa Creata dallo staff Logicamente Non da me Per l'amor di Dio Fanno tutto loro ogni volta Allora Come state? Cioè nel senso Non mi rispondete come state voi Come state nel server Ora voglio sapere Cosa c'è che non va E cosa c'è che va E non mi dite Che non c'è niente che non va Perché il server non va Facciamo quelle pezze al culo No no Io intendo Cose che non vanno Le risposte In vista di RP E di problemi Legati appunto all'RP Quindi? Zora Ti giuro ti metto sotto al lavandino No Mi dissocio Boh Io mi posso lamentare Che quando chiamo Un admin Un OCC Non viene mai nessuno Bravo 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 Ma poi che è la OCC? Mi sono persa Bravo Bravo Questo è un buon punto Bravo Questo è un buon punto Bravo Bravo Guarda che oggi Io sono dalla vostra parte Non sono dalla parte del server Ve lo dico Allora diciamo tutto quello Che non ci sta bene Bravo Bravo Allora Se io ti dico Dimmi qualcosa contro Non me lo dici Siccome sono dalla vostra parte oggi Sputate tutto Tutta la merda Forza Non siamo Posso Cioè Allora Prendeteci come Prendeteci come utenti Che l'ingaggio sia stato regolare E non hai sbagliato nulla Per farti sparare Per questa domanda Che nessuno La colpa è sempre degli altri Ma non si vede mai Come ci si pone No Può essere che ci sia stato Anche qualche errore Però ti posso dire Che se io Vengo vicino E iniziamo E siamo in set E puntiamo E loro iniziano a sparare Per me Cioè non vedo Io dove posso aver sbagliato Perché le azioni Le azioni Bisogna farle perfette Quando ci si punta Vicenda Non importa 5 3 1 7 14 È chi spara Prima In quei casi Perfetto Questo mettetelo in testa Basta La frase Siamo di più Non esiste In caso di puntare Che ci puntiamo a vicenda Anche 1 e 1 Spara prima Comunque è ragione Cioè non c'è Non c'è nulla da fare Giusto? Poi se siete in set Contro due macchine E questi sparano Allora è fail Ovvio Va bene Ok Poi dottori e polizia Assenti Fino alle 5 del pomeriggio Per chiamarli Mezz'ora E non arrivano Non ho capito No scusa Ripeti per favore Come? Ho detto Un'altra problematica È che Gli MS E la polizia Fino alle 3 4 5 del pomeriggio Anche a volte Non ci sono Fino alle 5 del pomeriggio Mi sembra no Mi sembra proprio di no Perché io ci sono Dalle 3 Di solito Una settimana pure io Dalle 3 Ti dico che Mezz'ora fa Ho dovuto aspettare Addirittura di disponare Perché non arrivava nessuno Dalle 3 in poi Mezz'ora fa Anche io ragazzi Oggi c'era la riunione E ci siamo tenuti Però tutti i giorni Stiamo dalle Io personalmente Sono dalle 3 Alle 20 E dalle 21 Alle No ma io so Da che pulpito Vengono i palpiti Siamo 12 ore al giorno In ospedale Quindi mi sembra proprio Esagerato La mattina mai La mattina non c'è mai Io la mattina Quando non lavoro Ci sono L'altro giorno Ero dalle 7 Dentro il server E questi sono gli MS Ti hanno risposto La polizia La polizia Molte volte le ho chiamate Non arrivano La polizia è vero ragazzi Tu che parli Tu che parli Sei stato poliziotto Tu chiedi Per 11 mesi di fila Tu c'eri a quest'ora Sì io c'ero Principalmente Dalla mattina Fino al pomeriggio Tardisera Cioè tu giocavi 24 ore E blosso Sono stato pure La polizia Io posso dire che Non ci saranno Dalla mattina Ci sarà qualcuno Però Iniziamo a logare Verso le 3 Alle 4 C'è presenza Quell'ora Andiamo già A fare controlli Se le persone Iniziano a fare azione Alle 12 Dalle 12 Alle 4 Sono 4 ore Che le persone Chiamano la polizia E la polizia Non arriva Però tu puoi anche capire Che a quell'ora La gente magari sta mangiando Oppure a scuola Oppure sta anche a lavoro In quel momento Abbiamo veramente Assolutamente Però dico In quel range L'orario è scoperto Poi ci stanno tutti i problemi Però qualcuno Ci deve essere Per forza Per forza Scusate Assumate Qualcuno Che la mattina È disponibile Ragazzi La polizia Che dalle 12 In poi C'è la polizia Ma si sta ferma In centro Ma io capisco La mattina Che l'orario È un pochettino Delicato Ma almeno Il pomeriggio Poi qualcuno Ci deve essere Non è possibile Che la gente Un po' Far accendere Perché non c'è la polizia Ragazzi Scusate Se prendo parola Perché sono Diciamo Dopo Manuelito Sto gestendo io La polizia Scusate l'accento Allora È facile dire Assumente Andate in sezione Bandi Tutti i bandi Sono Scritti Da gente Con un'età Media Tra i 16 E i 18 anni Quindi gente Che va a scuola Quindi Se noi Non abbiamo Bandi Non abbiamo richieste Di gente Che ha disponibilità La mattina Capite bene Che non ci possiamo Fare niente Stessa cosa Per i medici In senso Siamo Quelli più Quelli più fisici Ascolta Hanno chiesto Le problematiche Del server Secondo me Che per quattro ore Da quando iniziano A fare le azioni Non ci siano I soccorsi O fazioni principali Del server È un problema Poi Risolvibile O meno risolvibile Io ho esposto Semplicemente un problema Qual è il problema Venite voi a fare i medici Allora Almeno ci aiutate Aspetta Alt Non vi picchiate ancora Allora Si può dire tutto Di questo wipe Ma credo sia La parte ospedaliera Migliore di tutti gli altri Wipe mai esistiti prima Quindi per favore Non vi lamentate Nei medici Rispetto alla polizia Rispetto alla polizia Che mi è appena Arrivato un messaggio Da un utente Dicendo In polizia C'è Manuelito Manuelito Fa tantissimo Per la polizia Il problema Che fa tantissimo Quando c'è Non so che vuol dire Questo messaggio Cianluca Purtroppo Silenzio ragazzi Purtroppo Manuelito Non c'è più Ah Questa è un'altra cosa È morto? Eh no Ha acquittato da 5M Ah Quasi Non c'è più Ho detto Eh ragazzi Ci ho parlato io In privato Ieri Neanche lo sapevo Pensa un po' Eh sì Ma non ha dato Le dimissioni ufficiali Praticamente Fuori dal gioco Sta seguendo Lake Che è un polizio C'è il capitano Il comandante Il capitano Comandante Quindi Non c'è più Ecco perché Ci sono problemi In polizia Quindi lui Quando effettivamente C'era in gioco La polizia Andava d'amore D'accordo Era Wow Come se n'è andato Un disastro Eh questo è un problema Infatti lo risolve Il privato A presti risolve Con su Serve qualcuno Come Manuelito Per tenere insieme La polizia E fallo tu Che fanno Scusa Non per andare Contro Manuelito Perché ci ho lavorato Abbiamo fatto qualcosa Insieme Però stiamo cercando Di creare un nuovo Gruppo di polizia Affiatato Perché come si sa Quando se ne va Un vecchio questore Ci sono i gruppetti Che erano attaccati A quel questore E poi arriva la gente nuova E fa un altro gruppetto Stiamo tentando Insieme a Corksar Raffi Di creare un unico Gruppo di polizia Però anche dire Che ci sono problemi Io personalmente Non ne vedo Anzi vedo che i ragazzi Sono collaborativi Io devo essere sincero Anzi di polizia La sera ce n'è anche Troppo a volte Quindi I fail Li commettono Che poi fate cagare E giocare In alcun discorso Ne parliamo dopo Però Io invece La principale Io non sono molto d'accordo Sul fatto Vedi polizia Ce n'è troppa Perché la polizia Però nessuno Tutti sono d'accordo In relazione di ieri Contro l'Armeri L'azienda 3 Che abbiamo fatto noi Che c'erano Non so Dieci persone per terra E robe così Io poi ho visto Dai VOD E' arrivata una pattuglia Con due poliziotti Che continuava a chiamare Supporto E non arrivava Un cazzo di nessuno Io non so che ore fossero Perché ormai ho perso La condizione Dello spazio e del tempo Però Non era poi così tardi Erano le due Erano le due O l'una e mezza E non c'era polizia Questo continuava A chiamare il supporto E non arrivava nessuno Ragazzi Poi invece Vedo cose assurde Tipo un inseguimento A una macchina Che non ha neanche sparato Vedi Vic Vic e Pietro Vic e Seba Che viene inseguita Da diciotto pattuglie Cioè Questo è l'assurdo Ragazzi L'assurdo Non esiste Che una centrale Di polizia Si concentra All'inseguimento Di una macchina Ce ne vanno due Basta Tre Ma non Sei pattuglie Avevano dietro Sei pattuglie Ragazzi E' ridicolo Perché Prende Ettore E' il boss finale L'hanno detto Perché C'è l'azione Che avete fatto ieri In ospedale Avete rapito uno Si La polizia non è arrivata Alle due di mattina Avevano dato cento Chiamate La polizia non è arrivata In un'ora Non c'era Cioè Il problema Il problema Non è Io posso capire Ragazzi Io capisco tutti Ognuno ha i suoi orari A me lo lamentiamo Invece A me chi si lamenta Che a mezzogiorno Non ci sono medici Mi fa solo girare i coglioni Lo dico chiaro Ragazzi Come ha detto Luke L'ospedale È probabilmente Uno dei migliori ospedali Che abbiamo mai avuto Quando vi conviene Asperate per terra Guai se viene il medico A rialzarvi Quando non vi Cioè State giocando a mezzogiorno Fate un incidente E non c'è un medico Aspettate un quarto d'ora E respawni all'ospedale Che chi è morto Non credo che Nel quarto d'ora Ti succede chissà che Cioè Dovete anche pensare Che il lavoro del medico È anche uno tra i più ingrati Nel server A me chi si lamenta Perché a mezzogiorno All'una Alle due Non c'è un medico Per me Che poi non è vero Vieni a fare il medico E basta Ma poi non è neanche vero Ci sono sempre Non è neanche vero Il discorso della polizia È diverso Ripeto Io posso capire Ci sono dei problemi Perché Manuelito Adesso non c'è più Non lo sapevo neanch'io Tra l'altro Ma Neanch'io Però Ripeto Quando io vedo Che per un seguimento A una macchina Vedo sette pattuglie Per una sparatoria Con dieci persone per terra Ce n'è una sola Io mi dico Che c'è qualcosa Che non funziona A me dispiace questa cosa Perché io Amo L'ho sempre detto In tutte le mie live Per chi mi conosce Sono Luke Ragazzi è un canale Anche su Badoo Allora io amo Amo fare azioni Che sia contro le gang Che sia contro i poveracci Che soprattutto Che sia contro la polizia Quando io sento E questo lo può dire Tutto lo staff Quando parlo in privato Quando io sento Che ci sono problemi O non c'è la polizia Io non entro neanche nel server Perché non ho voglia Di iniziare azioni Con la consapevolezza Che non c'è la polizia Allora questo problema È stato in gran parte Arginato Giallù Perché Da quello che ho potuto notare Il servizio della polizia È garantito Anche di notte Non è vero Non è vero Perché se Cortez mi dice Ieri durante la sparatoria Di due gang Sono arrivati due poveretti Probabilmente Se mi dite Ieri Abbiamo fatto un'azione Della Madonna in ospedale Non è arrivata neanche Una pattuglia E tutti hanno chiamato La polizia L'azione di ieri Contro l'azienda 3 È durata qualcosa Come 40 minuti Quasi In pieno centro città Non è venuto nessuno È arrivata Una pattuglia Ad azione finita Che io ho visto arrivare Infatti Vi che ci siamo sganciati Perché li abbiamo visti arrivare Abbiamo detto Adesso arriva tutto il dipartimento E ce ne siamo andati Quando poi sono andato A vedere il VOD Ho visto che non è arrivato Tutto il dipartimento Perché quei due poveracci Erano da solo Poi l'azione in ospedale Il rapimento Con quelli dell'ambulanza Chiamavano la polizia I passanti Chiamavano la polizia Non è arrivata Una pattuglia Ragazzi Ieri sera La polizia Ha passato La serata In centrale A fare Degli interrogatori Infiniti Io Neanche sono entrato Ieri sera Ho visto delle live Guarda che se ci sono 15 poliziotti Uno fa l'interrogatorio 14 in azione Gli interrogatori Non scappano Si lasciano interrogatori Si partecipa all'azione E poi si torna a interrogare Sono d'accordo Sono d'accordo Però non è stato fatto Eh ho capito E questo è un problema Raffi E se uno dei problemi È Manuelito Che ha abbandonato Cominciò al ragazzo A me dispiace Manuelito ha abbandonato 3-4 volte Nell'ultimo mese A sto punto Mi dispiace Spero Spero Torni Oh ma che è sto casino Porco due Se volevo guardarmi la televisione Me l'accendevo a casa mia Grazie Porca Ho preso pure il filo Nel discorso Madonna Vabbè E Vero Manuelito Non voglio giocare Nel nostro server Ma ora sono io Che non lo metterò Mai più in polizia Perché ogni volta È un problema Ok Quindi Faccio un annuncio A tutte le persone Qua dentro del server E a tutte le vostre persone Che avete in live Ci sono persone Volenterose Che vogliono Intraprendere la carriera La poliziotto Anche esterni al server Entrate Dopo la riunione Che vi facciamo A tutti quanti Il provino Provino molto semplice Venom Parlo nella chat Di Zaichele Non è che sono in cazzatello È che tu non sai Quello che c'è dietro Posso spiegare Noi stiamo cercando Di farvi giocare Io ho già il pensiero Che sento Non c'è la polizia Io già nel server Non c'entro No no Ora è Non c'era In quel momento Ma 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 Gli sceriffi Sono scomparsi Non li ho più visti Nel server Gli sceriffi Ho già discusso Esternamente Ci siamo Ci siamo Io già sapevo Che avrebbe Allora il prossimo Ti fa casino Io ti prendo Prendo la macchina Anche in giuna rossa E vengo a casa tua E te la spacco Scusa Luke Posso spiegare La questione della polizia Di ieri un attimo Ok Allora Metà della polizia Era impegnata Con 20 persone in carcere A fare interrogatori Ma che ci dai Non ti sei in seconda mano Ho appena detto No Poi L'altra metà L'altra metà Era impegnata In una scorta All'armeria Che ci stava Costruendo le armi Ah nel senso che L'armeria costruisce le armi E voi fate scorta Dove c'è scritto questa cosa? Ha chiesto Perché siccome Era già Stata rapinata Ma chi è che fa casino? Franci mutati E buttalo fuori Io no Io no Massimo Metti il push Tu talk Obbligatorio Fai così Ci penso Io Aspetta Io ce l'ho messo Il push Dove c'è scritto Che l'armeria Si fa fare scorta Mentre crafta? Scusami Un attimo Un attimo Siccome c'è stato Più tentativi Di rapina Da quello che ho capito Ha chiesto Poi Cos'è successo? Arrivata Una certa ora Verso le due Due qualcosa Quasi tutta la polizia Ha quittato Me lo buttate Fuori L'ultima volta Lo dico Poi lo bando Anche dal server L'ultima volta No ma continua pure Continua Checco 4316 Me lo buttate fuori Per favore Fuori dai coglioni Fuori dai coglioni Fuori No riditemelo Come si chiama? Checco 4316 No com'è che si chiama? Sicuri che sono io? Si Stavo controllo io Veramente era Franci Era Franci Il problema principale Della azione Che voi chiedevate È che la polizia Verso l'una e mezza È che voi non sapete Regolarvi O tutti insieme O non vi dividete L'armeria Mi dispiace per l'armeria L'armeria è la prima Che fa casino E fa azioni nel server Però quando gli conviene Chiede la scorta Questa è incoerenza Eh ma le armi Erano per la polizia Però All'una e mezza Potrebbero essere anche Di padre Pio Che mi interessa Di chi sono le armi Però all'una e mezza Alle due La polizia È uscita tutta Fuori servizio Sto cercando di farti capire Non mi rispondere Con ma 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 Perché sei in torto L'armeria Non può richiedere Servizio speciale Non può Ok Perché se tu rifare scorta Allora vattela a fare Da solo le armi Fai l'armaiolo Non fare il poliziotto Ok Nella città Il crimine serpeggia Tu vai a fare compagnia L'armaiolo che crafta Ma come giochi Come giochi Ok Riguardo al problema Dell'azione Che appunto Descrivevate prima Con l'azienda Allora fate anche scorta Al borghi Che fa i panini Fate scorta Al concessionario Che vende le macchine E non fate i poliziotti Fate le scorte A vigilanza Purtroppo Purtroppo a quell'ora Dell'azione Con l'azienda Non c'era polizia Perché all'una e mezza Alle due Tutti i poliziotti Sono andati Fuori servizio Ok Ora è un esempio Ragazzi Io non è che voglio puntare il dito Contro nessuno A me dispiace Come ripeto Vedere un'auto In seguita Eh senza Cioè solo un'auto Che fugge No? Quindi senza sparatoria Né niente In seguita da otto pattuglie O sei che erano Sei mi sembra fossero Quando Quando avete preso Seba e Vic No? Che E poi vedere un'azione Con dieci morti per terra È una pattuglia È un po' Un controsenso Oppure un rapimento In ospedale Senza neanche Una pattuglia Esatto Non so quante chiamate Sono state fatte Perché lì ovviamente I medici C'erano un telefono in mano Noi li abbiamo visti Che stavano chiamando Però Vabbè Ci aspettavamo L'arrivo della polizia La polizia non è arrivata Vabbè Mi ricordo di più tardi Che sta cosa Ho una Una sgridata Da fare ai medici Cortez Io personalmente Sono d'accordo con te Il problema Come dicevo prima È che l'età media In polizia È quella di studenti Di scuola Quindi a una certa ora L'uno e mezza Alle due E se ne vanno Io non ho nessuno In polizia Che può restare Fino alle 4 O alle 5 di mattina Ma non perché Non vogliamo Cioè Sono io È che non ho la gente È una stronzata Perché nell'80% Nell'Italia Le scuole sono chiuse Per esempio È ma fanno video lezioni Luke Ma che cazzo Ma da una parte Prendi secondo monitor E c'è ragazzi E dai Non sono Non è Che incitano Seguire la scuola Mi dissocio Io posso essere d'accordo Il problema È che non lo fanno Che seguono le video lezioni E non stanno No vabbè Ma nessuno vuole obbligare Gli studenti A stare online Quello è ovvio Ripeto Io poi Quando sono in game Non riesco neanche a capire Che ore siano Del giorno Della notte Perché sono Completamente immerso In quello che faccio Quindi Posso capire Ripeto Mi ha dato Mi ha dato fastidio Perché chi guarda No? Dice Ma come Inseguono una macchina Tranquillamente Sono in 25 E poi C'è un'azione di quel genere Lì Con mezza città per terra E vedi due poliziotti È brutto per chi guarda A me è un frega un cazzo Perché se eravate Arrivate in 25 Ci prendevate anche a noi Quindi Da una parte Però Come dice Luke Non ci si diverte No? Quando non c'è più controparte Eh Che devo fare? Poi l'altro problema Della polizia È che abbiamo gente Che non ha mai fatto Il poliziotto Quindi bisogna fargli capire Come funziona Insegnare da zero Scusate Un'informazione Archiviata la questione Almeno archiviata Messa da parte C'è qualcun altro Che ha delle lamentele Qualcosa da dire No Aspetta 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 Dovevo leggermi un discorso E E ripropongo La cosa Delle chat Di Chi vuole fare poliziotto Venga a fare provino Volevo dire Una cosa Ah Ecco Che stavo a dire L'ambulanza Quello che sbagliano Tutti i medici La morea in giù Tutti Compreso Aldo Quando Venite chiamati Da persone mascherate Con armi O secondo voi È successo qualcosa di strano Non è che prima Rialzate la gente Poi Quando Venite andate Chiamate la polizia Cioè Credo che sia anche Intelligenza di un bradipo Sapere che Prima chiamo la polizia Perdo tempo Perdo tempo Perdo tempo Nel rianimare Le persone E aspetto La polizia Perché l'ambulanza Essendo neutra No E non gang Deve essere Da parte Del bene Quindi Arrivo La situazione Non mi convince Con la scusa Di qualcosa Chiamo la polizia Perdo tempo Nel rianimare La gente E do una mano Alla polizia Invece voi no Arrivate Rianimate Vi mettete nell'ambulanza Ve ne andate E chiamate la polizia Ma anche un bambino Capisce Quelli se ne sono già andati Ormai Va bene Allora Prenderemo tempo La prossima volta No perché Io lo dico contro me stesso E a volte Viene chiamata l'ambulanza Per me che sono a terra Magari con la maschera Io mi chiedo Perché tu faccia Questi discorsi Io in live Dico sempre Quazzo Dovrebbero chiamare Prima la polizia E poi rianimarmi E perdere tempo Far finta che magari Il kit è nell'ambulanza No non fanno mai Queste scene Perché Cortez È giusto così Mi dispiace Ma in questo caso Comunque il criminale Che ha chiamato l'ambulanza Per far rialzare qualcuno Può puntare il poliziotto E dirgli di non chiamare nessuno Quello dell'ambulanza Sì può farlo Ma l'ambulanza Deve comunque Avere le mani libere Per gli animali Togliere il telefono L'ambulanza O altro Quello In fellarp Ok ok Se chiami l'ambulanza Tu rischi pericolo Punto Diciamo che però Noi per dirti È capitato Mi pare che eravamo Proprio con Morea E a più di una chiamata Comunque sia Se arrivi E ti stanno puntando Intimando di non chiamare Comunque di non tirare fuori Il telefono Se no ti sparano Scusami Talpina Ma se tu arrivi con l'ambulanza E già vedi una situazione strana Tu già chiami la polizia Prima di parcheggiare l'ambulanza È arriviamo sparati Eh? Cioè diciamo Noi siamo arrivate Velocemente E quando siamo stessi Conoscete persone mascherate Prendete il vizio di fare altro Arrivi con l'ambulanza Fai un giretto Parcheggi più avanti C'è uno che arriva in ambulanza In una città come Los Santos A metà wipe Dove ormai sai La gente che c'è nella città L'ambulanza deve essere Minimamente prevenuta No? Arrivi Vedi che succede Forse scendi dalla macchina Ieri nell'azione L'unico problema L'unico problema È che noi il tempo di fare i giretti Non ne abbiamo Perché siamo in quattro In quattro A coprire dieci o quindici chiamate Nel giro di dieci minuti È molto difficile Ti prendo un'azione a caso Ma una a caso Sei venuta dentro l'azienda Eravamo tutti quanti per terra Almeno quindici persone L'unico in piedi era Ciara Ciara stava perdendo tempo A fare il balletto Del Ha vinto Ciara Tu avevi tutto il tempo Di chiamare 74 pattuglie Non l'hai fatto Hai rialzato tutti E poi hai chiamato la polizia Ma noi eravamo già via Ma quale balletto Io l'ho subito fatto dal Ciara Prima di tutto Sta zitto a Ciara Sta zitto E ci hai vinto Ma cosa? Avevo portato tutti Ah io lo dicevo io Brotello vince No ragazzi Perché l'ambulanza Può essere salvezza O rotta di culo A qualunque persona Se io fossi in l'ambulanza Arrivo E mi becco 14 persone per terra Che si sono accoltellate Picchiate Cadute A me non interessa Io chiamo la polizia a prescindere A prescindere Nell'azione di ieri Dove Dove poi è arrivato Aldo E Moria Non so se vi ricordate Sì che dicevano a Vic Che c'erano i barboni Che si erano picchiati Esatto i barboni Io avevo arrivato Ma devi chiamare la polizia Prima di rialimare No aspetta Sì 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 No no Infatti io sono arrivato Con l'ambulanza E' arrivato un signore Che mi ha detto Ci sono delle persone a terra Da quel momento Io mi sono allontanato Sono andato in un parcheggio lontano Ho avvisato la polizia Non è arrivato nessuno Che non è mai arrivata La polizia Pensa un po' Che non è mai arrivata Io sono ritornato indietro E c'era il signore di prima E mi ha detto Non sono questi a terra Che sono barboni Sono quelli su dalle scale A quel punto io Ho richiamato la polizia Non è arrivato nessuno E ho chiamato Gli altri medici Che c'erano per Fermi Sì ma è vero Se l'ha detto in radio Noi abbiamo detto Chiamali subito Chiamali subito Vorrei aggiungere Vorrei aggiungere Vorrei aggiungere a beneficio Vorrei aggiungere a beneficio Dei poliziotti Che quell'azione lì Non erano le due di notte Probabilmente era intorno a mezzanotte Non mi ricordo Molto prima Non mi ricordo Sincere Era verso mezzanotte Era molto prima Della seconda azione Quindi come Probabilmente mezzanotte Perché c'era ancora Quello dell'ambulanza Che va a letto con le gallini Scusami Cortez Devono aiutare i poliziotti Prima chiami la polizia Perdi tutto il tempo Che puoi a rianimare Non trovi il kit E magari Questo non ce la fa Devo prima Bendarmi il ginocchio Quello sì Di fatti Talpina Anche quella C'è stata un'azione Al custom Dove c'erano due persone per terra E nessuno ci diceva Cosa effettivamente Fosse successo Esatto Ho chiamato la pattuglia Abbiamo aspettato Quanto Dieci minuti Perché io ho chiesto Da quanto sono a terra E lui mi fanno due minuti Ho detto va bene Allora aspettiamo dieci minuti Facciamo finta Gli teniamo tipo No no Lì abbiamo aspettato C'hanno detto C'era stata l'apparatoria Alla fine Mancavano quasi Pochi minuti Ho detto Sentite Noi Come farebbe un medico Non possiamo lasciare In fin di vita Tra virgolette Una persona Allora abbiamo preso E l'abbiamo tirati su Poi per fortuna Mentre stavamo tirando su È arrivata Sono arrivate Due pattuglie Sì ma a me non interessa Quello che fate Non è una critica Non è una No 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 Però io ti assicuro Ti assicuro Che a qualunque azione Dove ci sono stato io In live Io in live Ho sempre a delle Ho detto ecco Adesso chiamo la polizia Mori a chiamare Cioè io instigavo Mori a chiamare la polizia In una live Non l'ha chiamata L'ho chiamata Quando sono uscita Io vorrei Quando la chiami Quando te ne vai Noi siamo già via Io vorrei dire Un'altra cosa Io non sono molto d'accordo Su questa cosa Così E invece Per il semplice fatto Che No Se avessimo una polizia Presente Che funziona Ogni Ogni singola azione Finirebbe con Tre ore di carcere Per tutti Tutti Se le cose fosse Un o tre ore Che poi aspetta Però aspetta Cortez Però aspetta È sbagliato Quello che dici Mi dispiace Perché ci vuole L'intelligenza Se io ho un uomo a terra Lo prendo Lo porto al sicuro O lo accompagno Dell'ospedale Sì ma chiamano i medici Gli avversari Lui Chiamano i medici La controparte E te sei nella merda Lo stesso Ecco perché Ecco perché Dici ma che cazzo Ne sai cosa fanno Gli altri nove Capisci Ho capito Cortez Però sono cose Che non dovrebbero succedere Uno va per il bene E a me dispiace La regola dei medici Parla chiaro È così Sono i medici Che non la usano Però ti ripeto Potrebbe essere Un'arma a doppio taglio Ma abbiamo Può essere A favore di qualcuno In culo qualcun altro Ma abbiamo anche Il problema Che la gente Non vuole fare azioni Se gli aggiungiamo Una complicazione Così stringente Come questa Che significa Che se fai un'azione 100-100 Finisci in galera Vai tranquillo Che avremo sempre Meno azioni Io non dico Che la regola Poi farà sempre Meno roba Vabbè Ma se uno muore Può anche non chiamare i medici Sì Te Poi Gli altri dieci Che sono in azione Non lo sai Cosa fare Ma sbaglio Secondo me ieri Vic ha fatto la cosa giusta Ieri Vic sono arrivati i medici E gli ha detto Quello che dovevano E che non dovevano fare Poi vabbè Ci sta Ma infatti Vic ha fatto bene Ma se Vic dice Quei barboni Ci hanno aggredito Il medico Dei chiamare la pattuglia No 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 Ragazzi Buongiorno Per tutto Io ho detto Quei barboni Si sono accoltellati Ho fatto io la chiamata Prima curate quelli su E ne mette che loro Corravano quelli su Non nascosti I barboni si sono accoltellati Lo stai dicendo A uno dell'ambulanza È obbligato A chiamare la polizia È obbligato Io ve lo dico Che cosa avrei fatto Io mi sono allontanato Sì ma Cortez dice Non è giusto Perdonatemi Detto come dici te Che il medico Deve arrivare Fare il giretto Guardare cosa sta succedendo E poi eventualmente Chiamare la polizia Stiamo trasformando i medici In poliziotti Ma non è vero Ma se io sono medico Mi chiamano Ci sono 12 persone per terra Che cazzo È una strage Cioè Diciamo sempre Lo diamo l'RP Lo diamo l'RP Poi ce la fa l'RP Non lo facciamo Scusami Allora usiamo i medici Mettiamo i bot C'è un plugin con i bot 14 persone per terra Arriva il bot Che rianima Io se fossi medico Io cambierei Completamente l'RP Dei medici Perché se a me mi chiamano E trovo 4 persone per terra 2 mascherate Ma col cazzo Che ti rianimo Prima chiamo la polizia Puntami la pistola Ma che vuoi Lamentato quello lì muore Dopo diventa poco Roleplay Nel fatto che Un medico dovrebbe dare La priorità a un ferito Magari è ferito Ma se mi punti la pistola E mi obblighi Allora un conto Ma se io arrivo Nessuno mi punta Ma c'è uno con la pistola in mano Io chiamo la polizia Ragazzi ma veramente C'è un discorso del genere? Io manco Ma vicino Sì però Dovrebbe essere anche Fell'RP Se il medico si metterà davanti Chiama la polizia Davanti a uno con la pistola Ma infatti ha appena detto Se l'uno puntano Un altro discorso Se non mi stai puntando Credo sia italiano Semplice base E io ti assicuro Che in tutte le mie azioni Nessuno dei medici Viene puntato In tutte le mie azioni Ci sono tutti i miei VOD Che parlano Allora togliamo la regola Di medici Togliamo anche i medici A sto punto No Un'informazione Che non riguarda Questa cosa dei medici Se io fossi medico Fai arrestare mezzo server Guarda Ma che mi prendi Per botto? Cioè tu puoi fare Le tue azioncine E io medico Venire a fare il tuo schiavetto? Vengo 21 persone per terra No un incidente Ma è allora Chiamo la guardia Chiamo qualcuno 12 persone per terra Viene un medico Rambo è arrivato Rialza tutti Intanto un medico Per fare RP serio Quando arriva E ci sono 7 persone per terra Deve chiamare altri medici in radio Perché nella vita reale Un medico non rianima 7 persone Lodiamo tanto il grande RP E poi non lo facciamo E ci lamentiamo anche Lucco su questa cosa hai ragione Però siamo pochi Mentre io sono una chiamata Gli altri sono ad altre chiamate Ho fatto un esempio Se tu arrivi Ci sono 12 persone per terra Si fa una scena RP Fai finta di chiamare il radio Chiami la polizia Non dovresti farcela da sola Non hai abbastanza kit Ora siamo in GTA Abbiamo le tasche Abbiamo l'inventario Ma in vita reale Non ti porti 18 borselli dietro Anche perché 27 siringhe 4 fibrillatori Cioè diciamo sempre Simuliamo Quando ci conviene Dobbiamo simulare Però quando poi il medico Deve rialzarci Usamoli come schiavi Eh no Io se fossi medico Fai arrestare Tutto il server ogni volta Perché tu a me Come schiavo Non mi usi Se no ti giri Ti metti il grembiule E vai a fare tu il medico Faccio io il gangster Mi dispiace Io ragiono diversamente da voi Se vogliamo fare Il full RP Che tanto l'ho dato da noi Se no Torniamo a fare L'RP De deficienti Usiamo Il poliziotto Quando ci conviene Il medico Come schiavetto E allora va bene Io sto a tutte le regole Se mi dite come giocare Io gioco Ma non mi dite Full RP E poi non lo facciamo Ragazzi posso chiedere Una cosa Che non riguarda questo I medici Praticamente Quando Diciamo viene fatta esplodere Un'attività Per quanti giorni Rimane chiusa Ma intanto Non è che tu arrivi E fai esplodere l'attività E la attività rimane chiusa Perché tu l'hai fatta esplodere Sì appunto Quella si fa tramite ticket E dobbiamo essere noi ad accettarlo Sì È stato accettato tutto È stato fatto tutto È stato accettato da chi? Noi ieri ci hanno fatto chiusare l'azienda Perché ha detto che l'hanno accettato Ma chi è questo Admin? Voglio i nomi Eh ma infatti Io sono un Admin Quale è Admin? Ergitano Ha fatto chiusa Sì però Ergitano Detta proprio papale papale Ha rotto le palle Con queste azioni Di fare esplodere cisterne Perché sono 27 wipe Che fa solo esclusivamente Ste cose qua Ti paletano mai Cortez Io l'ho fatto perché Ho chiesto il pizzo Quindi siccome loro In Ederdito Ma noi non ti hai chiesto nessun pizzo Ma valli a prendere Gitano Ma basta Allora io a te Io a te Non ti ho mai conosciuto E sono venuto a prenderti io Perché ti nascondi sempre Assolutamente Aspetta Aspetta Fai azioni sempre di nascosto Non ti fai mai paletare Un secondo Un secondo Max Questo è il mio erpito Non mi puoi Ma tu erpito Ma io mi paleso Quando vado da qualche parte Ma in vita reale Quando uno chiede il pizzo Non è che gli dici No Ma chi hai chiesto il pizzo Ma si gliele chiesto Ma Ciro Ma che cazzo stai a dire Ma c'è pure la tua live C'è pure Tramite una chiamata anonima 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 Tu chiedi il pizzo Su chiedi la di persona A chiedermi il pizzo Non è che mi fai saltare Pizzo Non è che io faccio prima Una chiamata Se io vedo Dalle fatte vostre Che voi non corrispondete Io poi passo ai fatti Gita Gita L'azione di far esplodere le cisterne È l'azione più vile Che si possa fare Perché è quella Dove non corri nessun rischio Capisci Ma gliel'hanno dato pure valida È quello il fatto Ma voglio sapere Chi gliel'ha dato valida Perché io sono l'admin Quale l'errore dell'admin Perché se fa soltanto un'azione Dove lo chiama Cos'è Io sono admin E non ho votato Vorrei sapere Chi è l'admin Manco io ho votato Infatti Io ho visto il ticket E mi sono rifiutato Di rispondere Perché mi hanno stufato Le azioni delle cisterne Sono delle azioni Da vigliacchi Che non hanno voglia Di affrontare l'avversario Quelle delle cisterne Punto E non aggiungo altro Rifaccio la domanda sempre Allora ripeto Allora ripeto Se nessuno si incula i ticket Abbiamo risposto Abbiamo preso Gitano C'eravamo in tre admin C'eravamo Scusate C'ero io Bec e Tapai E il Gitano Ci ha tenuto lì Un quarto d'ora Ci ha spiegato La motivazione E gliel'abbiamo accettata Ed è sbagliato Allora il Gitano Se ha voglia Lo ripeto a tutti Così non devo ripetere Allora in poche parole Io ho fatto una chiamata A Ciro E gli ho detto Che sabato In quanto Voi siete un'azienda Io cerco di puntare Ad essere una mafia Non una gang Che fa spari spari Per strada Perché a me Questo tipo di rapì Non mi piace Ok Questo è il mio rapì Disse colui Che le cespugli Spara con tre ostaggi No aspetta No aspetta No diciamo le cose giuste Perché se no Secondo No 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 Assolutamente Il mio problema È stato di un desing Perché non ero proprio Dentro il cespuglio Sì Con tre ostaggi Avete ucciso Sia noi che gli ostaggi Però questo non fa i spari spari No 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 Lì ho detto Che ho sbagliato Attenzione Ho messo i miei errori Allora Riformula la frase Dicendo Anche noi Facciamo spari spari Assolutamente È stata quella cosa Giusto Giusto Il mio capo In RP Visto che non sono un capo Io sono diciamo Uno scognozzo Come gli altri Mi è stato detto In RP Che quando Uno di loro Alza le mani Ma non sbaglio Purtroppo l'ha fatto Dimo Perché Dimo In RP Vi dovevi dire Occhio ragazzi Che ci sono altre persone Che vi stanno Mettendo sotto occhio E io te l'ho risposto Molto papale Non me ne fotte un cazzo Io uccido te Perché eravamo tre persone Che puntavamo tre persone In testa E continuano ad andare Abbiamo sbagliato Ho messo i miei errori Non è che sto dicendo Questa cosa Però per quanto riguarda Il pizzo Che io ho chiesto Il pizzo Poi gli ho detto Che io sabato Facevo un account Con scritto Sono povero E mandoli Dio Queste cose Gli ho detto Telefonicamente A Ciro Allora che cosa Hanno fatto Però io guardi stoppo Perché in tutte le mie live Mi sono sempre lamentato Perché è un RP schifoso Non il tuo Dico in generale Chi fa Chiamate anonime Chi parla in anonimo Sotto forma di nomignoli Di merda Tramite Twitter È l'RP schifoso Perché o fai un'azione Mascherato piuttosto Ma ste cose anonime Che io sono obbligato A dare cose Ma non so chi c'è Dall'altra parte È orribile Dai l'appuntamento Ma poi scusa Gita Ma che gli hai chiesto Il pizzo per telefono Sì per telefono Anonimo Ma seriamente Ma seriamente Ma cosa stiamo giocando Qui No è sta cosa Dell'anonimato Abbiamo messo in gioco La polizia postale Se uno viene su Twitter E fa più di una Come si dice Minaccia E poi non si palesa Non si palesa mai Polizia postale Bagniamo dal server No ma io Non è RP No ascoltami Luc Io non è che Ho fatto una minaccia Tramite Twitter Gli ho detto Per telefono Questa cosa No no Aspetta 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 Gita Tu per telefono Mi hai detto No per telefono Sto dicendo su Twitter Su Twitter Gli ho detto Telefonicamente Che io sabato Avrei messo Un Twitter Sì ma devi palesarti Se io oggi Chiamo Corvina Le dico al telefono O vai al grado centrale O ammazzo il fidanzato Però lei non sa Chi sono Corvina non va E io ammazzo il fidanzato Nel white scorso Noi andavamo Senza maschera Per chiedere il pizzo Da tutte le aziende Ho fatto un esempio Corvina a casa Ha messo cose Che chiamano in anonimo E vogliono per forza Obbligare gli altri Non lo so Per quello che mi riguarda Se uno telefona Ragazzi stiamo giocando A un gioco Che si chiama RP Se uno telefona E chiede il pizzo E se questi Non danno il pizzo Gli fa scoppiare La cisterna Davanti all'azienda Secondo me È un'azione Ridicola Appunto Va bene minacciare Va bene intimorire Ma poi Deve arrivare Il fatto dell'incontro Non che Tutto per telefono Tutto tramite Twitter È giusto Noi Il WIP Scusso Andavamo nell'azienda Venire contro di noi Come facciamo a sapere Che sei te pure Se vuoi fare Se vuoi stare nascosto Tutto il tempo Allora non conto Ma almeno Rapisci Fai il mascherato Fai che Uno deve Investigare Ma che lo fai Anonimamente Con limite di gioco Perché sai Facile nel gioco Cambi nome Twitter Aspetta Ma a caso Chiami E chi ti becca Se non ricordo male Scusa Gitano Non ci avevi detto Che avevi avuto Delle azioni con loro Quindi potevano capire Che eri te Le azioni con loro Le abbiamo rapito noi A lui E basta No Loro Loro del Pizzo Non lo sanno Chi sono io Le azioni Cioè Che abbiamo avuto Contro di loro È stato per il fatto Del Ruggiero E che il Ruggiero Mi avevo consegnato a loro Gli ha dato la mia pistola Come? L'UIP Di tutta sta roba Passiamo un po' di tempo No Questo WIP Quello scorso WIP Scusa Ragazzi Io Non do Bruciare un'azienda Un'attività Per poi farla rimanere I giorni chiusa Si fa solo tramite ticket È solo per un motivo reale Che è implicita più persone Non perché Se a me sta sul cazzo L'ospedale Brucio l'ospedale A questo proposito Scusate Giusto ieri A me è successo Che hanno bruciato L'attività Che io non ho aperto Ah hanno fatto bene Ah ok Così a prescindere E a scherzi a parte Comunque Io lo sono venuta A sapere Per puro culo Ragazzi Questo genere di cose Non si dovrebbero dire Ai proprietari Sì Noi abbiamo bruciato Tutte le aziende Perché ci hanno bruciato A noi l'azienda Non sapevamo chi era No mi sono scusate Da quello Bruciare locali C'è un limite di gioco Il locale non prende fuoco Lo si fa tramite ticket Perché bisogna simularlo Io proprio questo è il problema Che nessuno mi è venuto A dire niente Io entro in gioco Vado al mio locale Perché devo preparare L'apertura Arrivano due ragazzi Dell'armeria E per puro caso Mia sorella parlava A telefono Con un ragazzo Che mi fa Ah Un ragazzo Ho pubblicato la foto Che ha bruciato Che ha scritto Che ha bruciato Il vostro locale Io non lo posso sapere Che mi è bruciato il locale Nessuno me l'ha detto Io avrei aperto il locale Oggi Stasera Senza E l'azione Non sarebbe stata Ispettata Insomma Qualcuno Però Bruciare locali Attività Devono accettarlo Gli admin Tramite ticket Se te l'hanno messo Su twitter Senza avvisare Gli admin prima Non c'è Niente nulla Perfetto Ok Appunto Ieri hanno scritto Nelle vendite Della concessionaria Aerea Hanno scritto La concessionaria Deve rimanere chiusa Fino a domani mattina Hanno bruciato l'entrata Non è stata accettata Dall'admin Però ragazzi Mi sembra Sto dicendo Ma se Ma se Ma se Tra di voi Le cose Senza interpellare Gli admin Non vi lamentate Dopo A me Mi è stato detto Dal capo Sinceramente Che Il tuo capo È un admin No Il proprietario Della concessionaria Allora ti ripeto Una frase Non è stata accettata Dall'admin Vabbè ma io Non lo so Se Gli hanno detto Gli admin O no Mi hanno detto Solamente Che non possiamo Entrare Perché l'entrata È bruciata Ho detto Ok Allora non lavoro Stasera Che devo fare Quando una cosa Viene accettata Dall'admin Si chiamano Anche i proprietari Perché poi I proprietari Sono obbligati A dirlo ai dipendenti E quel locale Rimane chiuso Stop Non vi fate le cose Fra di voi Ok ok Posso chiedere Una cosa Per i medici Vai In senso Io da medico Abbiamo Un Diciamo Piccolo problema Sul capire O comunque Che a volte ci capita Di andare in emergenza Trovai la persona a terra E la polizia Generalmente Ci chiede Mi sa dire Che tipo Di ferite hanno Ci sono stati Atterrata Di darmi da fuoco Hanno avuto Una congelata E quant'altro E noi non possiamo Saperlo Perché Lo vediamo All'iscrizione di prima Ok No ma io volevo Capire un attimo C'è un mod Cioè si può Avere la buona abitudine Avere una regola Di dire Tipo ad esempio Slash me Lascia stare lo slash me Si chiama anche Lealtà Torniamo al discorso Di prima Se c'è stata una carneficina Tramite sparatoria Con la pipistola Che sparano sette colpi Al proiettile E ti arriva uno E ti dice No è ubriaco È caduto Ci prendiamo per il culo Torniamo al discorso Esatto Quello che non sono Non sono Del parere di Cortez Uno fatto lealtà 12 persone per terra Sangue da per tutto No sono ubriati E dai Ci prendiamo per il culo Uno lealtà Due Se ci fosse una regola Magari anche scritta Dove Tutti si prendono La buona abitudine Di fare uno slash me E scrivere Che problema hanno O se no Si può implementare Un sistema meccanico Una formula 6 No non ce l'abbiamo Ma voi non avete già Nell'F6 Non ce l'abbiamo Ce lo dicono tutti Noi non abbiamo Non abbiamo nessun modo Di capire Come le persone L'R.P. Sono tutte storie Che devono andare Nel senso dove vanno Le storie Con coerenza Logica Eccetera Se cadi a terra Viene l'ambulanza L'ambulanza Vede il proiettile Chiama la polizia È inutile dire Che palle Mi arrestano Va bene dirlo Ma poi fai R.P. Perché comunque Così deve andare Sì ma appunto Lu Non vorrei che passasse Il messaggio sbagliato Io non è che voglio Che i medici Siano fuori dalle cose Non facciano R.P. Il discorso è Come sappiamo tutti C'è da cercare Di mantenere Un equilibrio Per dare a tutti La chance Di Tra virgolette Le due parole Che userò Sono molto Tra virgolette Di vincere O di perdere Ok In una determinata Situazione Il bello Del gioco È quando Tutti Tutti Gli attori Hanno più o meno La stessa possibilità In base a come si comportano Se sono più bravi o meno Di farla franca Oppure meno Questo vale per tutti Anche per i poliziotti Il discorso è I medici Ovviamente Devono fare R.P. Devono cercare di calarsi Nella situazione In cui si trovano Quindi si trovano Davanti Però se noi diamo L'autorità Al medico Di agire Nel modo Come dicevi te Si sbilancia Completamente L'asse Perché ogni azione Si finisce Tutti In prigione Ma è giusto Ma dovrebbe essere Giusto così Perché se sparo Devo finire in prigione Se la storia è così Perché scusami Ma lo capisci Che così Non sparerà mai più nessuno Lui Non sparerà mai più nessuno Ma infatti Non faranno Le sparatorie Da poverine In città Come quella di ieri O nel 3x2 A spararsi Perdonami Cortez Diciamo sempre Bandiamo la gente Facciamo i permalett Alle persone Che negano l'evidenza Poi ti beccano Con un proiettile E tu dici No sono caduto Alla bicicletta Questo è un fail L.P. Un limite di gioco Comunque Se dobbiamo paragonarlo Esattamente Alla vita reale Io più o meno Sono nel settore Quando succede Che una persona È atterrata Ad arma da fuoco I medici Lo prendono Lo portano In ospedale Perché ha bisogno Di cure mediche E viene scortato Dalla polizia Perché ovviamente Se è stato Copio d'arma da fuoco Devono prendere Una deposizione Una volta che poi Il paziente È stato ristabilito In salute In salute Questo è quello che succede Diciamo nella vita reale Se si vuole seguire Questo Poi una volta Che è stato ristabilito Sta agli agenti Decidere se portarlo In centrale Fargli tutti gli accettamenti Del caso Eccetera eccetera Però in teoria Dovebbe essere così Per questo io dico Ci servirà Ma puoi farlo Scusami Ma puoi farlo Basa al regolamento Tu puoi decidere Se portarti il paziente In ospedale Questo è un problema I medici Che non lo fanno Il problema Perché se tu dici Lei deve venire in ospedale Però certamente Lui non può dirti di no Lui dopo Perché io lo porto in ospedale Siete voi che lo sapete Arruolare i medici Non parlate uno sopra l'altro Perché state facendo casse Allora Io non posso portare Cioè io posso portare La persona a fare Dei controlli specialisti Ma se questa persona Anche in ospedale Non mi dice Che ha avuto Un foro di proiettile Un taglio Lo devi un'ora A continuare a fare controlli E lo obblighi a ruolare Ma non posso tenerlo un'ora Siamo in tre medici In croce O altri duecento camate Vabbè ragazzi Allora non volete fare il rappi Non posso Non posso Se noi non lo possiamo sapere Nemmeno Noi non lo possiamo sapere Nemmeno fuori il rappi Se è stato sparato o no Se questa persona A terra Se questa persona a terra Mi dice subito Ho poi i dipoglietti Io prendo Lo porto So già cosa fare Io in cinque minuti No no Lui Sai lui Non ti fa Slash me Non ti fa capire Qual è stato il problema Allora Tu continui a tenertelo Dicendo Non riesco a trovare Quale sia il problema Dell'incidente Non riesco a definire Una diagnosi Ragazzi E comunque E comunque Sta trasgredendo Il regolamento Perché sul regolamento C'è il punto 9.5 Che c'è proprio scritto Vietato mentire Su come si viene feriti Eccetera E lo fanno tutti Però ma lo fanno Lo stesso Quindi è già regolamentato Non c'è bisogno Di un ulteriore regolamento Ragazzi Io non sono mai uscito Fuori dal regolamento È quello che non capite Mi siete andati Tutti addosso Quando io Ho assolutamente riportato Il regolamento Era per rispondere Al ragazzo Che diceva Che non c'era regolata Sta cosa In realtà C'è già scritto No no Che dice così Purtroppo È il nostro regolamento Lo so che c'è Questo regolamento Lo so che c'è Questa regola Infatti Io sempre Sì ma Nelle mie live Quando sono a terra E arriva l'ambulanza I miei compagni Mentono Guardate le mie live Mi incazzo sempre Perché non è il regolamento Se quello dell'ambulanza Deve chiamare la polizia Deve chiamare la polizia Cioè mettete i gesti E le fratture Delle costole Non sapete fare Due accertamenti Del cazzo Ragazzi Mettete i punti Alle copre Fate cose Allucinanti Tutti Non sono professionisti Sono arrivati i medici Non mi hanno portato La polizia Ha voluto Che non mi portassero All'ospedale Il problema È che la gente Mente Ragazzi Aspettate un attimo Però È anche vero Che più di una volta È capitato Che caricavamo La persona Perché diceva Di avere problemi E poi questa persona In realtà Mentre era l'ambulanza Si è messa Almeno a me è capitato A dire Corra Qui Mi aiuti a scappare Poi arrivava all'ospedale E se ne andava via Allora Visto il considerato Che a me era capitato Una volta E non me ne ero resa conto Di questa cosa Alla volta dopo Sono tornato indietro Appena mi è stato detto E l'ho rimollato Ai poliziotti E il problema Il problema È che se voi Dite una marea di cagate Quando è Se uno vi chiede Se state male Dovete dire la verità Non potete dire stronzate Perché sinceramente Poi rovinate L'RP degli altri Io capisco Che sia in azione Capisco Che bisogna ripartire Capisco Che a volte Magari Viene rialzati Da l'ambulanza Vuoi scappare dalla polizia Tutto questo Tutto quello che volete Il problema È quando arriva l'ambulanza Non il dopo Perché se tu a me Mi rialzi Io è normale Mi hai già rialzato Ormai continuo L'RP Cerco di scapparmene La polizia Devi chiamarla Prima di essere rialzato E cambierebbe Tutta la storia Oh Luca Stiamo parlando Che prima arriva la polizia Chiamo i medici C'era la polizia C'era già la polizia Una chiamata Io ho rialzato La persona con la polizia Davanti Ovviamente non c'era stata Una sparatoria Era stato un incidente Questo voleva scappare Perché aveva rubato La moto Solo che Sali in ambulanza A parte di fai furbo Magari E eviti di dirlo Al dottore Seppure fosse Se tu però In ambulanza Sali e mi dici Sì sì Scappi scappi Perché Io ho rubato la moto Io ti riporto indietro A me non frega niente Ti rimollo lì con loro Io capisco che dice il ragazzo Siamo in tre Avevamo trenta chiamate Infatti non è sempre Perché se no tanto vale Riempite le stanze dell'ospedale Fate l'interrogatorio in ospedale Almeno una volta Però dico Vi stai annoiando C'è tanta gente in ambulanza Il prossimo La prossima chiamata Fai un po' di repina Lo sfigato Che becchia Amen È obbligato È regolamento E vi ripeto Ve lo ricordo Andando contro Tutti i miei interessi Se Chiamano l'ambulanza E trovate Più persone per terra Non vi fate Prendere per il culo Fine Allora Se no Non vi lamentate E continuate a fare I botti in gioco Ragazzi Un'altra cosa fondamentale È Che Come ben sapete Nel server Ci sono Molti Molte Semplici attività Abbiamo Lo Santos Custom Abbiamo Le varie aziende Capisco Che ci siano Tante azioni Illegali Ovvero Tante sparatorie Altro Però Non dovete Trascurare Anche la parte Dell'azienda Perché Come da regolamento Se noi vediamo Che voi Non la gestite bene Giustamente Dobbiamo Rimuoverla Come armeria Io posso capire Che puoi richiedere Una scorta Di un tragitto Non mentre Caffi le armi Cioè Ma stiamo scherzando Adesso Il burger shot È sempre giusto Io Se posso Volevo dire due cose Sugli avvocati Che non ce ne sono pochi E quasi mai rispondono Io ho provato Sono tipo Giorni e giorni Che chiamo E lascio anche messaggi Gli avvocati Sono pochi Perché per colpa Di altri lavori esterni Massimo ha dovuto Abbandonare il giudice Ok Però se serve No no Per se serve Ci sono due avvocati Sono l'avvocato Crane E l'altro avvocato De Pascale Che sono attivi In caso trovi il numero In Bacheca Avvocati Gli lascio un messaggio Allora Vedi che ti ricontattano Non lo ha lasciato Ha lasciato messaggi Già da giorni Ma non mi hanno risposto In privato Sì No no Sul gioco Ho scritto ieri Su Discord A Massimo Massimo ha scritto Mi ha detto Di scrivere a Crane Però dico Poi ho parlato Con un avvocato In gioco E lui stesso Mi ha detto Che ci sono altri Ragazzi in fila Come me Che aspettano Già da dieci giorni Per un giudice Che il giudice Non c'è in città Per la pulizia Della fedina penale La pulizia Della fedina penale Abbiamo concordato Proprio gli altri giorni Quindi era un attimo In stand by Era sospesa Dovevamo aspettare Maggiori comunicazioni In base al costo Della pulizia Quindi è anche per questo Che non rispondevo Se noi siamo pure Tra virgolette No Sì è dell'azienda Sì mi dica Sì salve Sono Tequila Del Galaxy Mi porta 700 kit e drink Quando potete Ok va bene Con calma Non c'è fretta Mi manda un messaggio Perfetto A dopo Buon lavoro Anda Legend Tornando e chiudendo Il discorso medici Le mie non erano incazzature Ma era proprio per arricchire E far fare più rp ai medici Perché se no sarebbero Botti in gioco Non fanno nulla E anzi Come ho fatto per la polizia Invito sia qua dentro Che nelle chat Gente che magari vuole imparare A fare le rp sul nostro server Entri come medico Ti fai un mesetto Dai una mano al server E ti diverti anche E imparare le dinamiche Posso fare una domanda? Sulla agenzia immobiliare No? Ma non ci sta male Cioè mi è capitato E da un due settimane Magari mando messaggi E non rispondono mai Non so neanche Chi sia l'agenzia immobiliare In gioco Pensiamo No l'agenzia immobiliare Era cosa segnata A Vicuz A Lexis Tutto il loro gruppo Ma se mi dite Che non rispondono mai Ragazzi Volevo sapere Quanto costa un appartamento Perché devo vendere Il mio appartamento E così mi regolo E non lo posso fare Perché non rispondono Cioè Una casa così Un bagno Te lo posso dire io? Anche il gruppo Cerchiamo da gioco Volevo sapere una cosa Se è possibile Fare magari un regolamento Per quanto riguarda Per evitare Che la gente Vada a cercare Il compagno O la compagna rapita Per tutta la mappa C'è già il punto Del regolamento Si vede che non ve lo siete letto Eh allora ragazzi Posso Non ha capito Ripeto No Se si vede a fare una regola Per evitare che la gente Vada a cercare il compagno O la compagna rapita In tutta la mappa E cosa faccio? Il manco fermo Aspetta da te Scusa Senza Senza Mi viene rapito un amico Allora mi metto a cercare Tutta la mappa Del compagno Capito? Certo Eh scusami Non è proprio il massimo Vabbè giusto Domani mi rapiscono le persone Io vado a barra a bere il caffè No Però se non ho Diciamo un indizio Qualsiasi cosa Non mi vado a cercare Tutta la mappa Che sono chilometri Il chilometro La parte Lo trovi La parte che per fare Un rp giusto E genuino E dare A te più agli altri Perché voi invece La maggior parte delle volte Lo chiudete Le rp agli altri Hai rapito uno Avvisi gli altri Che ha rapito uno Perché dai rp agli altri Non che E' stato tutti quanti Nascosti Se io mi accordo Che ha rapito uno Di miei Io te la ribalto La città Spero Questo è vero Questo è vero Non mi ha capito Almeno Perché se no Siamo messi male Qua dentro No Il discorso è un altro A livello di RFI Aspetta lui Il discorso è un altro Esistono Esiste questo Alcuni adottano Questa regola qui Che principalmente E in effetti È contro la logica Uno dice Mi rapiscono qualcuno Me ne sto al bar La verità è che Per limitare La piaga dilagante Che abbiamo Che è il meta Io diciamo Se non ho un indizio Questa è una regola Che si chiama Che vieta il free roaming Cioè andare in giro Sono stato testimone Ma so di tantissimi Altri casi Di persone Che vengono trovate In maniera Tra virgolette Magica Insomma Anche di gente Una domanda Contro uno Che i medici Io non ho visto Garage banca Sì 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 Siccome noi avevamo visto Che il ragazzo Con la moto Probabilmente era Quello che era a terra C'era un ragazzo Di fianco a te Ok Sì Un ragazzo vestito Di nero L'incirca Quindi non ero Sì sì Esatto Che lui aveva fatto La chiamata all'ambulanza Noi abbiamo preso Il ragazzo In maniera E abbiamo detto L'ambulanza E abbiamo detto L'ambulanza Di andare via Ma gli oglielo Anche Nel reticolo Hai fatto la chiamata Sì ma questo Non ritorna A ragionamento di prima Che hai detto tu Che Cioè se l'ambulanza Arriva e vede Una persona a terra E non chiama la polizia Ma perché Se io caccio L'ambulanza L'ambulanza È obbligata Ad andare via Ma glielo ho anche detto Ieri Glielo ho detto ieri Quando ha fatto La chiamata admin Questo vuol dire Che manco mi ascoltate Quando fate le chiamate admin Andate sempre di testa vostra Ogni volta Cioè avete sempre Da ridire Se un admin Vi dice una cosa Mamma mia L'ambulanza È neutra E fa quello che vuole Finché non viene Minacciata Siccome noi eravamo Già mascherati Avevamo una In manetta in macchina L'abbiamo cacciata via Ma è regola Cioè questo fa capire Che non leggete Il regolamento A me mi sembrava Solo un po' Di controsenso Nel fatto che È stato detto Che Sembra che non leggi Il regolamento Controsenso cosa Ho fatto in azione Ho cacciato l'ambulanza Ho rispettato La perfezione Il regolamento A me sembra Che tu non l'abbia letto In realtà Sono due proprie situazioni Diverse Clachi Cioè sono due tipi Di azioni Completamente diverse Quelle che dici tu Che addirittura Contestare il regolamento Quando manco Lo leggete Assurdo Ma un'altra cosa Puntare uno Gli dici Guarda che c'è una pistola Dietro Quello lì Non sa chi sei Raga ma tutte ste cose Sui regolamenti Ci sono leggete Per favore Non è che non sono regolamentate Ragazzi Non è ovvio Che questa persona Non è concesso Il regolamento A me sembra Che non ci sia Soltanto un problema Di medici e polizia A me sembra Che tutti quanti Dobbiamo rileggere Tutto il regolamento A sto punto Per evitare ste cose E poi oltretutto Non è neanche vero Che l'abbiamo picchiato Penso un po' L'ho trovo già terro Era già terro sì No no Ma non voi Non mi avete picchiato voi Cioè Io ne ho detto questo Altri ragazzi Prima No sì è vero L'ha detto Altri ragazzi Vabbè Io comunque ti dico Che l'ambulanza L'abbiamo scacciato a noi Per un semplice fatto Che noi era già Un'azione nostra No Per il semplice fatto Che secondo noi Era colazione di Tony Lui Perché l'abbiamo Sì Esatto Questo Il microfono Ragazzi Io no Posso chiedere una cosa Riguardo magari Riguardo magari Quando uno è In viaggio Sulla propria auto No E magari Viene colpito Da un crash In qualche Kira Non si può Da tipo Crash Quando uno crash Perché ultimamente Nella mappa Ci sono alcuni Punti E ti dice che è fuori Perché ovviamente Tu vai a prendere l'auto E ti dice che è fuori Però può darsi che O se ne è andata a mare L'auto Oppure Non la trovi più Ed è per forza Aspettare Ora Se si cancella Te la fa riprendere Se va a mare Se va a mare in rp Non penso che tu Ti la vai a riprendere In real life Va bene No va bene No Dico per il fatto che Magari è crashato Ma questo è un problema Inutile Basta chiamare un admin Lì si dice Sono appena crashato Ridami l'auto Finita No è sbagliato Perché Magari ti rubano la macchina E tu la vai a richiedere Lì capito Mi prega un cazzo A me dalla riunione Venite A scaricare il furgone Dal furgone fuori Ho già pagato Forza Come hai già pagato Ho aperto gli occhi E mi sono trovato Questo davanti Cioè Pensate E tu che culo Certo Vabbè vai vai Bisogna scaricare Quanto ti devo dare Ah ok Che prendi Da mangiare Cambiare Mi vede troppa gente Questo vestitino Non ci mettiamo Cambiare look Stai qua Vai Stai qua Salve Ah non c'è nessuno Sì no È salito Su par camion Non so che sta Fa spider Mersi Porca Ma non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Salve Tutto bene? Gli sono partiti 5 minuti? No è che sto ascoltando Anche la riunione Ah ok ok Ah vabbè Mi scusi allora E io ho appena aperto gli occhi Non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Sì ma un milione è troppo direi Perché appunto anche secondo me un milione è veramente tanto Arrivarci che ne sto facendo solo polli O solo sassi O solo benzina Ragazzi le miniere devono essere Se lo ascoltaste leggermente l'italiano E poi non è che ci lo parlo molto forbito Chissà molto Con quale difficoltà Le miniere sono per i ricchi Tu sei ricco Esatto Le miniere servono per fine game Quando non hai più niente da fare E poi per mettere tu una miniera con un milione al livello 1 Ti vai a farmare le tue pepite Abbiamo fatto anche la riunione su questa cosa All'inizio le abbiamo messe a 10.000 dollari per farvele provare a tutti Ma in realtà la prima dovrebbe costare un milione È vero è vero Anche abbiamo perso questa parte della riunione Le miniere sono appunto l'investimento per i ricchi Tu sei ricco? Mi sto facendo soldi coi poli Sì e no Sì e no Se non puoi permetterti una miniera evidentemente non sei ricco È ricco di cuore Si siano aggiunte altre priorità La casa, le cose Io sono rubo infatti rubo 7 soldi E poi ultimamente Come? Come? Cazzo hai detto? È ovvio ed è evidente che un criminale guadagni di più di un civile Altrimenti che senso avrebbe fare il criminale? Punto interrogativo È incomiabile il fatto che tu voglia fare il civile Ma ti devi rassegnare al fatto che il civile ha dei guadagni decisamente inferiori che fare altre cose Non puoi pretendere di avere miniere d'oro Di essere proprietario di miniere d'oro se fai il minatore Scusami Cioè tipo in quattro giorni effettivamente sono arrivato tipo a un milione e un milione e tre Però ecco quindi secondo me guadagni già abbastanza per essere un civile Allora io guadagno 20k E più che altro volevo anche lamentare un minimo il fatto che da ieri è cominciato ad arrivare gente sui punti Allora ieri c'era proprio gente che era appena arrivata nel server a lavorare con me nei polli E sono arrivati due mascherati con il casco nero del coso E li hanno rapinati e tutte cose del genere E so che da regolamento queste cose non si possono fare Il problema è che magari i nuovi arrivati non hanno l'esperienza che devono avere una clip da mostrare per lamentare questa cosa In più questa cosa che è successa ai polli questi due che hanno fatto sta rapina Sono pure scappati via in macchina sui binari Quindi proprio Tu ti stai pensando del fatto che tu non abbia una clip e quindi tu non abbia aperto un ticket No 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 Ma questo è quello della chiamata di ieri che i petrolieri ti hanno rubato il camion Perché poi è successo anche al petrolio Io poi il tipo del petrolio Io poi il tipo del petrolio l'ho trovato sul punto L'abbiamo inseguito con il taxi E nel momento in cui il furgone si è fermato lui ha fatto puff E dovevi chiamarmi lì e io stavo cercando questo furgone ma non sapevo dove cercarlo Perché mi dici si me l'hanno preso però non sapevi chi fosse Io ho provato a vedere in giro ma non vedevo niente Eh no è stata una coincidenza trovarlo perché l'abbiamo trovato pure sul punto del lavoro sbagliato Ma dato che ti ha preso sul punto mentre tu avevi le mani dentro il tuo furgone Quello non si potrebbe fare Già che sul punto non va bene Mi avresti dovuto richiamare Posso alzare un'altra questione? Sul fatto dei negozietti Sui negozietti no? Cioè secondo me è un po' ingiusto che magari i negozietti In centro cioè in città abbiano i prezzi proprio al minimo Cioè mentre magari chi ha un negozio in culo al mondo magari non può vendere perché ovviamente la gente compra Perché non può vendere? Questa te la devi vedere in RP Noi abbiamo stabilito dei minimi e dei massimi Allora io ieri l'altro ieri in game ho trovato della vodka in vendita a 2000 dollari al pezzo Io non voglio io se è qui dentro se è qui dentro il proprietario di quello che era il l'impero del Vustel Lo invito ad andare immediatamente nel suo negozio a cambiare i prezzi perché c'è un minimo e un massimo Che non si possono sgarrare perché quello non è più mercato Quello è violazione delle regole del server Ok? Togliamo i negozietti noi se fate quelle cose Vi avviso per quello che riguarda i prezzi te la giochi in RP Vai a cercare i proprietari dei negozi e cerchi di di trovi te il modo di accordarti Se lo vuoi fare pacificamente o se lo vuoi fare meno pacificamente Ma dal momento che c'è un minimo e massimo stabiliti dal regolamento Se il negozietto li rispetta per noi non c'è nessun problema Tutto il resto si fa in RP Posso fare una domanda anche io sui prezzi dei negozietti? Sì, certo Allora, l'armeria a me i proiettili me li fa a 59 l'uno Io come prezzo minimo ho 60 e come prezzo massimo ho 65 Ok Chiaramente su mille proiettili uno ci va a guadagnare massimo 6.000 dollari E se ne vendono pochi, devo dire, quantomeno il mio negozio che è a Sandy Non so se, perché non ho visto tra i prezzari se c'è il prezzo dell'armeria Non l'ho trovato, quello che dovrebbe fare ai negozietti È una cosa che hanno deciso loro o per regolamento devono fare 59? I prezzi sono stabiliti da noi Sono stati stabiliti da noi seguendo l'economia E seguendo dei parametri ben definiti Ok, quindi non è che ci sono oggetti sui quali un negozietto guadagna di più E oggetti sui quali guadagna di me Ora io non credo che il tuo negozietto si legga sulla vendita dei proiettili Non si legge su poco in realtà Eh va bene, ma questo vale per tutti Infatti anche per l'affitto che sono 400 ogni due settimane adesso E io difficilmente ci arrivo O comunque arrivo ad andarci in pari Perché comunque i picconi sono tutti a 200 anche in città E nessuno arrivasse quindi a comprare Ma qui ci sono due tasse da 400? Cioè come funziona? Adesso l'ultima volta mi è stato detto che erano 400 ogni due settimane Io mi sto facendo un foglio di Excel Dove scrivo tutto quello che spendo, tutto quello che guadagno E vedo che bene o male io in due settimane 400 Se ci arrivo, perché non sempre ci arrivo E ci arrivo proprio in pari Perché magari il negozio in città guadagna di più Ha più clienti Ma infatti era questo che intendo io sul fatto Che magari lì in città potrebbero realizzare un po' i prezzi Andiamo avanti e parliamo di altro Tanto è una cosa che molto presto cambierà tutto Quindi è inutile anche i risultati Ah ok Scusate no? Ma il fatto delle... Alla vendita no? In tutti i punti Eh? Alla vendita dei punti Allora c'è gente che ti prende Ti rapisce Ti toglie tutto E poi ti ammazza e ti fa scordare tutto Dei Rolex? Sono punti rossi È normale Ah ok Però non credo che sia Tanto un bel RP questo Ti pigliano e ti ammazzano e ti fanno scordare tutto Ma sono le rapine Posso rispondere invece Non credo che sia diverso Perché molta gente va sui punti droga A ballare Cantare da soli Sperando Con la consapevolezza che tanto nessuno possa fare niente Purtroppo si chiamano punti rossi Perché lì si può fare qualunque cosa Ah ok Sì sì Ma io non dico Sì ma io non dico che non mi devono rapire O perlomeno se ci andate State dicendo Dato che sapete che sono delle zone rosse Ad alto rischio Dovete avere Dovete essere consapevoli Che può tra virgolette accadere qualcosa Zone rosse Sì sì No Per me è più un messaggio Rivolto ai ragazzi che fanno questo Perché Se tu mi rapisci Mi togli tutto Poi mi ammazzi Mi fai scordare tutto Cioè è inutile Ma anche riciclare Secondo me è una cosa inutile Ma la rapina in essenza è così Cioè Non è che c'è molto da fare Vabbè Prendimi Toglimi tutto Che ne so Lasciami ricordare Lasciami ricordare chi cazzo sei Uccidere sono d'accordo anch'io Perché Come ho detto poc'anzi Sì Voi siete molto Cioè quasi tutti Invece di aprire l'RP agli altri Voi l'RP li chiudete Eh infatti Ma anche Come di Invece c'è stata Invece di uccidere Magari con una maschera Al posto di uccidere Oggi è punto rosso Ma no ma questi qua Erano pure mascherati Quindi Dico anche nella pulizia soldi È punto rosso È normale Tutte le zone illegali Sono tutte zone rosse Raccolta Poi c'è Si vede Tutto Io A me è successo Al parcheggio Io l'altro Ho fatto un ticket Nella zona del riciclaggio Perché mi trovavo lì A pulire dei soldi Sono arrivati tre persone mascherate Mi hanno preso Io ho detto Vabbè Ecco la Incominciamo Non mi conoscevano Ma non mi interessa No no Mi hanno preso Guarda Guarda Non mi interessa Non mi conoscerti Se secondo me Hai soldi sporchi addosso Ma io ti rapisco Ora, dopo E anche più tardi Ma sì Ma ci sta Mi hanno fatto due domande Come ti chiami Ho detto il nome Dove lavori Lavoro lì Gli ho inventato una cazzata Ah ok Perché hai soldi sporchi Perché faccio maria Ah ok Pum Mi hanno spada in testa Va rubategli tutto Questa è una cagata E io ho detto Ho fatto un ticket Dicendo che secondo me Era un'azione a scopo di loot Perché tu Non mi hai fatto nessuna domanda Dove lavori Perché hai soldi sporchi Ok sparate gli in testa Vabbè La rapina È il scopo di loot Lo scopo di loot E sui punti rossi Non puoi aprire un ticket È concesso Al massimo Si chiamerebbe Scarso RP Ma non puoi aprire un ticket Colpa tua Che va in quelle zone da solo Esatto È probabilmente Scarso RP È inutile aprire Ticket per Scarso RP Perché purtroppo La gente Non mi dice niente Così Non mi domande Mi spara in testa Ma che ti dici Di andare lì Con tutti quei soldi sporchi Da solo Sì 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 Quello sicuro Quella è la scelta mia È costruire che non Il discorso Ragazzi È che fare i criminali Abbiamo un altro discorso Legato a questo È un po' come quando Rapisci il ghetto E stanno in silenzio È un po' come quando Mi rapite Se vi chiamo stronzi Eh ma noi siamo in sette Non puoi dirci stronzi Ma scusami Hai rapito Un gangster È un avvocato Chiedo a parlarti Ecco Se rapisci un gangster Che sei in due O siete in ventinove Io sempre stronzo ti chiamo È il mio gergo Rapisci il ghetto Uno dice Non voglio attori Che uè bro Che fai Che nella mia street Ma te ne vai Non voglio che fate rap Mentre ci parlate Ma almeno non fateci scene mute Non vi chiamate ghetto Chiamatevi alberi Borsette Nonne Altro Ma non ghetto Gentilmente Ieri mi ha rapito Due donne Un uomo del ghetto Aveva più le palle La donna dell'uomo Ma non fare il ghetto Dove sei? No ma secondo me C'è un paura A farmi un nuovo outfit Che con capelli nuovi Ne ho solo uno ogni volta Ah va bene Eh Hai letto i messaggi? No Ma dove li iscritti? Oh il chat In questo cazzo Di telefono Che mi stai chiamando Ah arrivo Ora il lego Cazzo tua Cazzo tua Cazzo tua Cazzo tua Cazzo tua ELECTRA forse ELECTRA forse ELECTRA Aspetta, a me mi ha scritto Alex Ecco, mi si è aperta anche Alexa Alexa, stai zitta E comunque è Electra Alexia, quella del Bayview Di che? Del Bayview No, no, parlaci tu con quelli Vai, chiamali Chiedigli che cazzo vogliono Sì, non è Electra Ma che cazzo che ha, mi vuole di portare a C2 Ma che ci frega Ma che ci importa Se non tengo la verga un'altra volta Vabbè, io mi vado a farlo in cilio A big one, I guess Da Ci prendiamo indietro Giusto questo, vai Do 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 Oh Si è armato? Sì Se l'appoggi viene a fare un giro Io sto andando a fare un giro Eh, vengo allora Dai, che metto un po' di sorti Bravo Ciao, ciao Ti aspetto Mi prendo un'arma bianca, eh Sì, sì, anch'io No, basta, eh No, basta Arrivo Ciao A me Anzi Cioè io quando entro nel server Tutta questa gente sparisce Poi non sono io nel server E Ah, vado a guardare i ticket Gente che si scanna Gente che si insulta Gente che si fa le live contro Poi dico Ma sta gente nel server Dov'è? Oggi ho visto le ticket Continuo sempre Ascoltare le riunioni Io ho chiesto in giro Ma chi sono questi? Che nel server non li becco mai Perché hanno paura di te, yuk Ma non è fatto di avere paura di me Anche ieri abbiamo beccati a fare le targhe Le targhe, il sesto step Vuol dire che tu non fai altro nel server Non chiamarti, gang Se poi fai solo droga E qui hai ragione Poi lì becchi Ma almeno fai il gang esterno Siamo mi figlio di puttana Brutto stronzo No, no Ma noi siamo legali Questa è la motorizzazione Mi consenta 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 Al limite Ti becchi le mazzettate Questa gente Che sta all'ottavo Nono Il no fear È che se sei contro sette Inizia a picchiare Se non sei puntato Quello è no fear Ma se io sto collaborando Anche chiamandoti stronzo Io posso fare quel cazzo che voglio C'era la prossima volta Se volete educazione Andate a rapire altre Rapite un polliciotto Rapite il papa Altre persone Non rapite gang esterno Se poi non volete essere insultati O come polliciotti Mi fanno ridere Mi arrestano Lo chiamo sbirro di merda Eh ma tu non ci stai rispettando Ma scusami Se ti rispettavo Non andavo a rubare Ma che cazzo I discorsi fate A parte che vuoi dare Oltraggio al pubblico ufficiale Quindi Cosa ti ha detto a fare Ma che vuoi Hai beccato un gang Hai beccato un urbale Un uccidere No non mi devi rispettare Chi cazzo sei Perché c'è la divisa Se rispettavo la divisa Non andavo a rubare No Cioè ci sono quei controsensi Proprio Perché l'oltraggio è alto Non è parlare Ma è alto E la cosa peggiore È proprio quella Che ultimamente Stiamo prendendo Le gang Silenziose Cioè i mutili Sto chiamando Posso dire una cosa Che secondo me Non è tanto normale Che sta accadendo Ultimamente Nel senso Quando si stanno Le macchine Che stanno correndo Perché uno sta correndo Magari sta facendo una discesa Vede dei movimenti strati E comincia ad andare via Perché stai magari In un punto particolare La macchina Che ti viene di fronte Anche se tu stai correndo Ti dice che loro Hanno detto Che ti hanno detto Di stare fermo Ma tu come lo fai A sentire col motore acceso Finestrini chiusi E la gente È dentro la tua auto Che ti chiama Certo Dai 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 È normale Che mentre si scende Uno sta parlando Con chi ha in macchina È difficile Come fai a sentire un altro Che ti è passato Per un secondo Vicino Che ti ha detto Di fermarti Cioè dimmelo tu Io È impensabile Che uno possa sentirti Che cazzo ho detto Uno come si dovrebbe portare In questo caso Sì C'è una mazza da baseball Io voglio un cortello E piglia una mazza da baseball Dai Uguale C'è anche l'accetta C'è anche l'accetta Vai Non c'era Non c'era Non c'era Non c'era Non c'era Non c'era Perché ti dobbia per culo Ma perché Ah beh Sei vestito così tu Ecco bravissimo Ma 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 Cioè Oh Eh guarda lei È in mezzo alla strada Mi sente? Vabbè Ah È mongoplegico La voce diversa Perché è troppo facile Riconoscere a me Che c'entra il tuo bello Pattacca Quindi dove Dove andiamo a prendere il coltello? Allora Smenti la vecchio Ti lascio a piedi Hai messo la cintura? Pattacca E se parlassi così Tipo Valentino Rossi Ti riconosco lo stesso Mi riconosco no? Sì Ecco Dai Dai Testarma bianca Se non c'è qua È uguale Andiamo La palla Entra Dentro l'arma bianca Ma Andiamo a vedere Ma va bene Ma Guggy gioco Che signore Non l'ho trovato Non l'ho trovato Non l'ho trovato Un cazzo Signore Lei è veramente Una testa di cazzo Lo sa Ma oggi parlo come Bruno Pizzo Quando andiamo a fare queste azioni calcistiche Attenzione Zaghi Quei cazzo Ci è andando Ma che me vuoi Pattaccio Ti sono perso Quante trombe ti sei fatto oggi? Io trombe Io trombo sempre No Quante trombe Non quanto hai trombato Eh Non ci sono andato ad erba oggi Eh Meno male Va Niente arma bianca Maurizio Vabbè Ma così Senza Cazzo duro Senza camion Senza niente Sì sì No Meglio di no Oggi abbiamo ribeccato Ho ribeccato gli stessi Dall'altra volta Solo che ci è scappato Ma ieri C'è stato qualcosa Che io non so Ieri Dopo le dieci Ah ascolta Ma tu hai poggiato la pistola Sporca dentro All galaxy Mi sa che aveva messa Andrea Perché con la sporca Io ho dato Andrea Prima di chiudere gli occhi Eh Bisogna Parlare Eh sì Eh Vabbè Comunque non si lascia lì Perché Eh no Ma sei lì fuori Cosa? Sei matto Non si fa Ah signorina Vedi che sa tutto De qui eh No 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 Non qua Non sta tolgando Nonno Stai un po' zitto All' quién Un po' zitto da 2KH la 2KH la 2KH la 2KH la 2KH la 3KH la 3KH la 3KH la. Gomer меньennえますか? Gomer の 本質に 素敵者 tv ボス なる ボス そして чит Grazie. 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 Posso dire una cosa? Scusami un attimo, Scott, ma il problema non è come è andato il fatto. Il fatto è che come mai avevano un contratto comprato dalla cessionaria in tasca? Cioè, questo è che non possono fare. Noi non vendiamo contratti a portare via, noi i passaggeri proprietari lo fanno davanti a noi. E fin qua non c'è nessun dubbio, però il problema è stato in un'altra cosa. Se voi mi tenete aperto un'ora al giorno e mi impedite di fare qualsiasi cosa... Non ti strozzate, siete sempre aperti, perché ci passi tutti i giorni. Allora, io ho su Discord tutte le vendite registrate in qualsiasi orario, cioè, te le posso anche far vedere tutte. E allora io ti faccio vedere tutti i VOD che dove passo di lì e non trovo mai nessuno. No, vabbè, su chiamata chiaramente, si mandi un messaggio... Anche su chiamata, ma hai ricevuto una risposta. No, non è possibile. Cioè, mi è ristitato, è ora probabilmente beccato in momenti particolari tema. Mi dispiace, però... Sicuramente negli ultimi due giorni vi ho trovati aperti una volta, quindi direi di no. E comunque il contratto lo avevo io e ti dirò di più, c'era un tuo dipendente a cui l'ho chiesto un contratto perché dovevo incontrarmi con una persona quella sera per comprare questo benedettissimo camion e me l'ho dato, quindi sono quanti del dipendente tu. Ma te ti ricordi chi è? Non ricordo il nome, non ricordo... È un ragazzetto, quindi... Veditela tu. Ma è... Se c'è Ale anche in riunione, ieri sono venuti dei ragazzi che lavoravano... No, aspetta! Eh, non sento niente. Mi sbaglio sempre perché mi sa che il microfono dovevo cambiare posazione. Aspetta un attimo, va. Aspetta un attimo, va. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, va. 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 Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, va. Aspetta un attimo, va. e dal primo giorno abbiamo chiesto il permesso agli altri per prenderlo perché non potevamo cambiare le macchine. Abbiamo trovato dei contratti in giro dentro delle macchine e allora tramite ticket siamo riusciti a fare un boot e li produciamo noi direttamente. C'è qualche dipendente che li ha presi e ci è fatti cacciare. Infatti è quello secondo me. C'è qualcuno che si è fatti un po' troppo. Di aziende chiaramente non ci si può risalire però a questo punto andrebbero, perché uno li può avere anche un container pieno per quanto ne so, andrebbero cancellati. Ma noi questi li rimandano più, non possiamo più farli. Lo so, lo so, però magari erano fatti prima, per quello dico, secondo me andrebbero cancellati tutti i contratti dal server, non so se è una cosa fattibile e allora ricominciamo a produrli solo noi. Ci sono i camion pieni, adesso non si scosce. No, spero di no, cazzo. Comunque il contratto che è stato usato nell'azione con Scat l'ho comprato io, il giorno stesso da un ragazzo è trovato. Era un adolescente o era? C'era un adolescente. Ma comunque vabbè, al di là di questo... Si è dimenticato di mettere a guardare, forse non ha capito che gli serviamo un contratto per prendersi, forse non ha capito, 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 non ha capito. Ah, una cosa, ho sentito che si aggiungono i cani su Cod, i cani. Eh, se è vero o falso? Ma chi l'ha detto? Ha detto ieri in live. Ha detto ieri in live. Ha detto ieri in live. Non so, ragazzi, hai fatto una battuta, mica, ma non mi credo tutto quello che... Eh, infatti, quello sarebbe l'utilizzo. Eh, che vi serve il petto da portarvi dietro? Non ha capito. Vabbè, non è bello, fa schifo. No, è bello, però... Ah, è inutile, secondo me. Nel ghietto, magari, qualche rottweiler sarebbe figo. Anche quello della polizia. Ovviamente. Ovviamente deve avere delle funzioni, no? Ad esempio, dei comandi, perché, quello così, sarebbe inutile. Ah, vabbè, c'è lo script. Mi pare, quando giocava in un altro server, piccolissimo, c'era tipo il cane della polizia che trovava la droga, attaccava i criminali, eccetera. Eh, ma questo, questo dei cani è... Ma, infatti, stiamo aggiungendo lavoro nuovo, il cane che trovava i funghi. Dai, per favore. Come il cornetto. Ragazzi, il problema dei cani è che sono one shot, hai capito? Ma, comunque, era per i problemi, non per dirci di aggiungere i cani. No, vabbè... C'è, secondo me, c'è, secondo me, un grosso lavoro da fare, eh. Se si aggiungono i cani. Non so se ne avrebbero la pena. Il problema non è questo. Perdonatemi la battuta, ma secondo me, di cani nel server ne abbiamo già. Bravo. Io l'ho creato, però mi sono trattenuto. Anche di... Di usignoli, ne abbiamo tanto. Signoli! Guarda, uno, uno che ti andrà a cantare... Ah, come ti fanno a try? Ti ha a cantare a Vigor. Maurizio, sono infame. Armare Ruggero. Madonna, Ruggero, puoi andare a X-Factor. Candi benissimo, Ruggero. Io avrei tante cose da dire, però purtroppo mi blocca. Non mi posso. Ma ragazzi, uno che è andato da Just Normal, il primo giorno di log su server, gli ha detto che fa le carte di credito. Vabbè. Ciao ragazzi, comunque. Ho visto. Io ho visto cose che nello scorso wipe non avevo mai visto. Veramente, non è. Vi assicuro che negli altri server ancora peggio. È proprio la mentalità che è calavissima, ma di tanto, tanto, tanto. È meraviglioso sempre di più. Anche se io non so il male, io non mi reputo nessuno, eh. Io so, un player normalissimo. Ma proprio non c'è. Ma io penso che questo sia l'unico server in Italia dove si fa così tante RP, così poco spara spara. Non andando... Non andando di più. Non andando di più. Non andando di più. Non andando di più. Non prendiamole tipo sti tutti noi. Ruggero ha dato il RP a tutti, zitto, zitto. Così che lezza un ragazzo, scusi, si sta trasformando? Io l'ho detto. Io l'ho detto. Perché ultimamente Luke vedo che si spara più di parlare. Molto spesso non si parla neanche più. Si spara direttamente. Se proprio lo deve essere. Certo. Perché voi non capite come vi ponete. Questo è il discorso. Che secondo voi è sempre colpa degli altri. No, no, no. Io personalmente puoi chiedere anche a chi ha fatto cerchi con me in questi giorni. Io difficilmente do motivo di sparare. Ma questo è quello che dicono tutti. No, no, no. No, no, no. So sincero. So sincero. Di chi fai parte? Io sono il ragazzo che hai preso ieri. E chi è? Quello pelato. Quello pelato. Eh, ci capite? Chi sei? Non presi tanti di pelati ieri? No, eh, quello l'ultimo. Con la ragazza. Con la ragazza. Con la ragazza. Mi chiede. Ma che? Ma che? Ma che? Perché se siamo incazzati tu ridi e scherzi e trolli. Io mi cazzo in dubbio. E che avrei fatto? Ma forse non si ricorda. Ma forse non si ricorda. Ma forse non si ricorda. Non si ricorda. No, no, no. Oggi, per esempio, ho avuto una discussione con l'altro vostro abito, che è Cari. Il Discord. Dove ho dovuto alzare la voce anche a lui. Perché continuo a dire io, 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 io. Poi ieri ha fatto scena a lontano. C'è, quelle sono cose che... Però ti posso garantire che infatti anche voi altri non potete fare come Ruggero. Anche altre persone, qualsiasi, magari quelle delle due di longe. Quindi a volte incitate all'odio anche solo a restare zitti. Perché o fate casino e fatelo fia, o state zitti. Non c'è una via di mezzo. Ma perché comunque io magari mi aspetto per quando vengo rapito. Ti dico la vita a lui, perché comunque non c'ho niente che... Non c'è niente contro adesso. C'è, io mi aspetto per quando vengo rapito. Qui vengono fatte le domande. E non è che... Pensa che ti ha rapito, non uno con quello del server. Ti ha rapito quello del server che quando rapisce ti fa dire l'ansia dalle domande che faccio. Però ogni domanda che tu hai fatto è esposto a me, sicolarmente io ti ho risposto. Certo! Mi hai risposto con... Non lo so. Non so chi è. Non lo conosco. Non lo so. Non so chi è. Non lo conosco. Questa non mi ha risposto. È sicuro che... È sicuro che... È sicuro che... È sicuro che... È un... Ragazzi, ragazzi è assurdo quando rapisce la gente. Giocano tutto il giorno insieme. Sono marito e moglie. Ci hanno i figli. Ci hanno i parenti. Tutti imparentati. Una ragazzina che non giudisce più. Hanno la direttrice. Tutti i dipendenti. Ma io non so i mogli. Ma io non lo conosco. Ma io lo chiamo un. Vabbè, se pensi questo io non ti dico nient'altro. Però io ti posso assurrare come quando... Cioè, le persone che conosco e so che tu... Sai che io le conosco, io ho sempre risposto. Ho sempre detto la verità. Ovvio che se... Beh, se tu magari non sei sicuro di una certa di una corta... Di una cosa... E tu me la chiedi. Ovvio che io posso mentirti. Ok? Penso che sia ovvio. Ma non puoi mentirmi! Sì. Ma vabbè, ma corte... Come no? Per favore, perché non... È una settimana che tutte le sere riprendiamo. Riconosciamo tutti i nomi e cognome. Cioè, sono tutti i nomi e cognomi. Io non li sei tu. Nel tuo collega. Però... Non sai come si chiama la tua direttrice. Il tuo direttore. Ah, l'ultima volta che mi hai preso. Io ho dovuto dimenticare tutto, Luc. Io che ne so che tu già mi hai preso e già sai le cose. Ma io non posso prendere un cazzo di dipendente che non sa il nome del direttore. Ma io lo so il nome del direttore. Io però mi è stato... Però mi è stato detto. Io appena sono entrato all'interno del cast. Mi è stato detto. Ho sbagliato. Ruggiero era il direttore. Quindi io so che il direttore è il direttore. Ieri non ci hai detto così. Ieri ci ricevi. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ma io ringrazio la madonna che riesco a fare delle live. Sono le salvate. Chi vuole se le guarda. Non devo ribattere. No, 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 vabbè. Se tu pensi che sei convinto di questa cosa io non ti voglio dire che non è vero. Ma non è che sei convinto. Hai fatto così. Addirittura a un certo punto. Ieri ho detto anche parlo da solo. Tanto non parlate voi. Vabbè. Io non voglio creare, cioè, dibattiti aggressivi a tutto. Io semplicemente ti sto dicendo che per quanto riguarda, per esempio, quando c'è stata l'azione... A me dispiace. Del custom, a parte qualcuno, tutti gli altri fanno schifo, mi dispiace. Ne rapisci 15, 7 crashano. Ne metti 8 in macchina, arriva a destinazione con 2. Questo è davvero, questo l'ho notato anch'io e anch'io. Io sono il primo ad aver fatto quelle persone che comunque non è giusto. Questo è vero. Li metti tutti in una cella, fai mille domande e nessuno risponde. Poi stai zitto e iniziano a fare o sete o fare o sete o fare o sete. Solo quello sanno dire. Devi anche mantenerli quando li rapisci. Vabbè, quel giorno hai rapito mezzo server. Sì, ho capito, ma io non posso rapire mezzo server e poi nessuno di loro parla. Nessuno di loro ha un argomento. Il vecchio, li punti 70 pistole, lui ride sempre. Lui ride. Lo stai ammazzando, lui ride. E poi dice che non lo prendono sul serio, capito? A te. A te. Comunque una cosa importante, c'è Vic su Discord. No, dimmi, sono io che faccio la vecchia di disco di Vic. Eh, no, perché c'è Max che ci sta rapendo tutti i clienti ecco. Non ho capito. Non ho capito. Non lo capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Max ci sta rapendo tutti i clienti. No, ci sta rapendo, rapendo. Chi sei? E io lavoro nell'azienda di Vic. E allora che ti sto rapendo? come fai a lavorare in azienda di Vic che Vic è con me non abbiamo aziende lavorare all'azienda 1 al forno ma ho saputo che Vic ha un altro personaggio in questo momento, non è più Vic di prima ok ma se Scott mi dice che il capo non può fare nulla però questo è un altro argomento che vado a affrontare magari in altre sedi, l'azienda 1 meno male che non posso provare purtroppo l'azienda 1 che è uguale all'azienda 2 e azienda 3 dovrebbero essere future mafie e le più casiniste del server a parte Tony, nessun altro fazione ma noi siamo dipendenti qua in questo momento ho capito, siete dipendenti ho capito, di un'azienda che non fazioni quando in realtà l'azienda dovrebbe spaccare il culo a tutti ma per qual è il problema? siamo la pelle di pellete no ma a parte non siamo la pelle di pellete i clienti ho detto eh, qual è il problema? eh, forse intende il fatto che non si può difendere perché non c'è nessuno ma è un'azienda corrente ma perché piangete? ma nessuno sta piangendo ma non volevo dire questo avete capito male non volevo dire questo però anche lui non può finire di parlare una persona che non ci sono e si potrebbe fare qualche cosa ma come stai lamentando? eh, vabbè sto lamentando infatti fate qualcosa prese eh, che ma io ho venduto i materiali dei capi non ci sono ti ho detto che Vic non è più capo quindi togliono chi è l'altro capo? scatto e non gioca scatto? eh non lo vedo mai un pochino chi vuol dire non lo vedo mai? no, non è vero ma dad, c'è, 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 c'è c'è, c'è, c'è eh, che ci devo dire? ma se stiamo fa 64 ore al giorno di live siamo ogni sera e io non vi vedo un'azienda che ti devo dire? ma sicuro che lavori nella stessa azienda, sì? eh, sì sì, sì, ecco noi ma non ci stiamo in un'azienda perché siamo in giro ma non è che ora scappano un gioco stiamo a fare altro ma io io lo dico quello che vedo, ragazzi non è che mi invento le cose ma sei sicuro che lavori nella sua azienda? tu vedi quello che succede 100% sono limitati a quello aspetta poi a parte che non puoi sapere che siamo noi a parte che poi non puoi sapere che siamo noi l'azienda 3 ma fuori ed è qui l'ho detto non l'ho detto indietro ma perché il gioco non c'è il tuo capo? scusa sì io vieno a farci il culo se non viene a qualcuna fretta e lo diceva io anzi a posto di pensare guarda ci stanno ci stanno dando un input per andare di contro io tante cose non posso dire purtroppo finiteci a rompere il cazzo raga date qualcosa la TRP c'è la riunione è un input scusa vabbò dai no dico dico per il fatto che gli rubiamo i clienti devono provvedere loro è inutile lamentarsi comunque io non mi sono mai lamentato fuori ed è picca mi spiegate perché continuate a farmare i punti ora che siamo in riunione c'è gente ancora che sta farmando sui punti ce l'ho scritto più di una volta madonna dai buona un attimo perché non si può continuare a lavorare anche se sia in riunione non ho capito se farmate cose illegali no ah solo legale si può fare ah io sono alla benzina allora non sapevo di sta cosa io mi sono messo a ascoltare voi mentre giocavo va bene va bene no io non sapevo di sta cosa non lo so io ho visto la gente in città ok ok non sapevo se potesse non si potesse fare roba illegale no ma non è il fatto che non sai se in cui si potesse questione di buon senso se la polizia è in riunione chi ti arresta nel gioco no ho capito io ho visto gente in città girare normalmente ho capito ma io ti sto parlando di buon senso allora perché non vai la pacifica e fai una rapina ora che non c'è nessuno tanto se io non sapevo della riunione avrei continuato a essere in città per dire ma ho capito ora sei in riunione si chiama buon senso arrivarci da soli anche Brambi lo sta scrivendo è legale perché non c'è polizia si chiama buon senso non c'è una regola comunque lo stiamo spammando in oggi che c'è la riunione appunto ora stiamo spammando da un tour quando vi conviene e le live andiamo a seguire eh lascia stare il borzone perché a trovare la gente nei garage riusciamo lascia stare ok ho lasciato la sacca lì in terra perché io in elicottero non posso trovare una villa però loro a piedi possono trovare un garage capisci che vabbè andiamo avanti è tutto lì a terra se vieni te lo aspetta che l'avevo prima sta roba ok sì comunque magari scrivete in globale anche di farlo l'ho scritto più di una volta più di una volta ah io ho letto che c'è la chat cioè sono anche i streaming io avevo messo il la live ascoltavo la allora se vai un pochino indietro vedrai che l'ho scritto più di una volta cosa non ho veramente visto altrimenti mi sarei cioè non avrei continuato solo la tua borsa dov'è? vieni ok va bene se vuoi ammanetarmi che vedi che non ho nulla lo vedo lo vedo lo vedo cazzo lo so io continuavo a formare le bullizzate però se qualcuno richiama stronzi allora è uscito un po' l'erp ci avete rotto il cazzo di fare azioni contro le persone che quando le rapite e siete voi dalla parte della pistola tutti quanti bullizzatori quando però siete voi con le spalle al muro tutti in silenzio cagnolini ci avete rotto il cazzo di commettere felle rp e soprattutto scarso rp sempre in questa materia oh ci avete rotto il cazzo come ve lo devo dire oh no no per fortuna non abbiamo preso il camion hai visto non lo sapevo neanche io non potessi farlo gioco io su un altro server perché ti sono rotto il cazzo di entrare in gioco e fare guida simulator perché tanto la gente non c'è 250 persone nel server in città non c'è nessuno siamo noi con le asce ai coltelli si quello abbiamo gli unici gli unici ci vengono contro è max ma c'è tutto allora giochiamo facciamo un server yuk max finito io vorrei vorrei spezzare una lancia ormai si spezzano vorrei non lo so trovare il sistema per far fare un corso di mira a max perché io pensavo di fare il schifo a sparare io io seriamente pensavo di fare il schifo a sparare fino che non ho visto l'ultimo l'ortez non becco un elefante a 5 metri io sono la registrazione delle lanciate di treno infatti infatti devo spezzare l'acqua a parte l'avanzata età quello già si sa il problema di max è che c'è un pc veramente a carbonella io sparo peggio io adesso non so quanti fps faccia max ma veramente c'è un pc io se posso se ribatti indietro l'ho comprato l'anno scorso questo è un po' poi faccio schifo qui a sparare stavo dicendo cortes ma vuoi sparare no vi dico lui io ero convinto di essere il peggiore a sparare nel server fino a che non ho visto lui no cortez vedi che ha fatto a sparare al modio ti so tutti e suoi mazza non so se lo sai guardate che sono io il peggio non perché è mio zio però lo tocca come sempre non sa sparare ammette di non sapere sparare quando lo capisci ti fa addirittura ridere perché ammette di aver perso come ieri in relazione me la passa anche a me la latina che ci siamo vediamo i due ma porca troia c'è che slitta sulla tastiera ma con il giro che fastidio no ma forse la gente si sta proprio rincoglionendo qua dentro assurdo stavo dicendo max non sa sparare perde le azioni costantemente perde un sacco di armi un sacco di soldi ma è l'unico che continua a fare azioni non si vanta quando killa perché appunto ammette di non sapere sparare gli altri invece no vogliono i propri ieri i propri ieri nella squadra deve fare tre one tap se no lo cacciano dal team perché c'era vita e dai l'unica volta che sono riuscito a fare qualcosa ero emozionato faccio schifo a sparare poi stai parlando di max ragazzi che ha ciara nella squadra cioè già questo wow il coraggio proprio e fa le azioni con noi mentre dormi a ciara ciara è l'unico che mentre lo rapisci fa tutto quello che vuoi per quanto dorme se dorme in vita reale lascia il pigiro guarda che ieri ieri sera non ce l'ero ieri sera che è stata credo l'unica azione dove io sono rimasto in piedi è quella di ieri sera tagli perché nelle altre di solito sono sempre per terra quando lutavo max mi ha fatto morire lo stavo lutando e mi ha detto ma che rimmerda però vedi sono quei fell rp a fin di bene no io morivo dalle rizzate ce la faccio ah io mi scuso ho abusato del documento cortes tu devi sapere in rp torni come io ieri no fuori da rp ritivo come un pazzo poi in rp ho detto adesso ce la pagano è normale se no che cazzo devo fare le storie sono quelle ci hanno fregato ieri cortes ma tu devi sapere no che max normalmente c'ha 9 mm abbiamo ho notato che con la 9 mm non riesce ad ammazzare no io gli ho pigliato la pipistola ho detto te maxi c'è sta questa la pipistola ragazzi però è inutile averla si però aspetta a 10 metri io non vedo un cazzo veramente io gli omini non li pese problemi di vista proprio siamo in due questa max che con la pistola normale viene cliccato sul tasto m1 del mouse e spamma a raffica quello ho detto appunto che deve spammare io do la pipistola che a raffica e piglia di più e fa no 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 è meglio questa no ma la cosa più bella ve la dico quando quando ieri sera dentro quel vicoletto per lo scambio di pistola io ho visto max che prendeva e faceva fotografie dicevo ma che cazzo si mette a fare questo ieri sera tardi sono andato a guardare il bod e stava cercando di mandare una posizione scattava le fotografie fatti di culo quelle foto ti voleva mandare la posizione mia solo che ha sbagliato e mi ha mandato la foto ed è stata una fortuna perché da quella foto mi abbiamo riconosciuto e quello è il fatto da quella foto abbiamo riconosciuto la macchina e come eravate vestiti posso una domanda ragazzi adesso anche il meme che è nato quello lì ho finito i colpi ti prego non mi sparare quello magnifico a voi sembrano stronzate altri non lo farebbero ragazzi altri vi avevano fatto fail su fail senza c'è un casino e non sparare sì ma le armi sono state fixate non è un problema di armi le armi non hanno nessun problema io vi dico una cosa sinceramente ho sparato due colpi in testa e uno al petto e l'ho atterrato tre colpi per atterrarne uno a 10 metri stiamo già sistemando un cazzotto mi hanno tirato un cazzotto organi perforati e sanguinamento sì ci sono dei problemi sui danni ok no era solo per sapere se eravate a corrente sapevo che lui in live l'aveva detta sta cosa l'aveva denotato ma avevo già detto che è un punto di un proiettile l'avevo già detto sì però non sapevo se effettivamente è stata si stava lavorando altrimenti era proprio così io non so che fare io a Beck più volte tutti i giorni li ricordo dammi due notti di tempo ti faccio io un server da zero da solo però non volevi prendere sta sfida no non dico questo ragazzi state lavorando una mattina o una sera escono cose nuove tutti i giorni cioè non dico questo però queste cose nuove le vedi solo tu sinceramente va bene ci vado tutti i giorni ma non viene inserita no ci stanno ci stanno state lavorando pesante ho fatto una lista di cose da aggiungere io oggi vorrei dirvele tutte perché per il mio carattere non posso dirvene una perché non è stata finita neanche una come se tu finiamo domani no 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 non hai capito perché tanto poi ci sarei io che vi faccio l'elenco vi faccio venire i peli alti sopra le ascelle e poi però le cose non verranno inserite mai quindi è inutile no dille così ci lamentiamo con gli scripter in privato no no perché io scopro tutte le cose io ho il carattere che voglio spoilerare mi piace dire le cose subito il problema è che poi chi mi circonda non fa un cazzo e gli altri server si arricchiscono quindi a volte le mie idee andrebbero vendute purtroppo chi mi sta attorno non lo capisce e gli altri si arricchiscono sempre no vabbè non era per litigare connessione era solo per il nostro problema ho avuto un'idea della madonna una volta su una cosa dei conti bancari tutti c'è gli hanno tranne il nostro server e chi l'ha fatta è venuto anche a dirmi lui che grazie per l'idea pensa un po' e come è venuto strong ultimamente a dirmi grazie per l'idea non sto scherzando ma riguardo cosa niente non posso dire un live poi altri server lascia stare andiamo avanti io devo imparare a mettermi la lingua nel culo e farmi pagare quando parlo buone grabber se la gente ascoltasse le mie idee avremmo un server che sarebbe vita reale dai andiamo avanti per favore guarda io una cosa io molto spesso quando mi impunto poi mi tocca fare le cose da me è una settimana buona che discuto con Beck e Valmontino perché vorrei mettermi due notti a imparare a scriptare cosa impossibile ma vi assicuro che se mi impegnassi due notti di tempo Beck ti tiro su un server non ti faccio plugin da zero li rubo su internet e li modifico ma ti tiro su un server due notti di tempo ti prego fammelo fare almeno so che metto le mie idee vanno non vanno ci saranno bug ma sono le mie idee almeno non mi tocca giocare nei server dove gioco e non c'è nulla di quello che io ho detto ti prego due notti ma i VIP sono stati cioè sono di nuovo disponibili eh i VIP sono di nuovo disponibili chi sono i VIP si abbiamo Maurizio Costanzo poi ora stiamo mettendo anche Jennifer Lopez adesso sono disabilitati poi c'è stato davvero Maurizio Costanzo abbiamo disabilitato i pacchetti VIP perché stiamo creando pacchetti VIP nuovi quindi è inutile vendere quelli vecchi se vogliamo cambiarli a noi ragazzi mi interessa il guadagno se no non bloccavo i pacchetti VIP a noi interessa che le cose vadano bene abbiamo scontrato diversi problemi sui pacchetti VIP molto squilibrati e abbiamo deciso di bloccarli attualmente eh troppi più dei tuoi anche perché e non posso dire più niente è vero che mi blocca io voglio dire più sacco di cose ma non posso almeno che quando fa culo tutti vi dico tutta la verità e me ne vale non è dirlo se dico le cose domani le vedrete sugli altri server non sul mio e quindi abbiamo fatto il segreto mutiamo le live via mutiamo le live e magari c'è qualcuno non sta qua da ascoltare esistono gli snitch ieri me sono scappato in live il fatto dei cani fra due giorni vedremo tutti i server con lo zoo il punto è che ci mettono due secondi a crearlo il punto è che ci mettete voi a fare una settimana magari fate una cosa bene ma il punto è che funziona bene loro ci mettono due secondi e la fanno male perché già ci stanno su altre parti però sono buggatissimi sicuramente la prima cosa che vorrò fare è mettere in vendita la rotonda di viola tanto è inutile lasciarla lì blu e vuota e anche quella di mirror park ma almeno qualche blu l'hanno trovato lì qualche puff noi blu siamo sempre alla rotonda ma la cosa che mi incazzo io e qua mi incazzo con chip perché chip ha abbandonato tutto il progetto è sparito non so manco se è ancora vivo non so nulla di chip non solo hanno la rotonda che se uno vuole fare le pici va a rompere le palle hanno in mano il marcato nero senza di loro io non ho armi vabbè Luke fa una cosa metti l'uso capione ma è iniziato a vendere il mercato nero ma il mercato nero sta comunque vendendo non vorrei dire vendete a tutti tranne che a noi le volte che vengono non ci avete mai niente non vendete scusa ma loro possono decidere a chi vendere e a chi no no da regola non vendere a chiunque possono fare azioni possono eh nel senso non possono chiedere a un'altra famiglia io non voglio perché fa nessun altro tranne che coteva non possono non possono se no si tolgono il mercato nero ma parte del mercato nero il mercato nero verrà molto modificato perché il mercato nero una volta e una volta era una gang che fa le droghe e ogni tanto vende qualche arma nell'ultimo periodo per colpa di chip mi dispiace devo dirlo il mercato nero è diventata la seconda armeria e cambierà completamente questa cosa il mercato nero in futuro venderà tre cazzate fine no che il mercato nero vende più dell'armeria non scherziamo infatti prima il mercato nero ci vendeva l'erba anche poi una volta era più difficile trovare l'armeria non è che ora è facile trovare un armeria vai lì sembra come si è comprata l'armeria non è che perché l'armeria non è stata non è ben gestita mi dispiace per chi gestisce ma non per solo l'armeria tutte le altre aziende torniamo al discorso di una vecchia riunione che ebbi con delitto per la concessionaria purtroppo andare a farmare una pistola su richiesta e non fare magazzino ti permette di non poter fare rp perché l'armeria l'armeria dovrebbe andare dalle aziende nell'attività a fare rp a fornire le pistole a fare come era il vecchissimo De Bronx purtroppo questo non accade ma una volta l'avevi anche detto del fatto di andare nelle aziende e proporre i nuovi articoli facendogli rivedere ma infatti la mia prossima attività è la concessionaria auto e come spesso sempre successe in passato dal io ricordo che io non ho mai avuto l'import prima di avere l'import l'hanno avuto diverse persone e falliva due giorni dopo sempre e io dicevo guarda che secondo me l'import va gestito in un certo modo tutti mi andavano contro presi in mano io l'import e diventò il fulcro principale del server poi presi in mano la concessionaria auto e camion poi presi in mano tante altre cose ora il mio prossimo obiettivo è la concessionaria auto per dimostrarvi come cazzo va mantenuta una concessionaria auto come farai quello che hai detto quella volta là cioè le auto del momento ma io farò quel cazzo che voglio e c'ha la taci ma sono curioso ma io guarda io guardo io guardo è arrivato malissimo c'hara c'hara mi viene in privato spesso addirittura a volte mi offre soldi non scherzo ma soldi no le sub cosa sono ancora quella volta là ma mi devi ancora andare a destra me ti do dieci sub se mi insegna a fare il poliziotto non sono soldi quello te l'avevo pagato te l'avevo pagato te l'avevo pagato però non ho mai chiesto sì ma quello è ancora di quanti mesi fa è bellissima questa cosa no no questo l'avevo fatto e le avevo detto anche in polizia guardate che ho pagato per far addestrare la polizia sì ma era una ma tu mi fai arrestare non ti ho mai detto non mi hai pagato era una battuta in live e vabbè fammi ste dieci sub e ti insegno a fare il poliziotto e io l'ho presa su serie e l'ho fatto eh però dire che mi hai pagato scusami eh no vabbè l'hai detto tu prima scusami eh l'hai detto tu prima devi pagare dopo poi esigere ecco e allora eh eh l'hai detto ma l'hai detto ti fai pascare per mapposare dimenticare eh ma l'hai detto tu scusami una delle volte mi dissocio che ho detto io scusa dove la fai leggere nei chat io mi ricordo tutto quello che hai detto una volta una volta hai detto prima di pretendere una cosa da me prima mi paghi e dopo la e dopo faccio ma è una battuta in live eh vabbè io dico che bussano alla porta ma che cazzo faccio secondo me all'indomani scopriamo che lì un canzicchie cantare di venti per inerre lo canta l'italiano ma senti FBI open up giusto giusto no allora luke l'ultimo messaggio ci ha l'anno incidente di compromessi eh sì che ti avevo chiesto di addestrarmi in polizia questo è ciara in privato ragazzi questo è non c'è ma qual è il problema luke da quando ho più tempo da dedicare in città ho notato che la polizia continua a funzionare e per questo vorrei chiederti di addestrarmi come sugar poiché mi reputo pronto per imparare da te eh sì ma lo provarti ma sì tu sei bravo a fare il polizia tu vuole imparare da te ovvio vabbè ma non è risposto ma infatti non è una critica io stavo dicendo apprezzo un cianati in privato mi chiede di essere aiutato cosa avete il mostro in famiglia e non lo sapete io scommetto che ci ha nelle azioni contro di noi non guarda voi guarda me come faccio vabbè impara dal nemico mi fa morire ragazzi ci ha è l'unico qua dentro che si è presentato una volta a Natale Natale o Pasqua 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 un periodo di Pasqua anni fa si presentò sotto casa mia con l'uovo di Pasqua grazie grazie all'arma e non sono neanche sceso no no aspetta no devo spiegarla quel giorno e a parte era un periodo abbastanza strano no della mia vita quel giorno ero anche incazzato perché io le dicevo non venire perché in questo periodo non posso lui testardo è venuto e io purtroppo l'invadenza è un mio carattere non lo sopporto io ho detto lascialo la portinaia poi lo ve lo sa prendo poverina è venuto da un'altra da un altro paese eh lo so ragazzi che devo fare vabbè però bisogna capire quando è il momento il momento no perché allora è venuto con un altro mio amico che sapeva dove abitavo no che vabbè un mio amico e io dissi a questo mio amico non me lo portare in questo periodo ci incontriamo più avanti e lui mi ha fatto la sorpresa e me l'ha portato lo stesso ma io non potevo ragazzi però mo gli devi imparare a fare poliziotto ero all'arresto di domiciliare non faccio scendere di casa no sto scherzando mi distoglio no però poverino ho dovuto mandare via con l'uovo di Pasqua no quello l'ho lasciato per farvi capire chi è Ciara però vedi io apprezzo un Ciara che in privato mi viene a dire addestrami quindi crede nel mio RP no piuttosto che quelli che poi vengono in riunione e non conoscono il regolamento e secondo loro è sbagliato e poi non l'hanno neanche letto beh io chiedo anche quando non capiscono cosa lo chiamo l'admin si l'administratore l'ho letto da talpina in chat no dai andiamo avanti ragazzi io vi giuro vorrei mandarvi in gioco con le orecchie riempite da tutte le novità che vorrei aggiungere e che saranno aggiunte nei prossimi giorni tante tuteliamo ragazzi il mio obiettivo è aggiungere tutto insieme e subito perché qua parte dal mio marketing interno è brutto da dire ma è un dato di fatto siamo quasi tutti in lockdown chi più chi meno chi non lavora chi non va a scuola eccetera è a casa girarsi i pollici ad annoiarsi giusto perché non puoi uscire non puoi fare niente e rischi di beccarti il covid eccetera eccetera quindi il server per chi lo usa in questo modo è anche un passatempo sbaglio? no 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 siamo sotto il periodo natalizio quest'anno natale non possiamo neanche passarlo con i parenti quindi uno sotto forma di marketing e che ha un server o altro dice cazzo ne approfitto quindi vorrei mettervi tutto il subito non dopo lockdown dopo natale Luke una cosa ma tu lo fai per i soldi oppure per far divertire la gente? ma io lo faccio palesemente per i soldi ma scherzi lo faccio talmente per i soldi che dal server non prendo un euro e pago solamente chi devo pagare pensa un po' quanto lo faccio per i soldi però potremmo mettere una regola tipo dal ricavato del server mi tengo qualche migliaia di euro mensilmente perché non lo so perché magari volete che gioco dentro sono lo sponsor ufficiale quello che volete io lo accetto volentieri vi tiro nel regolamento generale ma che piccata a parte gli scherzi ma se lo facessi per i soldi secondo te bloccherei i pacchetti VIP ragionaci eh ti do un minuto di tempo no 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 io non credo questo però c'è gente che dice comunque ma tutti fanno i server di GTA per soldi ma è verissimo ma è verissimo infatti ma Max Max dopo dobbiamo comunicare quella cosa a Luke ci dobbiamo dimenticare io mi sono già dimenticato cos'è eh la ricordo io dopo eh dimmela eh no 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 dopo Luke vabbè quindi altro importante io vi giuro volevi un sacco di cose ma non posso ho regalato 5 sub al canale ma non sono vinto come mai a quale canale al tuo Luke ma io non so perché si non fa no quando quando mi hai rapito sono Maurizio eh questo è metagame allora te lo merito è pure è il momento del back out perché gli infami non hanno il vip è il momento del black out famo che c'è dentro e gli infami non hanno il vip la gnocca ha ragione però eh ah quindi io non so infami ma sei tu sei tu ah 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 tu sei tu ah 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 deve essere deve essere chiaro che il maestro di Maurizio sei tu quale altro lavoro ti manca nel server ma no ma io ho fatto solo il meccanico l'armeria eh ma non avete visto non l'avete visto andare all'armeria vestito da ruggerina e tanto la carta la carta di identità è da me ha chiesto pure a me di lavorare in armeria tanto la carta di identità è da femmine sì ho fatto l'armeria una mattinata vabbè la concessionaria gli manca la concessionaria camion a breve a breve anche con l'auto ma non la prendiamo ma è tutto il giorno causone t'ho beccato sei tu causone eh chi so io ti push eh ho capito che sei tu che fai il trasloco oh no no io non sto facendo niente scusate ah senti che carino è ricordato no no non sono io da Luca dimmi da Luca becc dimmi eh dovresti imparare a leggere il mare a risposta non ti sto anche inviando le chiamate io di riunione una al mese ne faccio fammi finire eh però muoviti per favore eh però muoviti questa riunione deve averla fatta settimana scorsa il signor Massimo ma non cediamo ancora dai un bel bacio a tutti e muoviti sì è la che la fatta la riunione se ancora i problemi non è neanche elencati beh chi non faccio le cose di fretta eh lo so e purtroppo io ti devo dire questo ciao 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 vabbè quindi problemi madonna io non ce la faccio io non mi riesco a dividermi in 48 persone mi sono scoperto vabbè Luca risponde al telefono intanto pensiamo ai problemi eh io cosa dovevi dire te invece dai eh no 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 Max non è nel luogo eh adatto per tipo vabbè me lo dici dopo dai non trovo iscrivimi ciao 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 grazie ho sentito fallire il galaxy perché cosa ho fatto già faccio una sudata ormai il primo giorno che apriamo ci requisiscono tutto ancora prima d'aprire per il censimento che non avevo ancora iniziato vabbè vabbè l'azione di oggi era concentrata più che altro sulle gang abbiamo 27 miliardi di gang nel gioco ma le gang fanno i cazzi loro e farming simulator quindi o uscite a galla o io vi giuro che faccio metagame e faccio uscire a galla io ma le va non sto scherzando perché è veramente vi giuro cambiatevi il nome non comprate i pacchetti gang se non fate le gang ma lo dico anche i vostri portafogli contro contro me stesso non spendete soldi se le gang non le fate aspetta però penso cioè meno noi la gang nostra le azioni le abbiamo fatte la gang nostra che sei che nessuno nessuno sai chi ti conosce quelli del burger ma è sempre chiuso sto burger ma è sempre chiuso sto cazzo è sempre aperto dalla mattina alla sera ieri abbiamo chiuso tre giorni no scusate devo dire una cosa abbiamo chiuso ieri perché ci hanno fregato il scarico ecco ma fermati se noi abbiamo perso un pounder da 100 tasche pieno di kit anche pesce mi spiace dovremmo fare soldi per comprarne altri amici dei sicari fatevi difendere per macchia ma chi quel macchia ma quello è Maurizio ma quello è Maurizio ma se avete l'infame all'interno ma mettetelo dentro il panino e vendetelo che vuoi ma è stato dacci il tempo dacci il tempo però c'è un attimo punto dobbiamo aprire dobbiamo aprire ticket per fare il fermo aspetta avete l'infame all'interno e questo meritate state a settimo punto con una farmata vi recuperate tutti i kit food e drink porca puttana se dall'ultimo punto siamo all'ottavo 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 che ci sono gli asciugamani che c'è? stanno le asciugamani le asciugamani le asciugamani di cazzo hanno visto nel gioco hanno perso un carico di panino hanno chiuso il burger per due giorni un carico di panino non è solo quello ma non è ma non è per i soldi non è per i soldi santo Dio se devi giudicare prenditelo te il burger sei tanto brava ma ce l'hai con me? sai che se ti prendo il burger ti fatti no 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 non ce l'ha con te no no non ce l'ha con te nel caso ce l'avessi con me tu lo sai che se oggi prendo il burger non ce l'ho con te lui che ti ho detto lui che ti ho detto non ce l'ho con te ho capito sto difendendo il ragazzo quindi io difendo il ragazzo e dico è come se ce l'avessi con me tu sai che se oggi ti prendo in mano il burger veramente ti vendo solo panini nel sed perché la gente è piena di panini nelle tasche ma guarda che panini c'era il problema è stato che ci hanno rubato il carico allora non si vende più niente e se tu mi freghi la roba glielo tengo chiuso ma se ti fregano la roba c'è un cazzo di motivo visto che avete gli infami dentro eh il fatto è che il motivo non c'è non era quello il motivo il motivo non c'entrava niente l'infame e questo è il problema eh eh e se sono venuti in altri modi siete un burger non vai a far male la droga vai a fare una denuncia la prossima volta vieni in azienda 3 a comprare i panini invece di adesso azienda 3 azienda 3 se ci lasciavi la possibilità eravamo in azienda 3 non ci ha lasciato alcuna possibilità di venire in azienda 3 e perché non hai chiamato la polizia? perché l'azienda 3 mi hanno detto che era bruciata lo potevano vendere ieri e questo manco lo sapevo no lo stavo dicendo al burger vi hanno rubato il carico perché non hai chiamato la polizia? e che ci dobbiamo fare con gli sbirri? mica siamo sbirri ma noi siamo gags sui campi al farmare al livello 8 ma che polizia? sai come ci siamo arrivati a livello 8? se c'è qualcosa un'attività legale lo puoi chiamare la polizia? sì certo l'abbiamo chiamata per altre cose ma questa non è una di quelle cose ma non dire che sei gang se è livello 8 di farming chi cazzo ti ha mai visto nel server? dove? ma non è vero abbiamo fatto tante azioni abbiamo fatto azioni anche con te Luke ma chi sei? ma tu mi hai ammanettato con l'auto sotto sopra puntato chi sono? ma chi sei? eh vabbè c'era giro ma forse abbiamo fatto la polizia ma io ho fatto l'azione contro delitto se poi la concessionaria auto si unisce ai panini io che cazzo ne so? quanti eravate in quell'azione? io l'azione era proprio contro la concessionaria e che fate? concessionaria e burger uniti? no era non so perché si me l'auto come girato i panini eh te capii? va bene unirsi e fare alleanze ma per avere un obiettivo comune e magari sottopagati in quell'azione sembrate amici ora che me lo stai dicendo manco sapevo ci fosse il burger di mezzo era contro la gelalla noi non avevamo ancora il burger allora non avevamo il burger che avevamo solo un negozietto che cazzo mi frammenti che mi dici ho fatto l'azione contro di te sono burger sei tempino neri burger anch'io da piccola eh beh i tempi non lo ero vabbè mia madre una volta mi ha comprato il passeggino Chicco vabbè le cose vanno avanti cioè cambiano le cose è normale infatti pensiamo siamo qua per questo pure perché se le cose devono rimanere sempre uguali non GRP ma allora non mi dire che hai fatto l'azione con me da burger se ora mi dici il burger non ce l'avevo non te l'ho detto che l'ho fatta da burger ho detto che c'è stata un'azione con te quando non eri burger la mia frammenti è stata il burger per me non è gang perché non fa azione io non ma io non sono neanche ma se uno fa un'azione contro di te perché deve essere gang scusami non ho capito scusami se so gang dovevo fare per forza un'azione contro di te ma tu capisci l'italiano o ti parlo un'altra volta io lo capisco anche troppo bene perché ne conosco tutte lui non dice di fare azioni contro di lui come gang ma di fare azioni in generale contro anche altre gang mi racconti no senti un po' mago delle mie scarpe mi racconti quante azioni hai fatto da burger le so tutte ieri sono stati dieci ore dieci ore a fare cosa? abbiamo preso i viola abbiamo preso i bianchi abbiamo preso i verdi sono stati dieci ore di lago hai preso delle persone e siete in combinanza con la concessionaria oltretutto l'azione è stata annullata e manco lo sai non è che voglio la ragione io capisci? a questo punto volevo fare una domanda quindi non ti permettere mai più a dire che voglio la ragione perché io ti ho anche coperto ti ho anche risposto ai ticket e oggi l'azione è stata annullata perché se la tua amichetta muore non può ricordare impara a giocare capra prima di dire agli altri vogliono la ragione Aspetro io non mi sono ricordata che mi hanno preso i viola io ho detto io avevo il pensiero no Neftida ti abbiamo parlato in privato oggi quella parte è stata annullata perché il tuo amico ha sbagliato ok ma non è colpa mia è colpa del mio amico tu non puoi ricordare e il tuo amico era FK dentro lo stanzino poi magicamente è uscito dalla FK e ha detto io ricordo tutto visto l'azione eh ho capito però se lui mi ha la conferma non è colpa mia quindi se domina che ti dice che io voglio la ragione impara a giocare lealmente e poi usci dire agli altri non ti permetterei mai più che io voglio avere ragione se te lo fai giocare aspetta aspetta ho sbagliato io? ho sbagliato io per caso? io di certo non ho sbagliato perché ho sbagliato? no e chi è che chi è che di vostri si mette a FK? eh a FK non si fa rapire perché a FK no 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 dopo il rapimento sono tornato ho visto l'azione non sta con noi è una persona a parte che anche se vuole impromettere anche altre volte è una persona a parte che si chiama burger e collabora con la concessionaria auto no 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 lavora in concessionaria auto non fa parte né della gang di Dino né nella mia cioè della nostra del burger non mi interessa chi è il tipo io sto raccontando il ticket di oggi vi abbiamo annullato quella parte fine ok se il ragazzo viene da me a dirmi ma vuoi sempre venire giù di te no vi abbiamo annullato l'azione chi è? non mi interessa quindi imparate a giocare non che io voglio la ragione mi ha detto abbiamo fatto 10 ore d'azione ieri sì sì azione annullata che fa ridere perché è vero che avete rapito viola, verdi, gialli e le saponette ma tutte rapite da fail quindi invece di fare i maghetti dell'RP e dire che gli altri vogliono ragione imparate sui vostri errori io sono il primo che se sbaglia lo dice no tu sei il primo che dice eh devi sempre avere ragione di te ma come cazzo ti permetti se vuoi avere la ragione di te però non sto d'accordo ma stai ancora continuando ma devo veramente offenderti non mi pare che ti sto offendendo Luc cioè non capisco ma scusa per dire alla persona tieniti la ragione questo non è offendere assolutamente quando io ti sto parlando da admin da regolamento infatti ho detto se hai ragione va bene ragione ragione ma uno che mi risponde se hai ragione tienita tu non sai un cazzo di regolamento non dovresti nemmeno giocare sul mio server hai detto che io faccio fail quando io ho fatto tutte le azioni di regolari ho detto che avete fatto fail fate leggere i ticket che voi stessi aprite se quell'altri sbagliano purtroppo non posso quell'altri quell'altri giocano con te non con me quell'altri quindi non fare il portavoce di sto cazzo perché se i tuoi sbagliano non voglio io la ragione ma i tuoi hanno sbagliato ed è italiano è palese è scritto capisci? quindi ti ripeto non ti permetterei mai più a dire che io voglio la ragione se i tuoi amichetti non sanno giocare e voi stessi sbagliate e voi stessi rompete i coglioni aprendo i ticket e io devo svegliarmi la mattina rispondere ai vostri cazzo di ticket in torto oltretutto vengo in riunione ma vuoi sempre avere ragione te ma impara il regolamento assurdo io dico sbagliare tutti possono sbagliare ma almeno capire di aver sbagliato eh perché tutti bravi a dire vuoi sempre avere ragione te perché non lo dice la gente? no noi abbiamo fatto un sacco di fail ieri nelle azioni un sacco di metagame e fail però poi abbiamo aperto anche i ticket perché ce li hanno annullati questo non l'hai detto stavo ascoltando la riunione non stavo guardando e allora di la verità invece di accusare gli altri eh ti ho detto che stavo ascoltando la riunione eh sì quando ti conviene eh sì ah no poi ti rispondo vabbè c'è ragione te no me l'hai detto te ora eh c'è ragione te tienita tienita la ragione poi fai tu dai vai andiamo avanti per favore va scusate avevamo i maghi dell'RP manco nella conoscenza guarda perché voi uno dell'esterno può anche dire ma chi è pazzo questo che urla eh già tanto la mattina rispondere ai ticket mi alzo io mica ve lo alzate voi voi basta che accendete la non ce le giocate tutto il resto lo fa Luke tanto poi per la riunione si permettono anche di dire ma io non ho fatto niente hai sempre ragione te alzano le mani poi intanto i ticket li aprono dai andiamo avanti una cosa eh non si possono rapire le persone eh tipo che stanno farmando i polli eccetera però c'è scritto nel regolamento che non ci sono manco eh le zone safe questa cosa non l'ho capito eh eh ma avrei di cose da dire però purtroppo è anche italiano guardate che no ma infatti c'è qualcuno in live queste cose tante cose potrei dirle guardate che guardate che nel regolamento c'è scritto che non si può rapire nei punti ma durante il trasporto sì c'è scritto così ah sì però più o meno da mettere vicine quelle cose e da vicine quando vanno da un punto posto all'alto qual è il problema ah se sì allora vuoi sapere la differenza si bene il regolamento c'è anche una parte dove si parla di buonsenso andare a rubare sul blip dei polli vai a rubare su un blip di una persona che sta facendo i cazzi suoi e nel blip rimane bloccata si chiama buonsenso se poi a te piace giocare col ponzi 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 po vincere facile vai a rubare la gente sui polli e come dice il detto vai a rubare i polli sta cosa le fanno pure nelle droghe comunque però si chiama buonsenso e non arrivare le droghe sono zone rosse sì ma se sei bloccato ma che c'è in trezza zona rossa allora ragazzi perdonatemi domani facciamo una nuova riunione alle 15 non di rp ma di italiano va bene? vi prego di presentarvi perché prima a questo punto si impara l'italiano poi forse regolarizziamo il regolamento di code perché qua si sta andando oltre la cosa è certa non puoi andare contro il regolamento si chiamano limiti di gioco buonsenso però ripeto non arrivare da soli al buonsenso vuol dire che veramente siamo in alto mare qua dentro ma è anche una questione di estetica cioè di io non lo so ragazzi le miniere vi faccio due ipotesi di azione vi piazzate lì davanti al blip aspettate che quello viene a prendere le pepite gli puntate la pistola gli rubate le pepite e ve ne andate opzione 1 opzione 2 vedete uno che va alle pepite vi allontanate di qualche di due trecento metri andate su sulla strada quando arriva fate un inseguimento lo fermate in corsa questa è l'opzione 2 ma secondo voi qual è la più la più logica la più bella la più divertente la 1 che è da vigliacchi e mettersi davanti al blip o la 2 che te la devi giocare e dai la possibilità anche a quello di scappare ma vi dobbiamo spiegare queste cose ragazzi veramente vi dobbiamo spiegare queste cose io l'ho detto l'altro giorno in una riunione nostra interna che io sto iniziando a perdere completamente le speranze è che per colpa di questi soggetti si sta rovinando completamente la mentalità italiana dell'RP ma non è in code è proprio in tutti i server è una mentalità italiana siamo sotto molto molto ad altri paesi tutti vogliono vincere tutti vogliono farmare tutti vogliono i soldini ma che cazzo ve ne fate dei soldi in GTA che ve ne fate pistola macchina a casa che cazzo volete ancora ma andate a fare l'RP andate a fare gli Sherlock Holmes poi quando perdi la pistola poi andiamo a darvi il culo la pistola hai rubato i polli hai rubato 12 mila dollari che hai fatto sei ricco ma lo fanno veramente ma perché non venite a fermare a me perché non ci rubate a noi il camion pieno di armi ma sai che è bello no sta cosa di rubare le cose agli altri c'è ragione noi ripiamo 4 pistole e ne abbiamo peste 12 ma tanto l'ho detto le azioni nel server sono solo contro di voi basta possiamo fare un server solo tra di noi spendo meno pago meno script tanto giri in città non c'è mai nessuno mai ma posso fare una domanda vai domanda noi stiamo cercando di organizzare una gara di motocross ma è un'idea così stupida o è proprio perché la mentalità delle persone non esiste l'RT in questo caso la domanda qual è la scusa? la domanda è perché le persone non vogliono partecipare alla gara di motocross ma pensano più o più o più io per esempio di questa gara di motocross non l'ho mai sentito ma io ti dico soltanto che nello scorso wipe quando organizzavo le cose io andavo a rompere i coglioni direttamente nell'azienda e poi si presentavano perché se iscrivi su Twitter domani c'è la gara di motocross e nessuno si lo cade io ti assicuro che il 97,4% delle persone su GTA che hanno l'account Twitter non hanno attivato i feed a schermo io per esempio non so mai quando mi scrivono su Twitter grazie prego ragazzi organizzare un evento nel server non è una cosa semplice bisogna programmarlo con giorni di anticipo e farlo sapere al più grande numero possibile di persone in un attimo di molti molti problemi quindi stiamo un attimo in in questa situazione ti ricordo che stiamo cercando esiste Discord esiste gli annunci ufficiali gli annunci che fanno gli admin esistono mille modi stiamo cercando comunque vedi dipendenti ma i dipendenti non ci sono perché WZNUSU lavora anche fuori RP lavora fuori RP quindi quindi sì perché devi fare un po' di editing di video in giornale non c'è sul RP ma se me lo faccio fare l'editing me lo posti sul giornale a prescindere com'è? se io me lo faccio da sola io ad esempio volevo pubblicizzare il perito perché devo riaprirlo no? però non c'è stato nessuno con cui poter parlare se io me lo faccio per i miei me lo pubblico lo stesso? certo vabbè se per ora devi pagare mi sa perché se no ci vedo che lo fai vabbè io pago per avere la pubblicità messa ovviamente non vedo nessun problema come si possa fare ok mi fate pagare il meno del meno giusto? sì so povera che devo aprire il locale ce la capite che povera Alexia vai nell'azienda 1 eh vabbè proprio l'azienda 1 io ancora vi devo una fattura mi dispiace voglio bene però insomma io ho finito fate finta che non ci sono altro? così me ne vado vado a imparare un po' già le più vediamo se c'è la mia insieme allora siamo due dunque ci sarà la scuola stasera io volevo fare una domanda solo vai al regolamento 7.41 cioè 7.41 no? che dice che mafie e alleanze no? aspetta perché sento te è una televisione quindi non riesco ok alzo un po' più la voce al regolamento 7.41 7.41 però aspetta potresti abbassare la tua voce e alzare quella del televisore che è più interessante grazie niente no ho letto che mafie e alleanze questa cosa qui valida solo per mafie o è valida anche per le gang nel senso le gang è valida per tutti per tutti ok quindi se io ho gang e voglio fare un'alleanza non un'alleanza ma una collaborazione con un'altra gang per uno scopo reciproco e comune possiamo farlo è accettata oppure si possono fare tutte le cose che volete l'importante è non avere amicizie vere e proprie io non posso essere amico dell'armeria e unirmi nelle azioni quindi in quel caso lì io non posso essere amico magari di uno che sta in un'altra gang e fare un'azione ma è normale che puoi essere amico ma puoi essere amico di uno di un'altra gang non della gang ok va bene perfetto grazie della lucidazione ovviamente essendo una gang però non si deve manco andare in polizia a cercare le persone no a forza aiutare dalla polizia vabbè quello è RP di gang è tutta un'altra cosa però ragazzi penso che sia una cosa normale ti fa aiutare solo se alirete come prima la polizia va interpellata per far fare RP sia la polizia che a voi la polizia non va chiamata dopo che si perde un'azione e si è per terra no no non sto dicendo questo io io gang devo cercare una persona non la trovo e mi affida la polizia c'è chi se la cerca per i fatti propri chi si affida alla polizia sono fatti i vostri ma guardi che appunto in fila non è considerata un'alleanza alleanza con la polizia non è mica una gang la polizia tu da solo non sei riuscito a trovare quella persona quindi magari vai dalla disperazione uno fa ciò che vuole puoi anche chiedere aiuto ad altre gang ma un conto e chiedere aiuto sotto forma di pagamento o favore dei picciproco un altro essere amico di un'altra gang per esempio il vecchio di merda è amico di tutti e farà una brutta fine non è vero non è vero non è vero non può perdere la voce è tutta la cazzata ma perdi la voce vabbè c'è da dire che il king si è girato veramente tutte le attività quasi e ne mancano due per esempio ho scoperto che zai che le fa delle cose l'ho scoperto e offre epine epi non so nulla ma sono cose anche quelle da alleanza perché se io ho una situazione contro qualcuno ci sei no cortez e poi viene a sapere so già dove vuoi andare se viene a sapere che quello dell'armeria li ha avvisati mentre noi andavamo e mi dispiace quella alleanza perché non ha ne pagato ne fatto altro perché tu in un'azione hai avvisato i sicari facendoli scappare e lì si è in 8 contro 4 per la fine perché tu sei parte aggiuntiva io li ho chiamati dicendogli vi stanno cercando eh cazzo noi abbiamo preso l'appuntamento tu gli dici vi stanno cercando quelli abbandonano l'appuntamento però fai parte aggiuntiva della ho capito eh ma ho capito ma tu scusami eh tu quando chiami i sicari ti pagano devi pagarli per le informazioni per killare certo perché tu gli dai informazioni gratis siete amici allora sì siamo cioè abbiamo dei buoni rapporti io l'ho già detto eh Zai Chele questa cosa a me mi spiace questo è l'alleanza io l'ho detto anche già quando ancora non giocavo non giocavo con Luke non entravo quasi mai nel server e mi è capitato di vedere quell'azione in cui voi avete rapito Ettore eh nella quale tu hai telefonato a Cesar e lui ti ha e Cesar ti ha dato informazioni sul fatto che avevano rapito Bretello e cosa gli aveva risposto alle domande io l'avevo già detto che questa qui si configura più come un'alleanza che come un rapporto di lavoro siete amici non prendiamoci per il culo no beh aspetta tu non avevi pagato Zai Chele per ottenere quelle informazioni eh Cesar per ottenere quelle informazioni te le ha date di sua spontanea volontà e questo configura il fatto che voi invece di essere due entità separate siete allora tutti i soldi che io ho dato al ai sicari non valgono niente tu mi stai dicendo a prescindere no 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 aspetta a prescindere da tutte le altre azioni noi i soldi che ho dato le pistole e tutto il resto senti i soldi che tu dai al sicario si esauriscono nel momento che il sicario ha portato a termine il suo incarico poi basta allora noi con l'armeria non è che abbiamo un rapporto diciamo solamente di azione eccetera perché con l'armeria anche noi da parte di RP non gli possiamo andare contro perché è l'unica diciamo azienda che ci ha permesso di crescere e quindi no è sbagliato se tu dici che non puoi andare contro allora se tu mi dici che non puoi andare contro a un'altra fazione del gioco vuol dire che è un'alleanza punto ok ragazzi ragazzi l'italiano è italiano domani alle 15 tutti i progetti per l'italiano volevo volevo dire ma mi spiego meglio il gioco allora volevo dire se ci dobbiamo mentre contro l'armeria ok normalmente se Zaghele ci fa un torto noi ci mettiamo contro ma diciamo poi è loro che ci hanno cresciuto vi scambiate informazioni anche al di fuori dei vostri contratti di lavoro e questa ragazzi è un'alleanza io l'ho già detto e lo ripeto voi violate il regolamento con questa cosa se noi andiamo a cercare se noi andiamo da Zaghele lo rapiamo gli puntiamo una pistola alla testa e lui non vi dice la parolina chiave che vi siete sulla quale vi siete messi d'accordo che vi deve dire questa porca puttana è un'alleanza e voi non lo volete capire cioè non è che uno vuole venirvi contro però ragazzi è così io a Tony non gli farò mai i favori per altre persone o mi paga e quando poi per esempio faccio un esempio Cortez proprio l'esempio papale una volta ci siamo uniti all'armeria vi ricordate quando abbiamo teso la trappola a Tony per farveli prendere alla fine la trappola era per tutti e due che chiediamo una mano a voi noi ma sei pazzo no a me a me dà fastidio semplicemente che Cortez già dall'inizio da quando si è partiti quando ancora i sicari non erano gang si pensava che era tutta una gang unica quando invece fatevi dire dai sicari quanti soldi ho sborsato per fare le azioni io le mie considerazioni le ho fatte alla luce di quello che ho visto e le ho fatte fuori ok cioè io ho visto appunto il rapimento di Etton nel quale tu chiami Cesar e lui ti dà delle informazioni che esulano totalmente dall'azione in corso cioè ti dice che hanno rapito bretello ti dice che bretello gli ha detto determinate cose cioè non era tenuto a darti delle informazioni di quel genere non erano per niente pertinenti all'azione in corso ok poi l'altro giorno off-rp lo ripeto io in rp non lo so noi ti rapiamo tu non dai la parola codice che avete cioè ragazzi ma che parola codice fermati quale parola codice loro mi hanno detto e l'hanno detto off-rp quindi non ho ragione di pensare che stiano mentendo che voi avete una parola in codice che se o una determinata frase che se tu li chiami e non lo dici no assolutamente no l'ha detto sesaro l'ha detto no assolutamente no e io ti dico noi facciamo armeria e sigari per stare tranquilli andiamo in due zone a parlare o nel mio covo ok oppure davanti all'armeria ok io voglio sentire Pingu che l'altro giorno off-rp off-rp mi ha detto che avete un codice il fatto il fatto come che aveva accennato sesaro e poi io gli ho continuato non era la parola in codice se per sé era che quella sera Zagheras ha detto venite soli all'armeria e quindi questo solo all'armeria si è trasformato quella sera in una parola in codice perché abbiamo visto la trappola ok perfetto quindi c'è una parola in codice ci sono due fazioni una parola in codice bene ragazzi ci sono due fazioni che si guardano le spalle l'una con l'altra e a me a questo per quello che mi riguarda questa è un'alleanza potete dire di no quanto vi pare ma per me rimane un'alleanza oltre che lo scarso RP di molte persone a me dispiace dirlo però ragazzi lo dico per migliorarsi e migliorare tutto vi abbiamo tolto un sacco di ardi tolto un sacco di soldi vi abbiamo rapito tutte le persone possibili immaginabili ci incontrate e ci salutate io fossi stato all'armeria già il primo rapimento della ragazza avrei ribaltato la città voi niente Luke abbiamo da fare un sacco di cose in armeria non possiamo stare al passo non possiamo stare al passo Luke non c'è il blip nell'armeria che prendi e prendi i soldi o prendi i materiali e li metti nel camion non è così non è così perché per fare 5 MP5 non sai quanti camion ci vogliono non lo sapete ragazzi il ragazzo è il ragazzo ma infatti io sono qui per fare la gang criminale ok il ragazzo che si è lamentato che l'armeria è sempre chiusa venisse a fare il colloquio però un colloquio che non mi viene detto esiste il porto d'armi di livello 3 e col porto d'armi di livello 3 vendiamo gli AK perché uno che mi fa il colloquio del genere lo prende a calcio in culo e lo sbatto fuori dall'armeria ok la pistola 6 mm 8 mm e 7 mm la pipistola ah la pipistola e la pistola perché sono tutti bravi a parlare sono tutti bravi a parlare però io voglio fare le azioni mi sta bene anche che vengo rapito mi sta bene che perdo anche la sparatoria mi sta bene che perdo anche le pistole però poi dopo se noi abbiamo da gestire un'armeria e nello stesso tempo dobbiamo gestire anche la parte criminale e quindi il farm le cose non come le altre gang che stanno all'ottavo al nonno al decimo punto ci vuole un attimo di tempo per noi armeria per riprenderci un attimo ok perché nello scorso wipe l'armeria non c'era a livello criminale faceva solo armeria e più volte gli admin mi hanno detto l'armeria è una delle delle attività più difficili la più difficile è l'import la seconda è l'armeria per fare un cecchino ci vuole un pounder custom e un pounder normale per fare 5 mp5 da dare alla polizia non so quanti pounder custom ci vogliono purtroppo la vedo in inversione diversa quindi è lo stesso discorso che fece delitto l'altra volta ieri bastano due tre giorni si fa magazzino e per una settimana facciamo ma come fai a fare magazzino senza soldi mi dici senza soldi poi avete macchine macchinoni camion e burattini dai perché le armi costano tantissimo da fare come posso fare allora noi facciamo cassa con le 9 mm ok noi ne abbiamo attualmente 14 quindi le 9 mm ma com'è che io con un negozio al nord facciamo 1-2 milioni al giorno e tu con il negozio al centro non fai soldi io gli faccio i soldi ma infatti tutti i soldi che ti ho dato a te delle varie cose sono soldi miei non dell'armeria sono soldi miei Luke e te lo possono assicurare gli altri ho capito facciamo un magazzino ma capisci che se mi ordinano 3p90 sono oltre 3 milioni no sono 2 milioni e mezzo ti fai pagare in anticipo si chiama rp esatto mi faccio pagare in anticipo però li devo andare a grappare chip chip lo scorso wipe aveva i tuoi stessi identici problemi sbaglio cortez ho fatto io due giorni di armaiolo per insegnarli a lavorare chip ha completamente cambiato il modo di giocare c'erano gli stessi ma l'armeria nello scorso wipe ha iniziato a fare azioni su azioni mi dispiace ragazzi è così io non l'ho mai vista l'armeria nello scorso wipe ma c'è un'armeria nello scorso wipe andava a fare relazioni con bianca alla mix ti ricordi cortez che dici fatto sta che non so che materiali c'erano nello scorso wipe qui ce ne sono una marea non è cambiato nulla anche chip si lamentava poi quando chip ascoltò il mio consiglio iniziò a fare cassa facendosi pagare in anticipo dalle persone addirittura chip veniva all'import non all'import a casa mafia a chiederci prestiti te lo ricordi cortez hanno accorto se non era con noi c'è la vic infatti noi ci facciamo pagare in anticipo il problema è che se mi chiedono 3p90 ok e mi faccio pagare in anticipo io comunque le devo andare a craftare si ma perché questo è il discorso sbagliato io le p90 le avrei craftate prima e le avrei vendute ad altre persone ma con quali soldi le faccio partire io con quali soldi siete in 25 e mandali a lavorare a parte che non possiamo craftarle prima che il porto d'armi di livello 2 venga inserito come facciamo a maggior ragione tu i soldi a me li hai dati non avete neanche provato a difendervi o non darmi i soldi sei il babbo tu che mi hai dato i soldi perdonami avete perso un sacco di armi contro di noi cercate di non perdere le armi no io armaiolo non aspetto che me li chiedano li faccio e faccio partire le mie mode è lo stesso discorso di delitto dammi l'armeria oggi per due giorni ti faccio vedere come cambia completamente le avete perse voi le azioni potete anche non perderle me li hai dati tu i soldi potevi non darmeli Luke ma se stavamo io a zibo dentro l'armeria in due siete entrati in set ma io che devo fare ti devo cacciare l'arma e sparare ma me lo spieghi non è colpa mia sei stato in due dentro l'armeria ho capito invece vabbè poi dico cose non dovrei dire mi dispiace mi dispiace eravamo in due in quel momento che potevo fare devo fare no fire e sparare che c'è ogni azione è una conseguenza però voi non c'è mi simpatia in chat sono entrato la laurea e chip gli ho fatto cambiare completamente la mentalità in quell'armeria ma nemmeno noi prendiamo stipendio ma nemmeno noi prendiamo stipendio dall'armeria mi chiamano investimenti invece di andare ai sicari e darle un milione di euro di dollari per prendervi uno andate a prendere voi risparmiate avete riempito i soldi i sicari sono tante cose con tutti quei soldi che avete dato a me ai sicari e le armi perse avete fatto 5 a K e già venduti perché un conto è che aspetti l'ordine un conto è che ce li hai e cerchi di piazzarli nel mercato si chiama mercato apposta è lo stesso discorso che fece delitto perché avete la mentalità sbagliata della vendita io non posso avere un negozio e aspettare l'ordine io devo venderti quello che ho se io ho bisogno di soldi mi vado io a fare 2p90 e cerco di venderle oggi stesso non si tratta di 2p90 perché la gente non voglio veramente mi dai l'armeria due giorni due giorni non ne voglio tanto due giorni l'armeria ti prego feci così anche con l'import feci così anche con la concessione da camion feci così anche con la polizia dacci questi consigli che hai dato anche a chip e vediamo di farli come quanti soldi hai vederato ai sicari quanti milioni non li ho contati non li ho contati però comunque quante armi facevi in anticipo quello sicuramente però io perché mi devo privare di una cosa di fare azioni per dare per poi dopo fare cassa cioè io la cassa la faccio con i soldi dell'armeria scusami non è vero non è vero un cazzo quando io ho avuto la concessionaria a camion quando io e Vic abbiamo avuto Vic ci sei? c'è Vic quando ti ha chiamato? sì sì ci sono quando abbiamo avuto il primo import andavamo noi a spacciare per mantenere l'import che cazzo ha dato la cassa dell'import? esatto ora vi dico anche una differenza siccome io andavamo a fare le rapine in banca ai tempi di Vigorsol per mantenerci la concessionaria a camion le rapine in banca facevamo per dare lo stipendio a Ciara ti ricordi Ciara? aspetta io vendevo un botto di camion però anche scusami stavo tutto il giorno lì a vendere Ciara i camion li vendevi sotto ordine o ti dicevo io compriamoci camion e rivendiamoli subito? è lo stesso discorso che facevo sempre a Delitto le macchine te le compri tu vai a spacciare vai a fare le rapine ti compri le macchine e fai partire la moda nel server e poi il guadagno dei camion non era un cazzo una volta mi ricordo il 20% ah c'erano Max con noi ai tempi sì c'erano ma stai scherzando avevamo il tempo di fare tutto io non so perché le attività oggi non riescono più sì ma solo alcune perché io ho guardato tutte e tre le aziende solo l'azienda 1 ha investito i soldi infatti ha un casino di roba magazzino già pronta invece azienda 1 azienda 2 quando era attiva craftavano lì per lì i materiali che servivano al cliente ma è la stessa cosa già questo vi fa quando io all'inizio facevo il Torino avevo il negozio mi facevo magazzino nel negozio e ogni giorno cioè io ragazzi le mie live magari mi facevo sette ore in una live di culo perché sai di fare magazzino al negozio ma poi per i prossimi 4-5 giorni vivevo di rendita ha voglia fare azioni infatti l'obiettivo principale delle aziende è riuscire a fare magazzino perché i giorni dopo puoi fare tutto quello che vuoi ah aspetta Vic c'è a dire una cosa però che l'armeria non so quanti sono sei, sette, otto e la maggior parte neanche prendono stipendio perché sono tutti imparentati i figli, i nipoti finanzati noi all'import avevamo 30 minatori da pagare tutti i giorni ogni carico 30 minatori dovevamo sempre avere soldi in contanti per pagarli li compravamo noi i camion a loro cioè diciamo le cose ovviamente poi c'era quello che si lamentava io voglio lavorare dovevi fare tante per accordare io con il torino che mi sono impegnato ho fatto la pubblicità ho fatto un sacco di cose guadagnavo almeno un milione al giorno con il negozio al nord in culo ai lupi è possibile che tu con il negozio al centro non faccia soldi no io gli faccio i soldi te l'ho detto anche con meglio olio e allora evidentemente li investisci male li investi male scusami ma non è un'offesa una critica cioè c'è tanto si può anche imparare a volte secondo me li investi male o tutta l'armeria li investe male o non siete una famiglia io Vic eccetera eccetera quando prendiamo in mano un'attività a noi non ce ne fanno io e Vic nello scorso Wife avevamo la mafia ti ricordi? io e Vic non prendevamo stipendi oppure di darlo agli altri non ci interessava a noi guadagnare non è che io ci devo guadagnare per poi comprarmi le auto o chissà che cosa ma è un esempio è evidente male evidentemente li investite male Cip ragionava al tuo stesso modo quando ho messo mani io all'armeria Cip ha completamente cambiato ci chiedeva i prestiti aveva tempo di andare alla mix a fare i danni ai casini perché Cip a un certo punto in poi sempre sparatorie faceva allora faremo pure così anche noi così dovete riuscire a fare il magazzino ma è possibile che io io devo scoprirmi da solo in RP le armi e venire a chiedere se ce li hai quando in realtà voi dovreste far scoprire le armi al server su The Bronx anni e anni fa l'armeria si girava le aziende con la valigetta a fare i rappresentanti sì ma su The Bronx c'era anche un altro tipo di crafting Luke perché c'ero pure io su The Bronx io vi sto parlando della parte marketing non della parte lavorativa però era anche più veloce il fatto del crafting ma non vi ho mai visto però con la valigetta a fare marketing in giro a fare rappresentazioni perché non abbiamo tempo posso fare una domanda ma sei solo tu a lavorare le armi lì dentro? no ci sono altre sette persone e allora metti anche le altre sette persone a lavorare non lo fanno ma infatti noi siamo sempre a lavorare ieri sera i ragazzi non si sono fatti vedere in RP perché hanno fatto avanti e indietro non so quante volte no una lì io ho l'impressione perché siccome ho parlato anche con qualcuno di voi hai sbagliato il metodo di lavoro hanno paura te lo dico io hanno paura a prendere persone nuove perché dopo gli scoprono il posto del crafting no l'abbiamo anche detto qualcuno ha espresso questo problema e io ho detto raga se gli insegnate quello va a lavorare è ovvio che se di licenza se lo ricorderà sempre il posto quello è ovvio infatti David lo sa dove è il punto infatti adesso lui sta col casto non è che abbiamo paura non è questo che deve avere paura però ti dico la verità cioè vengono a fare i colloqui li faccio la maggior parte delle volte io o li faccio a Bubu veramente ragazzi c'è da mettersi le mani nei capelli cioè ci dovresti stare tutto il giorno ci dovresti stare tutto il giorno lì a spiegargli a stargli dietro a stargli con il database in mano fargli capire qualsiasi cosa ma davvero ma seriamente non sto aspettando però davvero io a volte a me dispiace con chiunque parlo con delitto l'altra volta ci ho discusso veramente quasi parla non si può anche come spiegarvelo non sapete vendere è questo il problema è gestite male il vostro lavoro stare tutto il giorno a farmare come dite voi non ho tempo è perché evidentemente sbagliate a farlo non so ragazzi io voglio dirlo a mia noi io sono il gestore del Bahamas e devo dire che da quando siamo entrati in città a oggi grazie anche a in gioco mio fratello Andrea noi ci siamo fatti la clientela siamo sempre andati in giro a cercare la gente i negozietti i locali l'ospedale l'armeria in questo caso abbiamo praticamente tutti i negozietti nella città tra l'altro anche Torino ci siamo sempre sbattuti a cercare gente e la gente ha fatto sempre ordini da noi quindi basta anche solo uscire dall'azienda e andare in giro come ha detto Juk andare in giro ascoltami l'ho avuto pure io il bar l'anno scorso cellati il wipe scorso tu c'hai un blip no 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 aspetta tu c'hai un blip dentro al Bahamas che prendi il kit drink il kit food lo fai hai fatto fine d'accordo ma comunque devo andare di carlo sì ma devo comunque andarmi a cercare la gente il problema dell'armeria non è cercare gente la gente ce n'è pure troppa il problema è che fa le armi e noi ecco c'è una cosa io credo che questo Oz se lo può ricordare Oz ti ricordi quando per fare le munizioni di pistola bisogna fare uno 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 non è che ora è più semplice ok ci devi mettere le munizioni sono più veloci ma il resto no quindi non c'entra niente ma poi l'armeria è solo uno non è che non c'è il fatto è questo il fatto è questo ora chiedervi di riempire immediatamente i magazzini credo che sia una cosa impossibile le cose vanno fatte nel tempo ogni giorno un'ora e mezzo un'ora quel che è in sette vai lì crafti porti il magazzino metti via tempo una settimana ti sei riempito il magazzino noi facciamo questo tutto il giorno noi tutto il giorno facciamo no no Oz non mi piglia per il culo io ho avuto fino a settimana scorsa fammi parlare settimana scorsa uno dei vostri che si è lamentato pesantemente perché era l'unico stronzo che andava a fare le cose è per quello che non avete magazzino ma non è vero addirittura io io sono venuto a comprare fammi parlare Corvina per favore sono venuto a comprare proprio due giorni fa due pistole normali 9 mm e 4 ventone pesanti ho chiesto al ragazzo cosa hai di pronto? niente ripassa domani sera se ti fa fortuna questa è stata la risposta quindi noi ci pigliamo per il culo grazie anche l'Octas che gioca con voi è venuto a dire ci sto gestendo tutto da solo ma la maggior parte delle volte è vero siamo in tre adesso perché c'è anche l'armeria anche lui sta venendo spesso su noi quando l'Octa però in tre ma ok io infatti questa cosa è vera sì ma noi in tre se fai una pistola in sei ne avresti fatte due di pistole e se la matematica non mi dà contro è già il doppio io io non sto dicendo non sto dicendo delle pistole noi di pistole ne abbiamo 14 in fondo cassa ok pronte all'uso il problema sono le altre armi la gente non può pretendere almeno ad inizio non è colpa della gente è un fatto di soldi Luke come fai a dire che in tre dobbiamo bisogno di soldi che non abbiamo io ho capito vai a chiedere un prestito vai a fare una rapina vai a battere sul marciapiede fai altro sicuramente se hai bisogno di soldi non vai a dare milioni e milioni ai sicari porca troia ma dove hai studiato il marketing nelle patatele ringo dove hai studiato e a parte che i soldi ai sigari è da un sacco che non li do da quando sono diventata gang è da un sacco che non li dai però se non li avessi dato quel sacco non li stai a investire a me 3 milioni mi hai tirato senza contare tutte le armi perse chi ti ha detto di darmeli? ora è un offero hai fatto anche il buffoncello per telefono perché perché mi ricordo che il debito era un milione è arrivato a 3 milioni perché avete fatto i buffoncello perché io non te l'ho pesato perché non volevo dartelo se uno ha problemi di soldi cerca di risparmiare non se ne crea degli altri di problemi quindi conviene in me che gestite male? sì ma sicuramente ti sto dicendo che gestiamo male con i consigli se me li vorrei dare o comunque sia sono questi qua proveremo a a sistemare questa cosa però all'inizio quando è partito ieri il portodarmi di livello 2 la gente non può pretende che in stock abbiamo già i P90 le Scorpion e tutto il resto capisci? però magari posso chiedere una cosa ma l'allarmeria si possono fare prima le armi prima di avere il portodarmi di livello 2 attivo? no mi hanno detto gli admin mi hanno detto di no non si vengono hanno detto dimmi l'elenco degli admin di detto di no io penso che non si sia abbiamo detto che non si potevano vendere e oltretutto Vic e le Corp possono dirlo io mi incazzavo dicendo fate uscire sti cazzo di portodarmi però io andai in polizia a chiedere se le rilasciavano prima noi portodarmi di livello 2 così noi potevamo cominciare a craftare le armi e dissero di no ma con le maria non sono admin però eh lo so anche qui se ha il buon senso io mi porto avanti col lavoro quando ho la possibilità inizio a venderle ma per craftare portare le armi dovremmo avere per questo ho chiesto il portodarmi di livello 2 capito? cioè per averle per trasportarle tutto qui e non c'è stato dato prima come portodarmi di livello 1 anche lì anche lì io sono sicuro perché ne sono sicuro ma poi si parla sembra che siamo tutti quanti i maghi del marketing e venditori di non lo so di folletto di aspirapolveri io scommetto che quando viene la polizia a fare un grosso ordine voi l'ordine lo attendete non ve l'andate a cercare non fate i rappresentanti quando viene un poliziotto non cercate di vendere il doppio della roba io mi ricordo una volta vennero dei poliziotti a fare un ordine del cazzo all'import ti ricordi Vic? erano due giornate sono andati via con quattro canyon si è perpata la roba quindi non mi dite tutti quanti venditori esperti adesso gentilmente sicuramente sbagliate nel mondo di vendere non pretendo non pretendo che voi siate venditori però non dire che non è colpa vostra con la polizia potremmo tranquillamente magari dire insieme a questo prendetevi anche 5 combat capito aggiungiamo qualcosa invece non lo facciamo mai la polizia c'ha 31 milioni vi basterebbe un ordine fatto bene della polizia avete soldi per una settimana veramente sono 16 ce l'hanno tolte perché guardate troppo pensa un po' ci hanno anche chiesto lo sconto ma scusatemi l'RP scusate io posso fare l'RP venire da voi e dire potete fare uno sconto visto che comunque siamo la polizia voi siete voi a dire no certo mi fai il doppio dell'ordine sai quanti sconti ti faccio? eh ho fatto 10 mp5 più tutte le munizioni più me ne prendi 18 ti faccio lo sconto questo è trattare quindi ah sono d'accordo io personalmente vanno in armeria fermi aspettano il cliente non è vendere e poi dire eh ma 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 non è ma sbagli tu quello è fare il blip vivente che cosa? io non voglio fare il cattivo però davvero ragazzi sbagliate sbagliate il il metodo di lavoro ma è un apprendere non è che adesso non faccio più l'armaiolo si impara chip sbagliava peggio di voi all'inizio ho detto quello è fare il blip vivente stare fermi non far niente vendere basta almeno fai un po' di rp se fai la contrattazione ma che contrattazione ragazzi stiamo parlando che tutte le attività vi ho fatto un prezzario minimo e massimo e nessuno l'ha mai stiamo parlando dell'armeria perché è uscito prima l'armeria ma tutte le attività dei negozietti marketing zero il mercato dei negozietti l'avete rovinato voi e dopo che il mercato si è rovinato io ho smesso di mantenere il negozietto mi è passato alla voglia lo stesso discorso identico stessa identica discussione la ebbi con delitto per concessionare auto identica perché delitto i soldi li ha spesi per comprarsi le sue auto da 3 milioni l'una piuttosto che investirle nel negozio e poi in un riunione eh ma sono senza soldi porca troia c'è le macchine che costano 3 milioni io ragazzi non riesco a capire una cosa come mai la miniera quella là la prima perché io l'ho comprata appena no l'abbiamo già parlato prima ok costa un milione e i picconi 201 cioè che c'entrano i picconi con la miniera i picconi 201 ringraziate i vari non voglio far nomi perché dopo la gente si offende però io ragazzi i piccoli dovrebbero costare 400 esatto ma anche di più cortezza perché cioè te lo devo dire in rp sono andato a rapire 8 proprietari dei negozi ti ho detto di alzare il prezzo li ho minacciati di bruciare sono andato a bruciarlo ma hanno continuato a tenerlo a 200 e quindi mi sono ma guarda io ho spesso di mantenere il mio negozietto ma Luke hai ragione invece di guadagnare 300 giocano a ribasso che devo fare li ho rapidi tutti la cosa bella che quando li riprendi è colpa degli altri non di loro che non fanno no no le ho rapidi tutti tutti i negozi l'abbiamo fatto l'abbiamo rapito tutti l'abbiamo rapito quella al nord poi l'abbiamo messo in a 200 lui l'ha messo a 180 andando contro il prezziario dai ragazzi è una sbagliata proprio Maurizio un attimo qui mi sento posso dire una cosa un attimo il negozio perché te l'umina tutti un attimo io mi sento fesissimo su questa cosa perché 180 andate a controllare tutto quello che volete però Maurizio noi più di una volta abbiamo mandato le foto con scritto cambia sti prezzi perché sennò i miei prezzi sono sempre stati a 230 non li ho mai avuti a 200 allora chi è compre e vendi c'ha il negozietto vicino a Paleto che da almeno 3-4 settimane ai picconi a 200 vabbè ma comunque raga ma al nord è normale che siano bassi i prezzi perché sono quelli a centro che devono stare alti ho capito il problema è che noi a centro poi non vendevamo più non è vero io ve li faccio pure a 400 dipende dalla fretta che ha la gente il problema è l'avidità della gente perché io e Seba che abbiamo mantenuto essendo assenti abbiamo mantenuto i picconi a 2,90 anche quando tutti hanno ribazzato quando c'erano picconi in giro a 230 200 anche al centro noi ci siamo rifiutati di giocare al gioco al massacro e li abbiamo mantenuti a 2,90 tant'è che se perché così tant'è che Seba che riforniva tutti i giorni il suo negozio sei ritrovato con 11.000 picconi perché noi non vendevamo più neanche il piccone e mi tocca intervenire per far capire sempre collegandomi al discorso di prima della vendita io i picconi guardate tutte le mie live li ho sempre venduti più cari di tutti tanto che anche mio zio venne in RP a dirmi sto negozio è carissimo anche la polizia me lo disse ho sempre mantenuto quasi i prezzi al massimo si vendevi a 3,50 aspetta Cortez no fammi finire quando io riempivo oh ma sto rumore di merda tutto il giorno però quando urlo sta zitto allora sei stronzo quando io riempivo il negozietto e poi quittavo dal server entravo la sera dopo Cortez io mi accorgevo che non vendevo neanche un piccone sai quando è che vendevo tutti i picconi quando io rimanevo in negozio a fare RP e dicevo i materiali sono migliori il manico è diverso il mio scava di più e fai la truffavo la gente però facevo RP vendevo con la voce la stessa cosa collegandomi al discorso di prima se tu stai fermo in armeria quanto vuoi vendere devi andare in giro con la valigetta fare il rappresentante è uscita la pistola nuova quello sto dicendo che non fa mai nessuno l'ho visto fare solo ai tempi di The Bronx basta non devo dire altro perché l'esempio è quello se stavo fuori dal server non vendevo neanche un piccone sai qual era nel server li vendevo tutti sai qual era la strategia dei negozianti quando è iniziata la guerra del basso caricavano il negozio di picconi facevano il tweet dicendo picconi a 300 correte quando tutti li vendevano a di più così rincassavano subito nel giro di 10 minuti tutti i soldi che avevano investito erano contenti questo ha portato alla distruzione totale del mercato ma non escono il piccone è tutto l'acqua al pane io ho sempre venuto quasi al massimo i prezzi pensa che io ho avuto una discussione con Max con l'azienda 3 in RP ti ricordi Max? perché le ho vendute le manette le ho detto che i prezzi erano ottimi e invece le ho vendute al massimo 10 mila dollari 10 mila dollari un paio di manette non ho mai abbassato i prezzi seppur ho sempre venduto e vendi ancora se non ho sbaglio no io non lo so più rifornendo il negozietto mi è passata la voglia vabbè ma quello che c'è per quello io dico non mi sfidate datevi la remeria in mano due giorni per la faccia arricchire ma questo discorso lo fece anche con chip e l'ho fatto non devo dimostrare più niente alle persone io facciamo una cosa anche a quello che si lamentava prima che 400 mila dollari ogni due settimane sono troppi io non so chi era forse era però se li fai in un giorno infatti ti diamo il burger lui stavo pensando a chi se era sbocchette che era quello famoso che vendeva i picconi a 800 dollari violando il regolamento primo e secondo truffando la gente perché ovviamente spendevano di più di quello che guadagnavano però vabbè ognuno fa quello che vuole io gli feci un cazziatone in rp per quella storia lì io personalmente che sto dietro al negozio una volta alla settimana entrando di pomeriggio perché alla sera non ci posso stare dietro per ovvie ragioni io continuo a mantenere un guadagno che è superiore ai 400 mila dollari alla settimana quindi io non so come faccia lui che è nel centro a non riuscirci comunque volevo fare una domanda se hai intenzione di fare due giorni al Bahamas per me va bene ah quelli del Bahamas tra l'altro tre giorni che gli ho fatto un ordine e non ho ancora ricevuto te lo prepariamo oggi ma il Bahamas non è chiuso è un hamburger il Bahamas è aperto il burger che è chiuso no io ho visto anche il Bahamas tra quattro sere che vengo è sempre chiuso il Bahamas è da una settimana sicura che è sempre chiuso vabbè io sto leggendo delle cose assurde molto ridicole in live da Zaichele questo maio pomai e questa moira che stanno scrivendo un mucchio di stronzate guarda assurdo addirittura la gente veniva a comprare da me il negozietto sapendo che io ero in live per farsi vedere hai detto un'emerita cazzata perché io la gente la andavo a rapire al negozietto del vecchio taci per favore che fai solo figure di merda andavo a vendere i picconi a mano pensa un po' mi tenevo i picconi addosso e li andavo a vendere a mano in nero andavo alla miniera a vendere i picconi quindi taci per favore cazzo è un'altra cosa sinceramente è normale che tutti vanno da Luca a comprare perché è live dice Moira non è vero o anche se fosse comunque quando facevo l'armaiolo su The Bronx quando facevo come si chiama l'import o altre faccende comunque regaliamo RP una scena fatta bene come dovrebbe essere non mi hai mai trovato all'import sul blip a vendere mai ho fatto i concorsi all'import il minatore che si impegnava di più le regalavamo il camion quindi taci per favore si chiama RP a prescindere dalla persona io scommetto che se l'armeria oggi con le valigette in mano andassero a regalare RP bello alle aziende alle attività alle gang ai criminali facendo mostrando le loro nuove armi con una bella presentazione leggendo addirittura da Google la costruzione della pistola sono sicuro che chiunque comprerebbe a prescindere da Lucco Veno si chiama RP è vergognatemi delle cose che scrivete voglio solo chiudire la nostra cosa poi devo allontanarmi dall'altra invece di fare scena muta in armeria fermi a volte vado in armeria devo vendermi da solo le cose non sono mai entrato in armeria e mai nessuno mi ha convinto a comprare un coltello di parmeria a caso qualunque cosa mi sono messo due giorni quando facevo nel Torino ho fatto il negozietto gestito ti ricordi Cortez facevo dieci ore di live al giorno in negozio a me nei primi tempi mi trovavano sempre in negozio ho incontrato tantissima gente a me a Cortez non credo tu sia Lucco e non credo tu fossi live ed i soldi ne facevi tanti ma anche il vecchio a me venivano i clienti venivano stavano lì facevamo una chiacchierata gli spiegavo delle questioni dicevano dei prezzi gli spiegavo cioè facevamo RP poi compravano e se ne andavano io facevo un sacco di soldi ma era il primo che andava sempre da Cortez facevo RP sono il negozietto legame divertivo la cifra cazzo infatti c'era più gente lì che al garage centrale che era un negozietto mio cazzo però i garanti non entrava nessuno non vedeva nessuno li costringevo ma non veniva nessuno perché il garage non avete mai organizzato niente per migliorare sia le reti proprio che le scene agli altri perché è veramente ragazzi tutto piatto piatto Luca a proposito di questa cosa ora diciamo quando vado in concessionaria auto faccio un esempio entro si scelga la macchina ma si tu devi consigliarmi la macchina io non io non pretendo che dobbiate essere laureati in meccanica però cazzo apri google prendi la macchina a caso apri google e fai finta di leggere quattro parametri si chiama RP io boh non a volte entri nei locali tutti in silenzio si ma la gente non ha capito che l'RP non è il gioco 5M è in me divisarsi del personaggio e creare storie fingere le cose è un po' come quando entravo al Santos Custom Cortez ci ti ricordi li chiamavo i becchini entravi tutti i vestiti erano in silenzio vabbè adesso sono commessi al custom adesso al custom sono in 45 oltretutto la maggior parte delle volte è chiuso sempre chiuso quando li becchi nessuno conosce i nomi nessuno sa chi è la direttrice nessuno si conosce ma quella è fatta apposta comunque come cosa si cioè è fatta apposta vabbè neanche beccare gente dire non lavoro al custom ma lavoro al burger per esempio quella è FNRP e non lavoravo davvero al cazzo non lavoravo al burger non dico te dico gli altri ti l'ha detto tutti gli altri ti ricordi Cortez no questo non me lo ricordo Nino D'Angelo quello della sparatoria che tra un po' dovevo infilarle alla pistola sotto al piede e fare dire lavoro alle acosoli al custom vabbè quando c'è stata la sparatoria per ora non era in servizio ma chi c'entra eh quindi c'è se non è minacciato fino alla fine potrebbe anche mentire non si può mentire perché è un limite di gioco quindi io devo dire a tutti dove lavoro poi mi ritrovo è normale che mi ritrovo dieci gang al custom mi stanno dicendo che non posso mentire beh è normale non ci può mentire non ci può mentire come no raga io l'ho fatto fino ad ora è fatto male quindi devo andare in giro perché io sono la direttrice del custom ma non devi andare in giro però se uno ti rapisce non puoi dire il direttore quell'altro va bene noi abbiamo preso il direttore e abbiamo continuato l'RP ma è un problema eh ok ma se ci siamo messi tutti d'accordo perché ci sono mille rapimenti allora tutti cercano me e dico tu sei la direttrice cioè io con Ruggero ho fatto così noi abbiamo continuato l'RP perché siamo riusciti a stare al gioco ma da regolamento è fail vabbè allora no anzi scusami una cosa ora prendo questione non è per dire questa cosa perché diciamo io l'avevo detto anche all'Admin in Game eccetera ti ricordi quella volta quando abbiamo fatto un'azione di due ore contro e l'azione è finita quando ti siete abbiamo portato al muolo per fare le ultime domande e mentre c'eravamo molti quanti di pistole e tu sei buttata in acqua cioè ma no non è che ci siamo accadini verso di tema ma ultimamente tutti quanti fanno questa cosa ma in realtà ne avevamo già parlato ne avevamo già parlato perché voi avevate le pistole vi siete allontanati io me ne sono andate di spalle e non vi ho visti voi anziché dire sei puntata vi siete messi a commentare ovviamente ancora magari la pistola sei puntata e questo e quell'altro la prossima volta clicchi sulla L fai urla e mi dici sei puntata girati quindi sai che non lo so che sono di spalle io mi tuffo a parte i commenti che è stato fatto solamente uno da Zazà e di Makere ne avevamo già parlato avevate sbagliato l'azione era regolare commentata da un admin quindi di cosa stiamo parlando mi fai finire sto parlando di un'altra cosa che stanno tutti gli admin anche le persone io dico ragazzi se una persona sa che ci sono le pistole e si butta in un mare ok ci sta il fatto non ho fatto una fiera perché posso scappare ma io voglio capire dato che si parla di RP cosa pretendi una volta che ti sei buttata in acqua almeno che non hai un motoscafo cioè se io ti sparo in acqua come è successo con Enzi ma mi montavate da sopra se continuava così ok posso finire se io ti sparo in acqua in quel caso non è quindi il tuo corpo in quel caso in quella sera stavi in acqua abbiamo chiamato Aldo e è stato risolto Aldo in quella sera e ha detto Aldo vabbè dimentico ok ma io voglio capire a che scopo tu sai che ci sono sei persone sopra che ti puntano c'hanno le armi ti butti in acqua ti possiamo colpire ti spariamo tu cadi in acqua affogando cioè quello là cosa sarebbe ragazzi giusto per carire cioè ragazzi comunque Noenzi non la chiamerebbe disperazione cercare di ma infatti infatti quella è disperazione perché io ricordo questa regola l'ho tolta io sul mio servere ma in tutti gli altri servere vecchi regolamenti di FFM morire in acqua è permade in ogni caso no no ma io non sto parlando perché uno fare permade così non ci guadagna nulla però il coso ragazzi cioè nella vostra mente il senso c'era ad un altro gruppo io ho detto piuttosto che consegnarmi mi butto ecco qui quindi in quel caso non ho capito cosa stai contestando no in quel caso in quel caso quella sera contestavo il suicidio perché tu in quella sera ti sei buttato in acqua ma io mica so che mi sparate che ne so nella testa mia so che sto scappando in acqua poi mi hai sparato se mi volete fare il perma mi fate il perma ragazzi io me ne prendo le conseguenze in arricchio non me ne prendo niente in realtà è come la cintura che tutti quanti ora eh metti la cintura in realtà la cintura è automatica se io vengo rapito con le manette è mia preoccupazione farmi mettere la cintura non che anche io ho usato parecchie volte voli dalla macchina ti salvi ma in realtà è sbagliato io l'ammetto perché come quando mi hanno rapito a me perché volare dalla macchina ragazzi è un bug del gioco parliamoci chiaro in vita reale se non ti metto la cintura non è che voli dalla macchina però ti sfondi una testa sul mezzo beh magari voli anche dalla macchina qualora facessi un incidente qualora mentre vai vola perché c'è il bug del gioco comunque ci tengo a precisare che questo argomento l'ho uscito non per controdenza perché ripeto fare il permalett a questo c'è un mese di server si rovina solamente le storie non si crea altro l'unica cosa che se è stata forse la terza come è stato anche Ruggero che si buttano in acqua io non so cosa sperate di trovare in acqua c'è un sottomarino che buttate sotto mi scappate ma mi contavate cioè improvvisate lì non è che devi immaginare altro poi se volevi solo chiedere se era perma o no ti è stata quella risposta adesso non è per dire ma non vorrei fare il genio della fisica o altro ma se spari un proiettile sott'acqua il proiettile ti fa al massimo 5 metri se va bene quindi potremmo dire che bautarsi in acqua è quasi un modo per salvarsi ecco perché il proiettile non ti potrebbe raggiungere in teoria a parte della fisica ti risponde quanto vuoi resistere sott'acqua infatti al massimo si mette sotto il ponte per salvarsi per non farsi prendere esatto non era andare sotto il ponte poi mi avrebbero ripresa ma ragazzi non c'erano era il molo come non c'era c'era un molo vai sotto il molo poi se fate il giro eravamo da due ore a fare rp continuava cioè dov'è il problema ma infatti io non vedo dove è il problema io non ho visto l'azione se non era puntata voleva tranquillamente scappare l'azione a mio parere io dipendentemente da cosa volesse o non volesse allora aspetta Cortez quando parlavo di Permanet prima del fatto dell'acqua perché Permanet perché nelle vecchie versioni c'era il bug credo ancora oggi che se entri in acqua con le manette muori automaticamente però io vorrei soffermarmi su un altro punto se lei è senza manette non ho fatto benissimo visto che siamo sull'argomento dell'azione di io vorrei soltanto dare un piccolo contributo oggi non lo sopporto Daniele ti puoi mutare per favore aggiungilo che se no non capiscono vorrei semplicemente dire che i sicari con l'armeria mantengono i patti e sono lealissimi con gli altri invece li prendono e li vendono agli altri gruppi comunque ripeto ognuno fa il suo errore però rendetevi conto rendetevi conto che quella con l'armeria è un'alleanza e se continuate così dovremo intervenire da admin perché viola il regolamento io lo ripeto e finora non siamo intervenuti perché vi abbiamo lasciato fare ma io continuo a ripetere che quella è un'alleanza tra gang quindi vietata da regolamento ma infatti nella mia storia io ogni volta che si parla dei sicari il primo punto è andiamo a prendere armaioli sempre nella mia storia ora stasera noi abbiamo un'arma faccio un esempio noi abbiamo uno legato dei sicari se l'azione va bene senza fail speriamo e riusciamo a prendere i sicari il prossimo punto è far incontrare i sicari all'emmeria a proposito di questo fatto Luke il fatto dell'azione eccetera vorrei capire fino a che punto è concesso il free roaming che vuol dire cioè in poche parole ieri voi avevi avuto uno dei sicari nessuno aveva visto nessuno aveva visto uscire dall'ospedale e fin qua ci siamo ok io da regolamento attuale mi posso mettere nella macchina e cercare in tutta la mappa io voglio capire però sei la stessa la persona dello stesso gruppo che quando questa cosa abbiamo fatto a noi con gli elicotteri in tutta la mappa per sei ore vi siete lamentati esatto ma anche io ieri quando è venuto corte ho detto ragazzi si può mettere una lega del free roaming cioè in quel caso noi per sei ore con gli elicotteri voi a trovare il ragazzo ci avete messo quattro minuti e con un bug sì ma appunto infatti questo ho detto chiamiamola perché non dovevi neanche stare qua e quindi l'abbiamo data perché il ragazzo non so se in chiamata ganko è uno stronzo scusa il termine in rp parlando perché se io ti lego contro il muro perché so che c'è il bug che se ti sposti si apre il garage se io ti ho legato contro il muro perché i tuoi amici ti hanno trovato all'entrata con la garage aperto ho visto la clip comunque c'è in quel caso se c'era io infatti sono pro a mettere questa cosa se io non vedo nessuna macchina che passa non vedo una macchina nera in quel caso io perché dovrei cercare un mio uomo per tutta la mappa in quel caso basta aspettiamo una chiamata eventuale di Luke che Luke dice ragazzi ho il vostro amico qua lo volete venite a questo incontro ma anche perché avete cercato il vostro amico vi siete spostati dall'ospedale dieci minuti dopo noi in dieci minuti potevamo essere anche a paleto perché perché Cesar dice cercate in tutti i garage no l'idea era cercare ma noi infatti quella sera quando l'abbiamo scoperto non pensavamo a voler là l'idea era cercare tutto attorno poi io prendevo l'elicotteri io e Sandro prendevamo due elicotteri e uno dava fail o non fail quando noi vi cercavamo ti ricordo i Cortez noi cercavamo una villa slash casa però ci disse che camminava sul prato quindi cercavamo una villa avevamo un indizio girare tutte le ville con l'elicottero e macchine e questo l'ha detto il vecchio per quale motivo Bon Cesar dice cercate in tutti i garage non ho specificato e al secondo garage l'avete beccato perché sai passate con la macchina fai retromarcia e c'era il tuo amico davanti l'entrata alle garage con la clare era aperta sì ma infatti è stato bruttissimo infatti abbiamo venuto l'adimo abbiamo detto ragazzi non è giusto che sta qua da parte di chi ha fatto l'azione ma che è a Lucco che è un picco pallino a caso non è giusto perché non avessi fatto la scena di legarlo avessi detto ti ho legato da un'altra parte ho fatto 5 minuti di azione chi ha visto la mia azione di ieri in live ragazzi io 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 ho fatto finta io ho fatto finta legatissimo ho se lui ha detto mazza che corda ti lega i piedi poi sei spostato ho detto non c'è bisogno di no perché io ho visto che c'era il bug il garage è piccolo Se facevi un passo in avanti Si apriva la Claire Quindi ho fatto quella scena Come per dirgli no? Non ti muovere di qua Si apre la Claire Lui si è fatto trovare davanti la Claire aperta E da stronzi Non ci prendiamo per il culo Voi magicamente Perché voglio immaginare magicamente Siete passati da là L'avete visto come un babbo davanti la Claire aperta In mezzo alla strada Così è andata Poi parlando con voi Sono uscite mille varianti Uno ha detto che avete fatto un incidente là davanti L'altro ha detto che vi siete cappottati Un altro ha detto che l'ho visto a caso Un altro ha detto che ce l'ha detto Cesar Intanto l'attenzione era una Perché si vede dalla live Comunque Il fatto di prenderla a caso È che io mi sono cappottato con la macchina Cioè la macchina fu ribaltata avanti alla cosa della sua cosa Me ne sono andato Ho visto il coso E inizialmente ho detto Ragazzi ma che facciamo Cioè non è brutto scoprirlo così E quindi poi l'abbiamo preso Perché normalmente si doveva fare la scena Poi abbiamo agliato l'admino sopra lì Ma appunto io sono favorevole A 100% a mettere una regola del free room Cioè se tu non c'è un picco palino Dove iniziare a cercare Non è che ti fai tutta la mappa Perché lo sappiamo bene Per esempio Ieri c'è stata un'azione Oltretutto per culo Cortez Tu questa non la sai Cortez Ieri tu eri con non so chi Perché me l'hanno scritto anche in privato E tu hai detto A non so chi Andiamo a lasciare la roba ai container Che siamo pieni Sempre in quell'azione Ti ricordi che Mi avete lasciato da solo nel garage E siete andati ai container Sai chi ha detto Cesar in quella live C'è la clip Andiamo a fare un giro ai container Mi stavano beccando lì Poi non so per quale motivo Non sono più andati La vogliamo dire anche sta cosa Mi ha detto anche ieri in live Cortez Collegandola Che andare a rapire gente Sul blip dei container È veramente anti tutto Eh fai conto Noi ci hanno rapito due volte là Perché purtroppo ragazzi Cioè si deve comunque Fare rp Che il container Si va Se manteniamo La regola La regola Non si può rapire Sul blip dei polli Non si può rapire Sul blip della miniera Non si può rapire Sul blip del container Perché è zona rossa A me due volte Mentre stavo usando la roba Perché io faccio Sono un inventario Alza le mani da dietro Meno ma c'è Ho buttato le pistole dentro Una pistola me sotto nuda E hai detto vabbè No 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 Io Questa cosa La ripeto Infatti Quando abbiamo trovato Le macchine dei blu Davanti ai container Io l'ho detto Qui non si può ragazzi Cioè non si può Perché se io dico Davanti a ganco Ma sono di corte Se dicono che sono andati eh Se io dico davanti a ganco Eh ma anche l'informazione Del container no Che io ho dato Lui non può sapere Dove cazzo è quel container Potrebbe essere ovunque È un limite di gioco Esatto Che i container Tutti nello stesso posto Il nostro container Potrebbe essere anche sotto il mare Per quello che ne sanno Oppure sulla barca Ma In solito un porto è gigantesco Come la stessa cosa Non ho mai capito Come mai Ogni volta Un'altra cosa Cortez Ma se io ti rapisco uno dei tuoi All'ospedale Perché tu all'improvviso dici Andiamo a fare un giro ai container E poi subito dopo Cerchiamo in tutti i garaggi No Siamo andati ai container Perché Cesar aveva quattro pistole addosso Di una nazione precedente E dove andarle a posare Che mi succederà un po' E infatti Siamo andati Poi siamo ritornati in ospedale E ho detto Sì e mo che cazzo Ci andiamo a fare Dopo venti minuti Da Questi sono già andati Va bene Io saluto tutti Che vado a cena Vi auguro una buona sera E un buon proseguimento Ah Signor Devo chiedere scusa Per ieri sera A chi è che parla Ieri sera mi avete trovato Una salita Con un super 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 monster Ah ma eri tu Eh già Purtroppo Devo chiedere scusa Se sono partito a razzo Per quanto riguarda L'ammonimento Per me è accettato Ci mancherebbe altro No non è foto di partire a razzo 74 pistole puntate Sali in macchina Tranquilla Con nonce a lanza Si è salito in macchina E se è andato Eh ma no No io ero già sulla macchina Quando ero fermo lì E ero già sopra la vettura Ho visto le auto a fianco E sono partita a razzo Poi mi sono stampato sul caldrello E sono volato Eh lì sto dicendo Stiamo venuti Ah no lì Ma io volevo No ma io volevo scendere Infatti nella sua live C'è un tratto L'ho guardato anche stamattina Purtroppo avevo il volume basso della voce Quando mi avete puntato Io ho detto No 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 Purtroppo io mi incazzo Tutti i giorni In tutte le live Con voi Però purtroppo Sono consapevole Che non è colpa vostra Ma è colpa nostra No 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 Colpa anche la scuola Una cosa importante Io ho sbagliato Una cosa importante Un attimo Mi sto incazzando anche con gli scripter Che continuo a sollecitare E non mi sistemano Quando entrate nel server Entrate con un pallino Cliccate sta cazzo di L Perché non vi sente nessuno Io volevo chiedere un'altra cosa Scusate se ti interrompo Casano con quale veicolo? Monster truck Ma scusa il monster truck è un veicolo blindato Che è stato venduto grazie a un attimo Che cosa ti è stato detto? Aspetta Io non ero né in città Né in giro ad altri posti Ero una collina Mi stavo facendo i miei Aspetta Che cosa ti è stato detto? Di usarlo in montagna Non farei No ti è stato detto Che se vieni puntato Ti viene fatta qualsiasi Tu scendi dal veicolo Aspetta A me quello non mi è stato detto Mi è stato detto Di usarlo fuori in città In alto Quello è stato detto All'altro ragazzo Che l'ha comprato qui dopo Io per questo non li stavo facendo vendere Perché quelli sono veicoli blindati Aspetta A me è stato solo detto Di non usarlo in città E di non usarlo per fare azioni No una cosa Vuole dire Quel veicolo la monta Le blindature dell'apocalisse Che se anche se qualcuno Ti spara addosso Ci vogliono dieci colpi Della pistola normale Le ruote non si brillano Ed è difficile colpirti È stato provato con Brambini Il veicolo Il veicolo E io ho fatto una In effetti Ieri due anni Per ucciderti Il veicolo Allora Il veicolo Di cadrozzeria Se viene colpito Anche solo da un coltello Si smonta il motore E si spegne la macchina Però si spara le ruote Non si esplodono neanche Nei sentimenti a piangere in cinese Quello sicuro Infatti Vabbè Questo Non mi interessa un cazzo Intanto Intanto Grazie a te Abbiamo beccato quelli nella villa Vero Max? E con quello Che è Bazzardi Io vorrei sapere Ma Dite Se ci sono degli helper Degli admin Che erano in gioco ieri In quell'occasione Lì c'era quella macchina blu Che è salita Per la salita Della diga Che poi si è buttata giù Per un dirupo Chi erano quelli Quello lì Lo conosco io Se posso intervenire Quello è un fail Quello è un fail clamoroso Quella persona lì Dovrebbe essere morta E sepolta Infatti Infatti Gli è stato dato L'ammonimento Anche a lui Ieri sera Gli è arrivato L'ammonimento Tramite il boss code Ah ma l'ha sempre con te E non con me Eravamo insieme Poi è andato a compagnare Una persona in città Un suo amico Ed è tornato indietro Per tornare a fare Il nostro fuoristrada Che facevamo Mentre io ovviamente Successo Quello che è successo Con voi Siete civili Ci presumo no? Sì Non siete gang Ok Voi vedete Gente mascherata Gente con le armi Addirittura Quattro persone Legate a un albero E non avete pensato Di chiamare la polizia Io sono passato Di lì Non l'ho visto Nessuna legata Ma non so E sono dicendo Con la macchina Gli è passato davanti A quelli legati Io non me ne sono Neanche accorgi C'erano quando Sono andato in giù Dicendo il tuo amico Ah mio amico Ah mio amico Ok Non lo so Se lui li ha visti Ma come lo li ha visti C'è passato davanti Porca troia Non lo so Bisogna Guarda Ci stavo in macchina Io col suo amico E tessuto Il 100% Non l'abbiamo visti Perché poi Non li avete visti Poi vi siete buttati Giù da un dirupo Praticamente Sì Sì Vi siete buttati Giù dal dirupo Perfetto Ottimo Vabbè ragazzi Dato che c'è stato Il periodo di scuse Con i veicoli Come si chiama l'amico Scusate Aspetta in gioco Vasil Comunque Forget Lo sai chi è questo È quello che Non ci ha dato l'auto Scusate Questo è lo stesso Che non ci ha dato l'auto Gli abbiamo sparato Al distributore Il genio Che piuttosto Che darci un'auto Ci ha detto Preferisco un proiettile In testa E infatti È stato cazzato Da voi Ma è stato cazzato Anche dalla parte nostra Perché è un cazzone Io dopo quell'azione Ti giuro Ti giuro Ho tiltato Ho provato al F4 Quando sarei sparato All'ospedale Ho più sul gioco Perché alla fine L'auto è un'auto Oggi la perdi Domani la ritrovi Quindi Non dovrebbe interessarti Il problema dell'auto Però lui l'ha fatto Infatti Si è preso una serie Di cazziate Un po' da tutti noi Dal suo gruppo di amici Comunque Luke Scusa per essere atterrato In armeria con l'elicottero Quello è un altro fake Lamoroso Il bello è che Ve l'abbiamo anche spiegato Nel ticket Dove ci avete chiesto Sta cosa Ma mi sa che Non l'avete capito No ma non ricapita più Non ti preoccupare No perché noi volevamo Atterrare E l'altro si doveva andare Invece l'altro ha trinciato Due persone Però Ma quello non è Uno spiazzo largo Cioè noi abbiamo parlato Di H In città O spiazzi ampi Fuori città Dove non ci sono le H E voi che fate Perché Atterrate lì Che non è uno spazio ampio Lì c'è Ma infatti Quella sera Ho sbagliato Il regolamento Infatti Mi aspettavo il burn Come giusto che sia Però Ragazzi una domanda Ma tipo sopra Il burger Che è abbastanza ampio Io posso parcheggiare Di sopra Con l'ericottero In città No ragazzi In città In città Solamente se c'è l'acqua Ma come l'altro giorno Chi cazzo era L'eroe Che ha parcheggiato L'ericottero in armeria Eh noi Deve che dì Noi Ma porca troia Eh Quell'atterraggio Mi è costato Un documento preso Vabbè Oppure Ieri medici Che parcheggiano Sul muro Di un palazzo Ed esplodono Vabbè Eh no Lì attenzione E lì attenzione Lì c'è C'è una C'è una specie di bug Che non so Perché ogni tanto Ci eietta fuori Come i sedili Dietabili Dell'injett Per riguardo All'ericottero Ovviamente Come potete immaginare Noi non possiamo avere Un air traffic control In gioco Come esiste Nelle città Ma gli spazi aerei Delle città Normalmente Anche se avete Un veicolo personale E Il brevetto di volo Non vi Non è Non esiste al mondo Che vi fanno sorvolare Un centro abitato Quindi Le H Nei centri abitati Fuori Fuori Nelle campagne Potete atterrare Ma non esiste proprio Che parcheggiate Nel parcheggio Dell'armeria Sul tetto del burger O su Dove ci sono Le H In città Cioè sui tetti Dei grattacieli Sì Lì sì Comunque ragazzi Abbiamo iniziato a pranzo E siamo arrivati quasi a cena Eh già Ci andiamo insieme Va bene così No grazie Ci mangiamo La carnuzza Sono volate le ore Va Sì ma rugì Ma quando lo fa Non ferma Detta Noi quando vuoi fare Bastardi Il piano non muore Eh Cinta Peta Peta Tra poco Casse di aratelle Lasciate sta ruggerina Vaffanculo Che io Più mi faccio i cazzi miei Più mi mettere mezza Merda Appunto Spiegaci un attimo Com'è il fatto che i documenti Si risulti femmina Cioè un attimo Per me Per me ci starebbe Un ruggero burger L'hamburger infame Ruggero ti aspettiamo In ospedale Cosa che io Il burger Lo volevo comprare Solo che me l'ha anticipato Vaffanculo In armeria In armeria Che c'era una più pistola Ma io parlavo Di un burger Fatto di ruggero Ma scusa Ma Giusto che c'hai Tanti cazzi E non potevi approfittare Della cosa che Eri diventata donna Per farvi la vita paleto Così Non c'è più Fini soci Fini soci Ce li sociamo tutti E' una media Trova importanti Vado Quattro ore di riunione Se ci sei Per me e Max Ti diciamo quella cosa Poi siete pazzi Con la maschera? Due secondi Ci vogliono No Io come adesso Vai in live? Sì Tra un po' vado Buon game a tutti Ragazzi divertitevi Mi raccomando Ciao 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 Io ti aspetto in armeria Io ti aspetto in armeria Allora Cosa stai dicendo? Torniamo di qua Riportiamo su anche Babbo Natale dei poveri Cazzo stai dicendo? Ah ecco ti stavo portando su Babbo Natale Che ho detto che Perché c'era un medico Che si è infilato il microfono in gola Per dire Venite dai medici Roba del genere E ho detto Odio La gente che si infila il microfono nella gola Per farsi sentire Guarda sinceramente Addirittura Sì no era mangio A fare un altro Sì no era mangio Sì no era mangio Dì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.